capitolo primo di galatea questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di pubblico dominio per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrato da riccardo fasol galatea di anton giulio barrili capitolo primo rinaldo a filippo corsenna 7 luglio 1800 notizie mie eccole son venuto qua come sai per dar pace a questi poveri nervi e ci lavoro alacremente chiudendomi nell'inerzia più fitta bada io non so quanto sia vero che ai giorni nostri i nervi si sciupino più di prima nella gran varietà e nella troppa intensità delle sensazioni ma è certo che oggi come prima lo strapazzo nuoce ad ogni organismo è certissimo poi che il tuo vecchio amico aveva bisogno di questo riposo tanto gli pare d'essere tuttavia sfiaccolato pure non faccio nulla assolutamente nulla questa lettera che viene un po' tardi in risposta al tuo cortese biglietto è la prima fatica dopo un mese di quiete già non potrei far nulla anche volendo non sento più e se come dice il filosofo niente può essere nell'intelletto che non sia stato prima nel senso io posso stimarmi finito e metter magari la pigionasi in fronte come sulla facciata di una casa vuota che bella cosa dopo tutto non sentir nulla esser libero e netto d'ogni cura del mondo circostante udendo senza commuoversi vedendo senza partecipare vivendo la vita dello specchio che riflette tranquillamente ogni cosa e sorride ma se un po' di ironia nel fondo ce la dovrebbe avere anche lui per virtù non fosse altro degli ingredienti che lo rendono opaco quel po' di ironia non è finalmente la meno feroce delle nostre vendette e il genere umano salva sempre la immagine del suo creatore non meriterebbe di peggio ama il prossimo tuo come te stesso è alla fin fine il comando del principale ed egli sa bene che io non amo me stesso frattanto come è vero che quello è il mio prossimo io l'ho sempre sentito dal premere che mi faceva d'attorno pari ai gomiti di quattro o cinque vicini nella calca dove ci ha ficcato il nostro malgenio in un quarto d'ora di sciocca curiosità e il mondo è una calca una moltitudine una ressa di forze invisibili che d'ogni parte lavorano su te per prenderti il posto che occupi per non lasciarti occupare il posto che desideri fosse pure un posto d'uscere si tira a tutto e con la stessa arte da tutti qualunque sia il grado o l'educazione è sempre guerra sorda di agguati di insidie, di tradimenti ognuno l'ha con te più sei forte o più ti credono tale più si affannano a soverchiarti a tirarti giù a darti il gambetto gli interessi che non hai offesi fischiano da tutti i pruneti si avventano da tutte le macchie nessun briccone è più appostato di te dagli onnestuomini in caccia se tu provassi a morire oh allora l'ho dato il cielo una buona rifiatata di mille petti che si diffonderebbe dalla tua città come un soffio di primavera a tutti i punti del bello italo regno vivo non avevi scritto altro che birbonate morto te erano tutte maraviglie ti gabellavano per un asino eccoti diventato un cigno l'ultima tua ode era degna di Pindaro prova a morire e vedrai ti faranno un funerale di prima classe e tutta una cittadinanza dipinta di cordoglio farà spagliera il corteo mentre tu felice grand'uomo traballerai nel tuo carro sotto una montagna di corone che più non ebbe scudi addosso la vergine tarpeia in premio del campidoglio aperto ai sabini quanto a me senti ho già fatto testamento e scritto in chiarissima forma non voglio discorsi né marce funebri né bugie né stuonature voglio andare al mio ripostiglio di nottetempo con due amici se tanti me ne saranno rimasti i quali si prenderanno cura di vigilare che le mie ossa vadano proprio al luogo assegnato e un altro morto non mi rubi la fossa con questo prossimo benedetto non si sa mai quel che possa succedere idee nere dirai ma io se rammenti le ho sempre avute a certe cose bisogna pensarci in tempo per non essere poi colti alla sprovveduta quella gran diavola della falcia è così capricciosa già donna anche lei ed io non voglio essere più corbellato errori ne ho commessi molti fin troppi cercando l'introvabile povere donne del resto ossequiate lusingate insidiate ti amano per vanità molte se sei ricco sentono il bisogno di entrare nella tua casa nessuna il desiderio di penetrare nell'anima tua ed è strano contrasto perché noi uomini chi più chi meno avremmo tutti la curiosità di penetrare nell'anima loro anche a costo di non trovarci niente così l'amore rinunziando al piacere dell'indagine psicologica si riduce necessariamente ad uno scherzo ad un grazioso errore commesso qualche volta per ardore di temperamento più spesso per follia di imitazione ah il mondo non è più dei sensitivi si fanno tante cose per consuetudine per vezzo per moda non ritrovandoci più il senso arcano dei loro principi esempio l'andare in campagna un piacere estivo che si compra senza gustarlo senza intenderlo trasformandolo secondo l'uso della città dov'è strada piana gli uomini portano la bicicletta dov'è lago il sandolino dappertutto il long tennis in fin dei conti meglio così la campagna è tutta per me sono miei i folti castagni del bosco miei gli olmi e i salici i frassini e gli ontani del fiume mia la borraccina delle balze dove si levano gli argenti e i pennacchi dei cardi rilucenti ad una spera di sole questa campagna è bella quantunque senza carattere salvator rosa ci perderebbe l'ispirazione tormentata e robusta claudio lorenese la sua placida e larga vena poetica non ci sono dirupi minacciosi non classiche aperture d'orizzonti lontani così niente fa pensare tutto fa vegetare ottima cosa per me che non ho più fantasia dove è andata a finire? sicuramente l'ho fatta correr troppo l'uomo ha le sue quaranta libre di sangue e le sue quattronce d'ideale se egli sa farne un uso discreto bene se no addio roba io non iscrivo più una riga il mio don giovanni dorme buon poema che voleva esprimer la vita veduta collegandola con l'invisibile sentito non lo intendo più ne rigiro per ogni verso la tela non ci trovo il vivagno vedo il contorno e mi sfugge la linea l'idea madre che mi pareva già tanto chiara originale profonda sono una rovina è brutta che per le rovine è il peggio c'è qui sulla fine di un campo lungo la strada maestra una casupola ad uscio e tetto ma con l'uscio sfondato e il tetto crollato corse un giorno la voce che là dentro si fosse veduta la madonna e non mancava la ragazzina innocente per dar fede al miracolo ma che vuoi il miracolo non ha potuto attecchire come attecchivano le ortiche in quel cumulo di macerie così poco romantiche poesia voleva essere e qui non c'è poesia tanto meglio per me questa vita vegetativa mi conviene benissimo leggo poco a malapena giornali e nei giornali solamente i telegrammi per tenermi in comunione di noi e con l'Europa gli eventi politici sono grigi come il mio spirito e mi fanno dormire ma che follia nel dormire sogno ancora qualche volta vedendo la bella inglesina tener a menti dell'inglesina dei miei sogni d'adolescente che soleva ritornare a punti di luna nei miei sogni di giovinetto c'era obbligata in chiave la strada polverosa bianca abbagliante sotto la sferza del sol di giugno la grossa berlina a tre cavalli coi bauli dietro il postiglione alto a cassetta lei l'inglesina accanto al suo babbo vecchio muso di carta pecora miniato liberalmente di rosso tra due fedinoni grigi ma sempre a mezzo nascosto nell'ombra dall'altra parte della carrozza per comodo della mia prospettiva amorosa mentre lei dolce creatura bionda si vedeva tutta quanta lo sportello intesa ricambiare d'uno sguardo pietoso il mio gesto e il mio grido di supplicante cara inglesina del sogno ricorrente tu raffiguravi il divino ideale che passa sempre a galoppo che se ne va inesorabilmente dileguandosi nel polverio della strada battuta che ideale poi se col permesso del babbo l'inglesina ci pigliasse in parola e in carrozza poveri noi how do you do? very well sir we have never been better how do you like Italy? very much indeed do you like sandwiches sir? I like them very much and roast beef? it is delicious but I should prefer a veal cutlet che orrori fine del capitolo primo capitolo secondo di Galatea questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol Galatea di Anton Giulio Barrili capitolo secondo sequitur lamentazio corsenna 12 luglio 1800 hai un bel canzonarmi osservando che io porto i miei sopraccapi anche in villa e paragonandomi questa poi a nuovissima al triste cavaliere di Orazio che si trascinava in croppa la più fastidiosa tra le dame ma io non posso farmi diverso da quello che sono faccio già molto a scriverti e tu dovresti essermi grato ad un sacrificio che nessun altro ottiene da me dal resto canzonami pure mentre io per non disimparare del tutto la vecchia arte di Cadmo bene o male continuo a scrivere facendo per te una specie di giornale il giornale di Corsena niente di meno questo villaggio non ha mai sognato nella più felice delle sue notti un onor così grande il giornale rimarrà inedito purtroppo ma i corsennati avranno pazienza l'avranno tanto più volentieri in quanto che se il giornale fosse stampato essi non prenderebbero certamente la briga di leggerlo sono un popolo saggio i corsennati di ceppo italico antico e sincero incominciamo ad ogni modo articolo di fondo ho trovato una bella passeggiata veramente degna di noi seguimi facendoti coraggio tuttavia perché bisogna passare sopra un pancone anzi su due accostati pe i lor capi attocca e non tocca sull'asse d'una piedica che vorrebbe apparere una pila di ponte la vedo brutta quella povera pila ai primi rovesci d'autunno e vedo brutti ugualmente i due pancone sconnessi con quel tronco di pino che fa da ringhiera mal rimondato e peggio assicurato su quattro pari malissimo inchiodati per uso dei passeggeri che soffrono di vertigini già i più non ci si fidano e passan di sotto per tua norma il fiume è magro anziché no tanto magro che fa pena a vederlo disteso in quel suo grandissimo letto pozze e pozzanghere non gliene mancano ma già tirano al verde ci ha da una sponda o dall'altra qualche fosserello addormentato sotto la frasca sporgente dei frassini e qualche tonfano rannicchiato al riparo d'un gran masso rugoso mentre un fil d'acqua viva corre brillando e sussurrando tra i ciottoli per collegare e nutrire tutti quei nianza e tanganica dei quali il più grosso non è largo due metri di là dal greto che si vede qua e là screziato e rallegrato da larghi cesti di romice da candelabri fogliosi di tasso barbasso di labbra d'asino di denti di leone d'orecchi di topo e di scarpette di venere si stende una fila nereggiante di ontani un po' radi gli ontani e non alti perché i proprietari di qui non lasciano invecchiare le piante da taglio smaniosi di far quattrini che il diavolo si riporti dietro la scarsa fila degli ontani corre un sentiero a campestre costeggiando la riva di là dal sentiero davanti a me e dal mio ponte di legno si dilunga verso la montagna una doppia fila di pioppi spettacolosi per l'altezza delle vette ed anche per la grossezza dei tronchi assialodato il cielo si capisce qui che il padrone di quei pioppi è un signore per davvero o che almeno non ha l'acqua alla gola e in ogni caso è un poeta che ama le belle cose e vuol dare la sua parte anche agli occhi che sarà mai questa piantata di pioppi sono un centinaio per parte e il largo viale che si stende nel mezzo dovrebbe condurre ad un castello ad un palazzo ad un nobile edifizio insomma cerca cerca l'edifizio non c'è neanche le rovine meglio così le rovine non avrebbero carattere un edifizio in piedi abitato e custodito mi costringerebbe a girar largo per non dar noia o non riceverne dai suoi possessori quel gran viale bontà sua ti conduce ad una vasta prateria ad una conca ad un anfiteatro di verdura più nobile di qualsivoglia edifizio che bellezza e che pace compimento di bellezza il dolce piano leggermente incavato è tutto un tappeto di verde tenero che si ravviva di toni gialli al sorriso del sole screziato capriccio dalle candide rappe delle piantaggini tremolanti alla brezza sui loro elegantissimi steli o dai rossi calici spampanati dei rosolacci in ritardo rotto a larghi intervalli o infoscato sui lembi da cesti di sermollino da ciuffi di regamo da cespugli di mentastro in capo alla prateria che sale via via come il labbro di una coppa di malachite sorge e si spande una siepe di carpinelle oltre la quale si leva la costa del poggio tutta densa di castagni fino al suo colmo donde sbuca un campanile a guzzo e trapela il tetto della chiesuola di santa giustina non conosco la santa e non ho ancora veduto il santuario è la prima volta che mi decido a passare il fiume e che quel campanile mi invita dicono che il fulmine l'abbia già visitato due volte certo il fulmine è più volenteroso alpinista di me ed anche più allegro lo ha notato il poeta nella indimenticabile strofa il gentile terremoto con l'amabile suo moto diroccava la città ed il fulmine giulivo che non lascia uomo vivo saltellava qua e là facciamoci avanti tra la siepe delle carpinelle e le falde del monte serrata ai fianchi dal margine naturale del terreno e da quello di un rialto artificiale tutto vestito di zolle verdeggianti corre un'acqua profonda limpida e cristallina ah capisco finalmente perché il fiume abbia sete gli han fatto una pescaia molto più in su e l'acqua se ne viene da un lato per il suo canaletto mormorando il suo saluto alle felci e ai capel veneri cheta cheta immollando il terreno senza corroderlo quante erbe ci vivono in quella grazia di dio succhiandola con mille e mille radici quanti fiori ci pendon sopra come se volessero covarla con gli occhi innamorati fiorellini fiorellini oserò dirio i vostri nomi nella barbara lingua adotta che voi non sapete nella lingua del paese non li so io e non ho tempo da perdere volendo piuttosto ammirarvi il vostro nome è bellezza e questo in tutte le lingue del mondo uno di essi è bianco di latte la sua corolla piccina fatta di quattro petali spanti pesa ancora molto sulla lunga sticciola filiforme deve essere zuccherino il suo calice perché troppo volentieri gli insetti vanno ad immergere il muso là dentro un altro è il gambo più grosso almeno quanto un cordoncino di tre fili di refe e porta in capo un tubetto rigonfio alla base più stretto al collo d'onde salgono arrovesciandosi quattro eleganti lacinie per mezzo alle quali guardando si intravede nel fondo un giro di grumoletti d'oro sospesi su tenui stami d'argento come perle o gemme sulle punte d'una corona a chi è destinato il tesoro qual genio minuscolo della figliuolanza di oberone e titania cingerà il grazioso diadema custodito in quell'urna di zaffiro non indaghiamo non facciamo almanacchi vegetiamo sia la parola d'ordine per me come a pertinace il suo militemus come il suo laboremus settimio severo qui freno al corso come dice davide nella prima scena del saul qui siedo e me ne sto un paio d'ore al rezzo contemplando i moscerini che volano nell'aria cupa non trattenendo i pensieri che passano liberamente per l'anima senza lasciarci una traccia non so come sia che un miliardo e mezzo di creature tra ragionanti e sragionanti sparse sulla faccia della terra non l'abbiano ancora sentito capisco che per molti è questione di vivere e i bisogni urgenti non danno agio a pensare capisco ancora che la felicità suprema dell'estasi inerte richiede un alto grado di perfezione intellettuale ma tutti quelli che l'hanno raggiunto quel grado perché si vengono moltiplicando senza ragione i bisogni perché vanno attorno cercando i malanni col lumicino perché ficcano la mano nel vaso di pandora rovistando nel fondo se per caso ci fosse rimasto ancora un fastidio a buon conto io non mi prenderò quello di salire a santa giustina si sta qui tanto bene mezzo appoggiati e mezzo seduti sulla spalla dell'argine passano a coppie le farfalle pieri di evanesse dorate rincorrendosi tra le piante apparendo e disparendo senza posa contente di agitarsi e di vivere vengono folgorando nell'aria quasi radendo il pelo dell'acqua le damigelle e i cavalocchi dalle diafane ali iridate dai corpicini sottili tutti a colori metallici per andare a librarsi un tratto sulle rappe fiorite d'onde guizzano e scintillano senza posa come pennini di gioie tremolanti sul capo di una bella donna a teatro e dove lascio gli uccellini ce ne sono di tutte le specie che attendono ai fatti loro senza curarsi di me cince petti rossi cardellini scriccioli pigolanti strillanti zirlanti nella macchia che è un piacere a sentirli le stonature non mancano laggiù dagli olmi del gran viale si sente un gracchio che non mi va niente a sangue è il rosignuolo mi dice un contadino che passa e che mi ha dato il buongiorno il rosignuolo quello esclamo io avrei detto un corvo piuttosto una gazza suo apparente no signore gli è proprio il rosignuolo da mezzo giugno in poi canta così è nel nido in famiglia non è vero eh sì come vuole vossignoria la casa del rosignuolo è il suo nido e la rosignuola è sua moglie ho capito e ne sono tutto confuso dunque la storia è questa appaiato e contento il rosignuolo non canta più così bene come quando faceva all'amore anzi non canta più affatto da fuori un grido rauco d'animale accidioso e brontolone affiglio dunque rosignuolo anche tu dopo le dolci pene del desiderio la fiaccona del possesso e addio le ventiquattro aree diverse non tenendo conto delle variazioni dei passaggi delle rifiorite che nel tuo canto ha notate con diligenza tedesca il Dechstein ma sono uomini dunque i rosignuoli uomini anch'essi ah e triste cosa fine del capitolo secondo capitolo terzo di Galatea questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol Galatea di Anton Giulio Barrili capitolo terzo all'acqua ascosa Corsenna 15 luglio 1800 ci sono molti villeggianti a Corsenna gli chiama la bontà dell'aria a 460 metri soltanto sul livello del mare gli chiama il fresco di queste convalli e finalmente lo spirito d'imitazione che l'uomo ha comune con tanti altri animali uno ha provato e si è ritrovato bene lo ha detto e lo hanno seguito due altri quei due a loro volta ma no non voglio rifarti l'enumerazione degli atti mi basta di dirti che quest'anno tutti i villini dei dintorni sono occupati ed anche molti quartierini in paese dove peraltro bisogna adattarsi ma si è in campagna e non si guarda nel sottile tanto più che la gente venuta per goder l'aria sta in casa il meno che può la vita villereccia e Gaia fanno scarrozzate ai paesi vicini non disdegnano la vecchia invenzione degli omnibus rinfrescata col nuovo nome di tramvai che permette di andare qua e là per pochi soldi in 12 o 14 persone fanno concerti la sera con gran giubilo e maraviglia di questi naturali ballano anche mi si dice dove col pianoforte dove con l'organino di barberia e dove con l'erofon un nuovo strumento macinature di musica necessario in verità perché di simili arnesi non ce n'era abbastanza te ne parlo per sentita dire non andando io in nessun luogo vedo le brigate passando cappellini e cappelloni gonne e casacche guarnelli e vestaglie roste sciarpe ombrellini tutto un rigoglio di colori sgargianti tutto un miscuglio di cose ma per lo più da lontano mi imbatto nella gente quando vado alla posta per ritirare i miei giornali le poche lettere che mi vengono da casa o dai pochissimi amici che vogliono ricordarsi di me conosco appena tre o quattro famiglie di questi ospiti estivi saluto baratto alcune frasi di convenienza e non mi accompagno mai l'orso di Corsenna mi chiamano è questa la notizia che mi ha dato un diavolo di ragazzino nella sua terribile ingenuità che ha fatto arrossire la sua mamma dalla radice del collo fino a quella dei capelli ebbene sia l'orso di Corsenna ed ogni luogo dove mi piaccia di andare non si viene egli al verde per goder la libertà soddisfatto l'obbligo della leva pagate le tasse quante sono vorranno essere in processo di tempo faccia ognuno quel che gli pare io poi vestito ordinariamente di tela con un cappellaccio di sparto che ha la falda rialzata sulla nuca e tirata giù sul naso con una mazza di nocciuolo tagliata da me e più lunga di quelle che usavano i babilonesi qui è utilissima per tenere distanti i buoi e per mettere in fuga le serpi non sono un figurino da far bella mostra in società lascio agli altri la strada maestra l'abitato ed intorni dell'abitato passo il ponte di legno e mi ritrovo sul mio peraltro non ci corro mi indugio di qua e di là per i campi aspettando a passare quando sono ben certo che nessuno mi veda se Dio guardi avessero a scoprire il mio regno mi potrei tappare in casa tanto la riva destra del fiume è invasa e corsa e ricorsa da questo gaio sciame di infanti di femmine e di viri alla riva sinistra almeno in questo tratto per circa due miglia non ci s'arrischia nessuno perché non mette a nessun luogo mentre alla chiesuola di santa giustina che è meta di scampagnate si va più comodamente da un'altra via per un ponte vero e sicuro gittato all'estremità del paese così dopo avere imitati nella mazza lunga i babilonesi o imitati nella sottile accortezza i fenici quando ebbero scoperta oltre le colonne d'Ercole la via delle isole esperidi faccio quanto posso per tenercelata la mia direzione e a buon conto non metto nessuno sull'orma così il gran viale dei pioppi è mio mio il grande tappeto verde mia l'acqua ascosa che dietro la fila delle carpinelle va cercando il mulino per ritrovarlo un mezzo chilometro più in giù ho preso Orazio in compagnia Orazio per far la corte a te che me lo hai citato nella edizione Civettuola del Marai per far piacere a me che amo tanto veder belli i libri buoni quel caro Orazio è il più vario di tutti i poeti del mondo ha tutte le corde della lira c'è Pindaro in lui ed Anacreonte Saffo Simonide Alceo e chissà quanti altri smarriti della greca antichità i quali ci si faranno ritrovare un giorno voglio sperarlo almeno nelle fasce di qualche mummia egiziana del periodo alessandrino come li ha tutti condensati il venosino esprimendoli tutti con quel sentimento della misura che è la vera dote del genio come li ha tutti rivissuti in se stesso non già intarsiator dirigente d'accorto ma fonditore balioso e geniale rendendoli come guizzi dell'anima sua da tanti spiragli di sincerità con tanti lumi di vero senza vantarmi credo d'essere un po' come lui non nell'arte intendiamoci ma nel modo di pensare ed intender la vita egli amò la campagna per le sue intime bellezze naturali dopo aver goduto la città nei suoi eleganti artifizi non odiava gli uomini conoscendoli e sapendone ridere aveva in pregio gli amici e amava qualche delicatezza nel vivere perché rinunzieremmo alle grazie può mai dimenticarle chi le ha conosciute e praticate una volta amo Orazio e mi godo qualche sua ode centellinando assaporando le strofe in mezzo a quei fregi ornati bozzetti di scene romane pompeiane onde il Marai ha accompagnato il testo come di cose che gli appartengono più volentieri mi fermo ai passi dove è fatta menzione dell'acqua quell'amico del vino sentì la poesia delle fonti la sentirono del resto tutti i romani l'acqua è diamante liquido abbraccia bene penetra e scioglie purifica e rallegra canta bene e non istuona mai salvo a maritarla col vino Orazio in una tasca della mia giacca e due panini nell'altra me ne vado ogni giorno al mio rifugio nel verde perché i panini dirai e per chi per i cani che ho sempre amati e più sento di amare dopo che gli uomini hanno lavorato più alacremente a renderli uggiosi vedendo dappertutto la rabbia se i cani diventano idrofobi non hanno poi tutti i torti li vogliamo amici ad ogni costo e neghiamo loro ogni onesta libertà non li lasciamo ben avere in nessun modo e li facciamo servire alle nostre esperienze fisiologiche i cani ne lo sanno e ne arrabbiano un giorno all'altro vedrai diventare idrofobi i conigli e i porcellini d'india questi anzi sotto il loro nome scientifico di cavie saranno i primi a mordere i polpacci dei dotti qui qui dove sono liberi ma dove pare che ricevano i viveri incontanti i cani mi vogliono tutti un gran bene e vengono volentieri con me cani da caccia e da pagliaio da guardia e da tartufi mi fanno le capriole mi saltano alla cintola mugolando scodinzolando fiutando girandomi attorno seguendomi precedendomi ringhiando per onor mio a tutti coloro che passano questa è stata la storia della prima settimana ma poi si è dovuto smettere via via non passando più dai casolari dove incontravo quei cari amici che a certe ore mi usavano la cortesia ad aspettarmi sugli usci i padroni non vedevano volentieri queste amicizie dei guardiani di casa col signor forestiero ed io che ho capita la solfa ho diradate le visite l'ultimo dai miei amici di qui è stato Bucci il cane più stravagante di Corsenna piccolo e tozzo di pelo rossigno con una macchia bianca dall'occhio destro al naso gli occhi rossi mozzate le orecchie e la coda non è davvero la done dei cani ma ride e ciò lo rende piacevole a vedere ride arricciando con atto strano il labbro superiore mostrandomi tutti i suoi denti corti serrati sani e bianchissimi si intende che ride con me e con altri pochi a cui vuol bene sa ringhiare per contro e ringhia volentieri a molti specie agli altri cani volendo battaglia con tutti Bucci che cosa sono queste scenate gli ho detto io qualche volta non è da cani addentare il proprio simile ricordatelo bene è da uomini voi siate buono affabile cortese morigerato e virtuoso virtuoso soprattutto mi capite la virtù per vostra norma ha sempre il suo premio qui nella mia tasca di destra questi discorsi fanno sempre un certo effetto su lui penso che quel cane sia capace di una vera educazione il nome della virtù soprattutto gli fa drizzare quei suoi mozziconi d'orecchi gli occhietti rossi ammiccano maliziosamente all'idea del premio serbato alla virtù sulla terra e ride di quel suo riso muto ma tanto espressivo arricciando le froge sulla chiostra dei denti povero Buccino ho dovuto rinunciare alla sua educazione compiuta il suo padrone un contadino del colle qui presso dice che glielo svio perciò da otto giorni non mi faccio più vedere da quella parte ma se non ci sono io a sviargli il suo cane c'è altri ah questi benedetti villeggianti che frucano dappertutto oggi per l'appunto era andato sulle nove del mattino a fare la mia solita passeggiata con la solita fermatina oraziana al mio rivolo oh fonte di bandusi e più lucente del vetro e letto un paio d'odi m'ero anche addormentato non per colpa d'orazio ma dell'argine erboso che faceva gradevole invito dormivo non di meno d'un sonno molto leggero perché uno stormir di frasche bastò a risvegliarmi chi vedo lui proprio lui buci che mi scova buci che mi salta addosso mi vuol baciare mi fiuta il premio della virtù nella tasca no non calunniamo quel povero buci è stato uno dei tanti suoi atti incomposti e a quello non si è fermato non ha insistito su quello per oggi sicuramente egli pensa con l'antico filosofo che la virtù sia premio a se stessa voi qui buci gli grido destandomi in soprassalto dormivo così bene ma egli non era solo e la mia frase fu rotta appena incominciata di mezzo alla frappa delle carpinelle appariva una bianca figura la signorina la signorina wilson vestita alla pamela o giù di lì con la sua gonna di mussolina bianca a fiorellini un gran fishù incrociato intorno alla vita di mussolina di tulle o di garza non so più bene certo della medesima stoffa del cappellino assai largo di giro chiuso serrato sotto il mento per modo di farle una candida aureola intorno alla faccia colorita ah ecco l'inglesina dirai tu giungendo a questo punto del mio letterone no niente inglesina il nome straniero è qui per trarti in inganno si chiamava wilson il babbo di lei ora morto ma nato in italia dove i suoi erano venuti a stabilirsi per ragione di commercio è italiana la mamma fiorentina per la pelle aggiungi che la signorina non è bionda anzi ha neri ma proprio neri d'inchiostro i capelli che non è vaporosa di forme né altrimenti pre-raffaellesca come pare si costumi laggiù di carnagione peraltro doveva essere bianca ma oramai dal gran vivere che fa sempre all'aperto è cotta bruciata dal sole mani e braccia sono ugualmente abbronzite non calzando mai guanti l'ombrellino lo porta solamente io credo per darsi alle mosche è a dirti tutto in due parole una mezza viragine e lei e sua madre ho conosciute due settimane fa con la Berti e con le altre signore tutte donne di sboccio peristrada si capisce in un momento che non potevo più cansarne l'incontro ed ho barattate quattro parole di complimento come susa in tutte le presentazioni non gridar dunque all'armi niente inglesina e la strada polverosa ha portato via tutti gli ideali a quest'età poi caro Filippo vorrei vederlo io l'ideale che avesse il coraggio di farsi avanti ed anche oggi si barattarono quattro parole mentre io da buon cavaliere forzato l'accompagnavo fino al principio del paese tanto il mio sonno era rotto è rotto l'incantesimo della mia pace nel verde quel che è peggio e non potrò mai consolarmene è violato il mio dolce segreto povera acqua ascosa come io volevo battezzarla ne verranno delle brigate ne verranno a far chiasso da queste parti specie per il gran viale dei pioppi che la signorina Wilson ha dichiarato un prodigio pazienza cercherò dell'altro e se non troverò dell'altro me ne andrò il diavolo si porti le fanciulle girandolone e i cani riconoscenti capitolo quarto di Galatea questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol Galatea di Anton Giulio Barrili capitolo quarto poscritto rimasto a casa 15 luglio 1800 strano incontro e bizzarra conversazione con questa signorina Wilson ben a ragione l'ho chiamata viragine si è fatta avanti arrossendo un poco anzi diciamo pur molto se molto ce ne voleva per trasparire dal bruno della carnagione e ridendo in pari tempo ridendo alto più gradevolmente di Bucci che al riso muto il signor Morelli dissella inoltrandosi capisco ora perché Bucci voleva venire quassù ad ogni costo ma che cosa faceva lei qui dormiva accanto all'acqua Narciso ci si sarebbe voluto specchiare segno risposì io che non sono un Narciso o piuttosto ribatté la signorina Wilson questa non è acqua da affogarci lo crede replicai provando a tenerci dentro la testa allora capisco bene anche un catino basterebbe che bell'acqua viva del resto soggiunse ella affacciandosi all'argine viene voglia di ficcarci le mani e fece come diceva affondando le mani una dopo l'altra e le braccia fino al gomito nell'onda cristallina che fece intorno ad esse un lucido braccialetto d'argento io frattanto raccattavo il mio povero Orazio che era scivolato sull'erba e correva il rischio di prendere una bagnatura tanto molesta quanto era piacevole alla signorina Wilson quella delle sue braccia indorate dal sole ecco il compagno di solitudine dissella ridendo ancora alla vista del libro che stavo allora per rimettermi in tasca un romanzo che veda piuttosto così dicendo le squadernai sotto gli occhi il volume avendo essa le mani impacciate e non amando io che quelle mani per quanto gentili battezzassero il mio poeta pagano nella vita e nell'arte e già anglicano nell'edizione semmai che cos'è latino capisco ora perché si fosse addormentato il lettore oh gridai non faccia questo torto ad Orazio né a Galatea il cui bel nome le è capitato sott'occhio mi ero addormentato qui perché avevo dormito poco stanotte ha ballato mi chiese ammiccando io le pare ah sì è vero non son cose per lei che è se lo lascia dire l'orso di Corsenna dica pure liberamente come lo sa l'innocenza ha parlato per bocca del figliuletto dei rossi e sarà lei mi immagino che ha inventato il soprannome mi crede dunque molto cattiva no ma poiché voleva dirmelo ripigliai gli autori recitano così volentieri le cose loro non sono stata io disse la signorina con accento più grave che voleva acquistar fede alla sua asserzione ma certamente mi pare che le convenga è proprio un orso signor Morelli si fa la vita di campagna vita allegra di buona compagnia e lei se ne sta sempre da parte come un frate certosino si fanno corse di qua e di là pranzi nei paesi e merende nei boschi in dieci in quindici in venti persone e lei non si lascia vedere si balla qualche volta e l'orso contro l'uso non fa neppur questo interrupio che orso male addestrato non è vero quanto alle passeggiate vede bene signorina che ne faccio ma da solo l'ha mai veduto uno che si diverta da solo potrei dirle di sì se avessi l'uso di guardarmi allo specchio ma io sono anche un orso mal pettinato infine vivo da solo come ella dice e basta a se stesso non è così capisco infatti che tutto assorto nei suoi alti pensieri no non dica questo la prego io non mi basto e i miei pensieri semmai radono piuttosto la terra guardavo a terra accompagnando col gesto la frase e lì a due passi da me sporgeva il piedino della fanciulla non un piede da viragine in verità e bisognava rendergli giustizia ella certamente si vergognò perché ritrasse il piede dissimulando tuttavia l'atto sollecito con una carezza a buci che si era posto a sedere molto gravemente lì presso quasi in mezzo a noi due dal canto mio ero pentito già del mio atto e tanto più facilmente in quanto che era stato involontario radono piuttosto la terra ripigliai volendo mostrare che non facevo nessuna allusione di cattivo gusto perché appunto la terra mi piace così verde così sana così confortante allo spirito per amor della terra vengo in campagna lor signore lo so guardano più volentieri in aria quando giocano al lawn tennis per esempio un bel gioco non le piace avrò il coraggio di confessarlo niente affatto pura ginnastica perché farne per rinvigorirsi alle battaglie della vita bisogna essere forti respirare bene muoversi bene certo per ballare per andare nell'inverno a teatro due cose che hanno la loro bellezza non è anche lei di questa opinione no signorina perché sono molti perché richiederebbero molto tempo ed è forse ora per lei di ritornare a casa eccoci muoveremo e lei li potrà dir tutti passeggiando non tutti non tutti sarebbero troppi ma uno basterà nelle conversazioni nei ricevimenti nei balli nei teatri in tutti i luoghi insomma dove le donne portano la loro grazia e la loro gioventù c'è sempre una caterva di sciocchi sono essi il maggior numero vorrà convenirne per costoro si avrà da perdere il tempo e l'arte per costoro da sciuparla grazie all'ingegno ma non è vero non è vero ciò che ella dice esclamò la signorina Wilson mentre passava davanti a me attraverso il fogliame delle carpinelle per un uomo che sa il latino soggiunse prendendo coraggio dall'andar che faceva senza guardarmi sono idee molto molto mi aiuti a dire stravaganti eh quasi infatti vediamo crede proprio che le donne vadano ai balli e ai teatri per darsi pensiero degli sciocchi gli sciocchi sono sciocchi e nella società si accettano per contorno come in certi piatti mi passi il paragone gli zucchettini e i cavoli di Bruxelles poveri zucchettini mormorai poveri cavoli di Bruxelles ho detto quelli non avendo altro alla mano disse la ridendo cerchi lei il contorno più sciocco e sarà quello che ci servirà per definire tutti quei personaggi che dispiacciono a me come a lei ma non dispiace ugualmente essere ammirate citate sui giornali vedere il giorno appresso descritte in tutti i loro particolari le graziose abbigliature oh sì mi parli di quelle con tanti errori dovendo farsi aiutare dalle modiste e se Dio vuole riuscendo ad imprestare ad una signora il vestito di un'altra del resto ritornando sui generali voglio ammettere anch'io che un po' di tempo si perda in queste occupazioni di società ma questo avviene a tutti e in ogni genere di vita lo guadagna forse lei il suo tempo leggendo libri latini chissà il vivere è un disporsi a morire ah bene altre idee come quelle di poco fa rinunziamoci dunque il vivere è un vegetare qui la viragine diede addirittura in uno scoppio di risa povera vita che la riduce ma almeno per vegetare bisognerebbe farsi piantare preferisci in vaso o in piena terra gran diavola con lei così pronta alla ribattuta non si poteva vincere né impattare ci sono provai a rispondere delle piante che non vivono per le radici non avendone affatto piante che vanno come una arcana inquietudine interna le sospinge piante che volano come il vento le porta davvero? le metteremo alla prova mi accompagni sulla cima di quel monte signorina perché no tal quale mi vede io vado dappertutto anche da sola stamane ho già fatto una scorribanda assai lunga per luoghi abbastanza selvatici senz'altro compagnia che quella di Bucci è un eroe non lo sa? lo so benissimo qualche volta è fin troppo ardito temerario addirittura ma per andare lassù a santa Giustina giudicando così ad occhio e croce penso che tra il salire il restare il discendere ci vorranno almeno due ore e sono adesso le undici allora sarà per domani cioè non per domani domani si va a visitare un altro santo come si chiama più è il monte più alto di questi dintorni a mille metri sul livello del mare San Donato le dissi sì per l'appunto San Donato rispose ella c'è forse già stato? no mai ho letto il nome sulla carta senta il desiderio di portargli la sua voglio dire la sua carta di visita ci venga anche lei domattina io? le pare? lei sì lei saremo una ventina di persone le vertiche la conosce la contessa Guarneri col seguito il commendator Matteini Terenzio Spazzoli detto l'impareggiabile ed altri che non ricordo ma tra i quali non vanno dimenticati i ragazzi della signora Berti hanno poi promesso di accompagnarci la signora sindachessa e la signora segretaria comunale che sono vorrà convenirne le due prime dame di Corsenna per diritto d'uffizio condurremo anche Bucci qui presente ed accettante non si decide? o non sarebbe per Bucci semmai né per tante altre persone che mi ha nominate volevo ben dire gridò ella battendo le palme non sarebbe stato cavaliere parlando su serio signor Morelli veda un po' d'essere buono tutte queste signore villeggianti di Corsenna dicono che lei vive così appartato perché non ha trovato una compagnia abbastanza piacevole smentisca la calunnia e venga signorina non per la calunnia che si chiarirebbe tale da sé ma per non rispondere con un malgarbo alla sua gentilezza verrò i posteri non lo crederanno ma infine i posteri non lo sapranno neanche rispose ella entrando con gioconda padronanza nella mia celia e poi chi vuole occuparsi di loro in questi discorsi eravamo giunti al viale dei pioppi la signorina Wilson venuta su da un'altra parte non lo aveva ancora veduto e fu tutta ammirata innamorata rapita al settimo cielo sincera vivace tutta di primo impeto aveva facili le espansioni come pronta la lingua di quella maravigliosa piantata di pioppi volle fare uno schizzo nel piccolo albo che portava sempre con sé furono pochi segni di matita ma sicuri ed efficaci gran diavola l'ho già detto e lo ripeterò ancora dio sa quante volte gran diavola di ragazza osservavo intanto e come ella ebbe finito lo dai non solamente per obbligo di cortesia ma ancora per sentimento di verità che la doveva pur riconoscere no non mi lodi rispose ella tuttavia come disegno non val niente è un ricordo e come ricordo può andare vede intanto signor Morelli che io non perdo sempre il mio tempo se una cosa è bella se franca la spesa ne godo se è sciocca la lascio stare amen fui per rispondere ma mi contentai di dirlo col gesto mezz'ora dopo eravamo al principio del paese dove io presi commiato ed ora per il giorno seguente giunto a casa ho finita la lettera per Filippo Ferri ed ho tirato giù questo passio anch'io per ricordo come ricordo può andare e restare che perdi tempi dopo tutto fine del capitolo quarto capitolo quinto di Galatea questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol Galatea di Anton Giulio Barrili capitolo quinto all'altra bellissima ottava 17 luglio 1800 sì diciamolo pure che perdi tempi e vanno proprio notati nel memoriale questo davvero meglio delle mie lettere a Filippo Ferri vuol riuscire il giornale di Corsenna ieri mattina alle sei puntuale come un creditore mi sono presentato in armi sulla piazza avrei voluto fare più nobili apparecchi di vestiario ma poi ho pensato che si andava in montagna che ero io l'invitato e non il mio abito che finalmente il mio tutto vestito di tela era decentissimo e il far novità sarebbe parso un atto di debolezza così non ho mutato niente del mio fornimento solo v'ho aggiunto un bel fiocco di cravatta a capi svolazzanti che facesse un pochino di spicco dando tono e grazie a tutto il restante sciocchezze ma chi non ne fa non ne conta c'erano le Berti mamma tre figliuole e due ragazzi come a dire la chioccia e i pulcini c'era la segretaria comunale ma senza la sindachessa che non aveva potuto muoversi da casa essendo indisposto il primo magistrato di Corsenna si prevedeva del resto non già che fosse indisposto il sindaco ma che la sindachessa dopo aver detto di sì facesse di no era quello il suo modo di affermare la propria importanza giungevano in quel punto le Wilson madre e figliuola si faceva aspettare mezz'ora buona la contessa Quarneri luminosa bellezza che non era mai pronta ed aveva bisogno di comparire ultima sull'orizzonte da quell'astro che era accompagnata dai suoi satelliti come costume degli astri appena giunta lei ci mettemmo in cammino ricorderò per amor d'esattezza il commendator Matteini un gentiluomo che ha conservato per 35 anni le patrie ipoteche ed ora con uguale pertinaccia conserva le sue fedine bionde facendo il bello con la modesta gravità dell'uomo che non vuol dare importanza soverchia a questo dono di natura brav'uomo del resto e niente noioso neanche quando parla del tempo che gli era diposto a Bologna la città dell'anima come egli la chiama accompagnando la frase con una certa allargata di mantici e con certi stravolgimenti d'occhi da lasciar balenare Dio sa quali ipoteche radiate speriamo radiate oramai i vecchi sono giovani viva la faccia loro ma chi sarà vecchio se non ci si mettono i giovani ecco appunto Terenzio Spazzoli che tiene nobilmente il suo posto di vecchio senza averne l'età Terenzio Spazzoli senza altri titoli né personali né ereditari ma quello ha l'aria d'essertutto indispensabile in società gran velocipedista nel cospetto delle tribune gran guidatore di cotillon nelle feste gran mastro di campo in tutte le giostre socio nato di tutti i clubs che Dio misericordioso permette di tutte le brigate sportive che sanno architettare e favorire le donne queste graziose emulatrici della onnipotenza divina severo nel vestire inappuntabile inimitabile impareggiabile come lo ha battezzato la signorina Wilson angoloso bislungo e magro ma adatto come un attaccapanni a tutte le mode parco di parole e di gesti un po' cam barbone all'aspetto ha intera la barba di fatti ma rada corta intorno alle guance solamente più lunga e appuntata alla spagnuola sul mento barba nera aggiungo che dà risalto ai denti bianchissimi spesso e volentieri in mostra come quelli di Bucci anche egli ha questo modo di ridere a denti stretti senza sonorità senza spruzzi manco male e di ciò gli va data gran lode mi fanno tutti di gran cortesie non c'è che dire la signora Berti e la signora Wilson due mamme mi prendono in mezzo dopo che tutti gli altri mi hanno salutato il commendatore Matteini con benevolenza tranquilla di capo d'ufficio in vacanza Terenzio Spazzoli con gravità contegnosa che potrebbe essere timidezza ed è forse degnazione i tre satelliti della contessa Quarneri con pronta ed eguale affabilità dopo che l'astro luminoso mi ha involto benignamente in un effluvio di pelle di spagna in una musica di paroline suavi in un barbaglio di raggi e di sorrisi bravi ragazzi così va bene senza dissonanze tra voi e senza sospetti per me ma dove mi sono imbarcato non vedo neanche il mio buci buon amico personale diciamo pure politico gliel'avevo fatto sperare trovò modo di dirmi la signorina Wilson che pareva indovinare la causa della mia tristezza ma il suo padrone è venuto iersera a ridomandarlo povero cane non voleva spiccarsi da noi temendo forse di buscarle ho ottenuto dal suo padrone che non lo bastonasse quanto a lui l'ho fatto andare più contento promettendogli tutti gli avanzi della grande giornata gli avanzi promettono d'essere vistosi perché gli apparecchi sono molti c'è tutta una batteria di ceste di canestre di esporte a cui bastano appena due muli e un somarello fissati da Terenzio Spazzoli nostro duca e signore come sempre avviene l'asino è più carico del che non si duole con quei suoi passi corti e veloci mossi a contrattempo va sempre avanti a tutti povero ciucco e le sue grandi orecchie tese danno il buon esempio ai membruti compagni saltellano intanto le some si sentono tintinnare le latte delle conserve accettolare le stoviglie sgrigiolare gli involti del pane delle carni arrostite lesse e salate fortuna che le bottiglie sono diligentemente impagliate e i fiaschi ben affondati in grande ceste di fieno c'è un canestro che Terenzio Spazzoli ha fatto caricare con maggior cura e non si sa che cosa ci sia dentro e tutti muoiono dal desiderio di saperlo ma l'inflessibile condottiero non si lascia smuovere da domande né da supplicazioni mostra i denti con un'autorità inesorabile non vuole nemmeno che si parli di un altro carico misterioso che dovrebbe essere la sua improvvisata più grande è il più voluminoso di fatti la mia mazza babilonese tagliata in un ramo diritto di nocciuolo ha destata la maraviglia delle signore ho dovuto spiegare perché sia così lunga la signora Berti se ne è sbigottita ci sono dunque molte serpi in montagna no su per giù quante ce ne sono in pianura è inoffensive semmai cioè non velenose ma bisogna potersi guardare in questi casi un bastone lungo pieghevole e rustico val sempre meglio di una corta e pulita mazza cittadinesca Terenzio Spazzoli mi ha dato ragione osservando giudiziosamente che male servirebbe in questi luoghi l'Alpenstock tanto di modo oggi di ed anche fatto di bambù vero arnese di parata che nei passi difficili serve poco a sostenere e nei brutti incontri dovendo assestare due o tre colpi si spezza o alla mentrista si sciupa mentre un buon bastone ugualmente lungo di nocciuolo o di frassino sarebbe in ogni caso il più adatto abiti convenienti per una gita in montagna sono stati messi fuori dalla contessa Guarneri dalle signorine Berti e dalle due Wilson madre e figliuola cappellini semplici senza sfoggio di nastri di pennacchi giacche alla marinara e gonne corte che lasciano vedere i borzacchini di pelle chiara allacciati sopra le nocche del piede anche gli uomini tiroleggiano concediamoci il gaudio di un verbo nuovo col fondo dei calzoni chiuso dentro le ghette o dentro il collo delle scarpe da caccia le giacche di panno bigio tagliate a camiciotto e la cintura cucita addosso per accoglierle in artistiche piegoline attorno alla vita il commendator Matteini è un poema ha perfino la penna di pavone e il fiore stellato dell'Edelweiss sulla testiera del suo cappello verde nella prima ora del nostro viaggio eravamo tutti uniti in un solo drappello a poco a poco salendo la strada a ritroso del fiume ci troviamo divisi in manipoli secondo che hanno portato i capricci della conversazione gli umori diversi e la maggiore o minore sveltezza delle gambe senza volerlo io sono rimasto degli ultimi con la Berti Madre che è la mia conoscenza più vecchia e rappresenta del resto il maggior volume della brigata la buona signora mi parla con arguta sincerità dei suoi 89 kg di peso che non sono sempre piacevoli a portare ma si consola pensando che erano già stati 94 ondella si è già liberata di 5 e più spera di lasciarne in strada facendo continuamente del moto iddio l'esaudisca ma per intanto ella viene ultima dappertutto e si sale ancora si sale sempre su per la valle lunga traversando paeselli e casolari prendendo alcuni un po' per chiasso un po' per comodità l'aiuto dei carri di contadini che si combinano per via riunendosi qualche volta in manipoli sparsi e separandosi da capo ridendo tutti chiacchierando vociando ammirando qua e là facendo le meraviglie d'ogni più piccola cosa e giurando che mai e poi mai sia fatta una più bella scampagnata così abbiamo passato l'ultimo ceppo di case un mulino e una ferriera dove la valle si fa più stretta e più fosca e la via diventa un sentiero tra macchie di ontani di querci e di frassini tra ciuffi d'eriche di felci di rovi tra rumori continui di acque zampillanti sussurranti gorgoglianti d'ogni parte la natura è qui d'una bellezza orrida che piace assai come tutti i contrasti il fiume più ristretto d'alve o si fa anche più capriccioso spesso il suo letto è quasi interamente attraversato da grossi petroni impedito da balze e scogliere ingombrato da massi tondeggianti come palle di bombarde spettacolose non mai più viste non mai più fabbricate la signorina Wilson vuol sapere perché quei massi rotondi rugosi di color rossastro si trovino là pietre cadute dai monti risponde il commendatore Matteini passi per i petroni per i lastroni per le falde e i macigni di calcare che si vedono qua e là lungo il cammino ancor male arrotondati dalle acque e dagli attriti del viaggio ma quei massi tondeggianti appariscono più compatti e più antichi son di granito o di quarzo centinaia di secoli li han visti così e non sempre a quel posto io qui metto fuori la teorica dei massi erratici lavorati e trasportati dagli immensi ghiacciai dell'epoca terziaria ciò mi solleva di qualche cubito nell'estimazione dei miei uditori ci divento il geologo lo scienziato della spedizione buon patto non è vero ma io non ne abuso e mi chiudo tosto in un prudente riservo troppo vorrebbero saper ora da me le graziose signore specie in materia di botanica e più che io non mi ricordi d'averne imparato a pezzi e bocconi seguendo i capricci del sentiero si passa l'acqua almeno una dozzina di volte si beve a tutti gli zampilli delle balze circostanti si assaggiano tutti i frutti che offre la macchia abbondano le bagole piccoli chicchi d'uva nera che nascono dai ramicelli di una specie di mirto tanto graditi nell'autunno agli uccelli di passo si trovano perfino le nespole selvatiche piccine ma più fresche al palato e più gustose delle domestiche la signorina Wilson fruga per tutte le siepi e ad ogni frutto che vede domanda a me se può metterci il dente mangi pure signorina queste bacche dal colore dell'indaco sono le prune selvatiche le madri delle nostre susine asprigne ma di gusto piacevole non ne abusi peraltro si attacchi piuttosto alle fragole montanine ai lamponi così ragionando assaggiando di qua e di là il pasto degli uccelli si sale e si sale ancora fino al borro dove alle sue sorgenti il fiume è diventato una cosa da nulla ed onde chiuso il cammino dalla gran parete del monte bisogna inerpicarsi da un lato sulla ripida costiera per un sentiero a sghembi che a vederlo di lì si direbbe un passo da capre ma ardito ci si arrampica il ciuco e lo seguono i muli ci arrampichiamo allegramente anche noi la signora Berti è rimasta più ultima che mai la regge governa un fiero alpinista il commendator Matteini la contessa Quarnerici ha i suoi tre satelliti la segretaria comunale la signora Wilson e le tre Berti carine adolescenti obbediscono ai cenni di Terenzio Spazzoli sempre severo in ogni cosa che faccia sempre sicuro di sé i ragazzi trottano come puledri ficcandosi tra i piedi dei grandi inciampando, ruzzolando, saltellando e facendo il diavolo a quattro io prendo le mie vendette ed un troppo lungo restare in serrafila sono in testa di colonna e la signorina Wilson mi segue gran montanara gran camminatrice nel cospetto di Dio e non suda o non pare mentre io grondo come una fonte ma è questo il mio solito e non mi sento men forte perciò meno voglioso di muovermi in questo essa è come me sente il piacere di andare in alto sente come me il piacere di guardarsi indietro questo poi diciamo pure che può esserle venuto dalla moglie di Lot per fortuna non ci resta di sale quantunque ad un certo punto della nostra salita in una delle nostre più belle fermate la gran diavola fu per rimanerci di stucco contemplavamo la valle così larga e così pittoresca davanti a noi con tanti casolari sospesi come nidi sui fianchi verdi dei monti con quella linea della strada che biancheggiava a tratti nel fondo da qualche radura della frappa allora quando la mia compagna diede un grido di maraviglia il lupo signor Morelli il lupo oh che bella cosa non tanto signorina risposi ma dove laggiù veda guardando diritto a quella sporgenza della montagna più sotto di qua dal grande albero ci sono ci sono ma non è un lupo quello sarà un suo parente voglio dire un cane già e lo pensavo ancora io ma volevo vedere che atteggiamento mi prendeva lei con la sua mazza babilonese proprio un cane e come corre se non sapessi che è sotto chiave soggiunsi direi lo dica abbia fede signor Morelli lo dica è lui il nostro buci il nostro buci questo suonava più grato dell'accenno alla mia mazza babilonese e all'atteggiamento che la signorina Wilson si riprometteva da me per far fronte al pericolo ed anche diciamo pur tutto poteva far piacere l'idea di possedere qualcosa in società con una bella ragazza fosse pure un cane di villa era lui povero cane era lui veramente che aveva deluso la vigilanza del padrone ed era corso sull'orma dei suoi protettori quanta strada aveva dovuto fare per raggiungerci ma n'era finalmente venuto a capo ed arrivando a noi ansante trafelato con un palmo di lingua fuori faceva ancora una mezza dozzina di salti buffi mugolando ed alzando le froge per mostrarci tutti i suoi denti in un riso Terenzio Spazzoli non sarebbe più stato solo a rider così vorremmo concedere qualche minuto di riposo a buci ma egli non mostra di averne voglia perciò ripigliamo la salita restando ad un bel tratto i primi della comitiva sull'ultimo scaglione del monte ci fermiamo ad aspettarla che bellezza gridai dando un'occhiata in giro a tutta quella gloria di vette di gradanti di prospettiva e di colore bravo è lei che non voleva venirci ma no signorina ho accettato appena me lo ha detto lei con qualche restrizione i suoi posteri per esempio che non lo avrebbero creduto è vero ma quando lei mi ha soggiunto che non lo avrebbero saputo a proposito signor Morelli i posteri voglio sperare sapranno il suo nome di battesimo mentre io sua contemporanea non ho ancora questa fortuna fortuna vogliamo dire mi chiamo Rinaldo Rinaldo ripete ella un nome di paladino che non sarà mai esistito se Dio vuole e lei sentiamo il suo ora un brutto nome sicuro ne giudichi Caterina bellissimo anzi e se ne possono cavare anche parecchi vezzeggiativi cominciando da Catera non è vero no lasciamo Catera a mercato vecchio c'è Rina non le garba ah esclamò essa ridendo lei vuole accostarmi a Rinaldo senza sforzo semmai ed è il vezzeggiativo più signorile di Caterina ci sono poi le forme esotiche le inglesi prima di tutto poiché lei ha già inglese il casato Kathleen che è così dolce Kate che è così fine Kitty che è così birichino si fermi e levi l'epiteto così per l'appunto mi chiamano in famiglia del resto ci ho parecchi altri nomi a registro Francis Evelyn Dorotea il mio pensiero volò a Galatea e all'ode d'Orazio che il giorno innanzi le era caduta sott'occhio volevo ripigliare ma in quel punto si affacciavano dalla salita le signorine Berti e la nostra conversazione si interruppe di schianto ed altri seguivano per l'erta tutti affrettando il passo a malapena ebbero veduto noi con quella furia montanina che è così naturale alla vista del luogo dove si farà la fermata là poi tutti si voltarono ad ammirare la valle e si dì a tempo di arrivare anche agli 89 chilogrammi della signora Berti guardati conservati e ipotecati per allora dal giubilato e giubilante commendator Matteini per la coppia ultima venuta bisognava allungare la stazione e la signorina Kitty volde approfittare dell'indugio correndo più in là a visitare una grande e folta piantata di faggi vecchi faggi secolari come se ne vedono più pochi sulle nostre montagne poiché il bisogno è l'ingordigia hanno appiccicata all'umanità sprecona la malattia del far assi a tutto spiano e si contentasse ancora di ciò dove ho letto io l'altro giorno che si pensa ad usare come forza motrice la cascata delle marmore cantata dal Byron e che in Francia si pensa a fare il somigliante delle chiare fresche e dolci acque di Valchiusa gli uomini son vandali su tutta la faccia della terra e un giorno ne ho fede verrà un altro diluvio per castigarli spoglino per intanto le montagne e vedranno corsi dietro alla signorina Kitty per trattenerla non vada laggiù ci sono buche e tradimenti come tra i faggi per l'appunto tra i faggi vecchi cascano i più vecchi e marciscono sotto le nevi tra rami foglie licheni e borraccina si forma su quell'intreccio di tronchi uno strato che inganna par di andare sul sodo e ad un tratto cricche ci si può lasciare una gamba ha capito ne proibisco di andare la signorina Kitty abbassò il capo alzando le pupille a guardarmi di traverso come comanda bene mormorava frattanto ho piacere che lo servi risposi e lei obbedisca bene mi fece il muso lungo lungo poi scoppiò in una risata che fece ridere anche me gran diavola e buona compagnona si ripigliò la strada costeggiando il bosco dei faggi così nero sotto il denso fogliame che alle nove del mattino si distinguevano appena le prime cinque o sei file dei tronchi e tutto l'altro era sepolto nell'ombra mezz'ora dopo si afferrava la vetta non la più alta del sandonato ma uno dei suoi spromi e il più prossimo tra il quale la cima del monte si stendeva una lunghissima prateria tutta liscia e verde di smeraldo dall'orlo di questa affacciandosi verso mezzodì si offriva ai nostri occhi una scena stupenda talatta talatta avrei gridato io se fossi stato certo che i miei compagni gradissero il greco il mare il mare gridarono essi tutti accorrendo perfino la signora Berti che prese un'ipoteca temporanea sul braccio del commendator Matteini scena stupenda per verità incantevole divina come una di quelle che immaginiamo qualche volta essere arrise nei luoghi eccelsi alle albe del genere umano gran verde ai nostri piedi poi subito un gran vano come un abisso spalancato profondo buio alla prima vista ma pieno di cose e di colori indistinti di là dall'abisso un lungo disordine ma severo e solenne di dorsi montuosi di picchi e di guglie rocciose di là ancora oltre una riva non vista l'ampia e infinita distesa del mare calma superficie tra turchiniccia e verdognola solcata per lungo da liste di bianco sfumata qua e là da chiazze irregolari di grigio è tutto fremente tutto sfavillante d'una luce vaporosa come sotto un mobile polviscolo d'argento e d'oro immobili a fior d'acqua come ninfe marine apparivano le prime isole del tirreno la gorgona e la capraia minuscole quasi burchielli arrovesciati sui flutti l'elba più vasta in forma d'un lungo scudo sannitico e laggiù a destra sull'orizzonte bianca scogliera rilucente al sole la punta settentrionale della corsica bellissimo bellissimo e non si sapeva dir altro bellissimo infatti come sempre il bello quando si vede da lontano e lascia modo a pensarci a fantasticarlo secondo i nostri desideri ho sonno finirò domani fine del capitolo quinto capitolo sesto di galatea questa registrazione librivox è di pubblico dominio registrato da riccardo fasol galatea di anton giulio barrili capitolo sesto in alto e in basso 18 luglio 1800 le signore hanno protestato di non voler salire più oltre l'ultima punta del sandonato è alta ancora un centinaio di metri ma che cosa si potrà vedere di lassù che non si veda dall'orlo del prato la sardegna forse o la costa d'africa dunque fermi lì dove si sta così bene Terenzio Spazzoli è interrogato da una quindicina di sguardi più o meno supplichevoli Terenzio Spazzoli si arrende al desiderio dei popoli ma con la dignità di un re che sembra dire collatto era questo il parer mio per l'appunto e subito comanda ai serventi di portare le provvigioni di bocca in un vicino boschetto di faggi che già aveva adocchiato arrivando non l'ha disse la signorina Chitti gittando verso di me un'occhiata maliziosa ci saranno delle buche tra i faggi non c'è pericolo rispose l'esperienza paesana per bocca di uno dei mulattieri è una faggetta di pochi anni e c'è sodo come sulla strada battuta si va a vedere seguendo le nostre salmerie il luogo è adatto e grazioso una selvetta che par pettinata mezz'ora prima dalla madre natura tutta a masse ben distribuite tutta viali sentieri redole andirivieni che paion tracciati a disegno fatti un cento di passi ecco una bella radura con una fontana nel fondo certamente più alta di tutte quelle che danno origine al fiume sgorga l'acqua da un fiorellino tra ciuffi di felci e capelveneri zampilla gorgoglia sussurra per un po' di cammino fra i sassi andando a far lago in una buca di forse due metri che si è scavata nella zolla del prato donde poi straripa e scivola a valle immollando per un buon tratto il terreno acqua limpida e fredda dove la signorina wilson è già corsa a tuffar le mani con gioia infantile io l'amo e la venero come tutte le fonti in ciò sentendomi veramente pagano terenzio spazzoli si affretta a profanarla ficcandoci dentro non meno di trentasei bottiglie fra segni non dubbi di approvazione e di ammirazione da parte dei saggi a che altro di grazia dovrebbero servire le fonti se non a tenere in fresco il vino specie quando le bottiglie mal difese dal tessuto delle ceste si sono scaldate al sole in tre ore di marcia terenzio spazzoli è l'uomo sapiente che nessuna cosa vale a turbare o solamente a commuovere potrà essere uno sciocco ma è certamente un personaggio destinato al comando solo che altri lo tenga da ciò riconoscendo la mediocrità di lui quanto bisogna per non sentirne invidia donde ha origine un bel moto dell'anima e la voglia matta di spingerlo in alto egli frattanto può raccomandarsi benissimo all'attenzione dei suoi simili rendendosi utile e tenendosi abbastanza prezioso è a buon conto uno di quegli uomini che fanno di tutto non eccessivamente bene capisco ma ogni eccesso non è forse difetto gran gente e i mediocri quando sono operosi attenti e pacati non hanno scatti di pensieri di affetti di risoluzioni fanno quel che possono e sanno magari quel che non sanno ma con tanta buona volontà chi crede di far meglio si faccia avanti essi hanno data la loro misura non facendosi pregar troppo non inspaventandosi di nessuna malleveria e riescono il più delle volte se non riescono sarà ancora un bel merito aver provato di fare sono utili così diventano necessari chi ne rideva da principio si avvezza a loro non vede che loro non sa passarsi più dell'opera loro e della loro persona mediocri io vi saluto se stesse me vi adopererei tutti al governo si fanno grandi apparecchi intorno alla fontana ed anche poco distante tra i faggi dove sono state condotte e scaricate le bestie da Soma i serventi sono tutti in faccende obbedendo agli ordini di Terenzio Spazzoli hanno perfino improvvisato un focolare di cui sentiamo crepitare la stipa che cosa vorrà essere la nostra refezione all'aperto Terenzio viene modestamente a consigliarsi con le signore propone un pasto che sia colazione e desinare ad un tempo osservando che due pasti separati da troppo breve intervallo si guasterebbero l'un l'altro la sua osservazione è giudiziosa quasi profonda come tutto ciò che gli esce di bocca Terenzio bocca d'oro e niente insuperbito dell'approvazione universale si volge a me domandando come si potrebbe chiamare il pasto consigliato da lui a me certo ed anche naturalmente non sono io per decreto del signore lo scienziato della spedizione propongo di chiamarlo colazione desinatoria corroborando la mia proposta con la colazione di snoira dei piemontesi e col degenet di natoire dei francesi la necessità di copiare è evidente se c'è la cosa perché dovrà mancare la parola e se degli italiani l'han trovata in dialetto perché non si dovrebbe farla passare nella lingua accettata la parola o le parole si aspetta con desiderio la cosa la camminata lunga e l'aria montanina hanno recati i loro effetti maravigliosi gli stomachi vuoti rimordono come altrettante coscienze aggravate ma bisogna aver pazienza un momentino quel tal momentino che diventa un quarto d'ora per via non è molto poi ed anche è bene speso quel po' di tempo perché sono arrivate le scodelle distribuite sui tovagliuoli davanti ai commensali adagiati sull'erba e dietro le scodelle arrivano parecchie latte di brodo fumante questo ristora osserva Terenzia Spazzoli facendosi attorno col cucchiaione per servirle signore i fabbricatori di conserve alimentari hanno fatto il miracolo il fuoco l'ha compiuto dando una scaldata alle latte non di meno si dà merito di tutto a Terenzia Spazzoli infatti è giusto l'idea di ristorare gli stomachi prima di nutrirli con le vivande fredde l'ha avuta lui e gliene va data lode notate notate ancora arrivato il brodo a parecchi viene l'idea di fare la zuppa del cane rompendoci dentro una mezza pagnottina ma no non c'è bisogno di questo Terenzio Spazzoli ha pensato e ugualmente ai piccoli dadi di pane tostato nel burro sarà la zuppa del viaggiatore semmai zuppa da persone di garbo che vogliono dare la sua parte anche all'occhio e sia pure zuppa del cane anche questa ma solo quando ne avrà assaggiato il povero Bucci che va trottolando scodinzolando mugolando fiutando dalla fontana alla cucina dalla cucina alla fontana certo all'apparenza è il più affacendato di tutti il brodo caldo ha ristorato gli stomachi ora vengono i freddi prosciutto mortadelle polli arrosto galantine gelatine burro sardelle di nant bottarghe e via discorrendo tutta roba che dà buon bere agli uomini ed anche le signore non canzonano è bello vederle all'opera sgranocchiare allegramente d'ogni cosa rinunziando volentieri alle forchette e ai coltelli dove possono bastare le mani non badando ad ungersi un pochino le dita e magari gli angoli della bocca ai miei tempi sono stato romantico anch'io e poco mi piacevano le donne in atto di mangiare cresciuto negli anni nella esperienza nel sentimento della vita amo vederle a tavolo occupate graziosamente morsicchiar petti di pollo e pasticcini di strasburgo senza contare che la tavola meglio imbandita dove se manchino è triste per passare la musoneria lo so bene ci si beve di più ma allora peggio che andar di notte corrono i discorsacci volano i motti pungenti e si risica di finire come alle nozze di pulcinella che le furon legnate con le donne a tavola c'è sempre in ogni piatto il condimento della grazia che vi farebbe parer buona anche una frittata senza ova c'è l'allegria contenuta la ceglia garbata il desiderio di piacere la cura di non essere noiosi tutte le buone qualità dell'uomo sono in mostra e le cattive abilmente dissimulate sicché par proprio di ritrovarsi fra gente civile così pensano i classicisti che oramai tengono il campo ma ecco mentre dan volte i romantici venire fuori un'altra razza di guastamestieri gli uomini politici e i politicanti coi loro banchetti mascolini a un tanto a testa con la minestra cotta stracotta e raffreddata per via con le salse andate a male col pesce passato col servizio fatto a casaccio e tutto ciò per il maledetto gusto di sorbirsi alle frutta un bicchiere di vinello che la pretende a champagne e una tanta fera sconclusionata che la pretende a discorso ma ne sono quasi sempre puniti perché se il bicchiere è uno sono due i discorsi tre cinque sette e qualche volta data la gravità del fallo si aggiunge il castigo di dio d'un sonetto improvvisato per l'occasione la sera innanzi o quell'altro del personaggio cupo che si leva ultimo incominciando signori io non sono oratore e cava dalla tasca del soprabito uno scartafaccio enorme sono di cattivo umore io e non erano così l'altro ieri i miei compagni di San Donato alle frutta non si fecero discorsi quantunque fossero molto bene snodate le lingue venne e fu aperto sotto i nostri occhi il vaso di Pandora voglio dire il canestro misterioso per cui si erano fatte tante ciarle e tante supposizioni durante il viaggio ne uscirono fuori chicchere piattini cucchiaini caffettiera zuccheriera tutto un servizio da caffè dio degli dei e già dalla cucina nascosta tra i faggi si spandeva giungendo fino a noi l'aroma della bevanda celestiale che staccava il bollore nel bricco Terenzio Spazzoli fu proclamato ad unanimi voti un gran duomo lo avremmo levato sugli scudi se non ci fossero mancati gli arnesi da ciò e se non fosse stato necessario levarci noi da sedere il nostro condottiero accolse con tacita compiacenza le lodi e attese egli stesso al servizio presentando la chicchera fumante alle dame lo aiutava la signorina Wilson presentando la chicchera ai cavalieri grande ignazione in lei nuovo pregio che si aggiungeva alla cosa e per cui Galatea si tramutava in ebe la seconda immagine non è mia ed è il commendator Matteini giubilato come conservator di ipoteche ma non ancora come conservatore delle buone tradizioni letterarie ed era graziosa quell'ebe ma forse un po' troppo gloriosa avendo l'aria ad essere stata a parte del segreto anzi diciamo tutto ad un certo punto se lo lasciò sfuggire di bocca ma sì volevamo fare un'improvvisata ahi questo non è bene dunque la signorina Chitti ci ha l'uso delle partecipazioni infatti può dire a me il nostro buci a Terenzio Spazzoli il nostro caffè la signorina Chitti conosce anche il segreto della cesta ma sì figuriamoci se non ne ha la sua parte non ho ancora digerito il caffè e già mi danno l'assenzio il taciturno condottiero ha lasciato la compagnia sottraendosi al coro dei suoi lodatori ed anche lei si muove andando tra i faggi verso il deposito delle provvigioni c'è del nuovo per aria e si sente quando ritorna con la sua aria birichina e col suo risolino malizioso va a discorrere sottovoce con la contessa Quarneri non afferro che questa frase con cui ella finisce ci sta lei ma sì risponde la luminosa contessa è un'idea stupenda a mille metri sopra il livello del mare non potranno vantarsene molti che c'è domandano le signore poiché la contessa ha parlato a voce alta e non vuol far mistero di nulla un'altra improvvisata e come un long tennis su quella prateria che è perfatta la bella posta un long tennis le ragazze berti saltano dalla gioia la mamma loro non farà certamente quell'esercizio ginnastico ma in fondo non le dispiace dopo desinare godersi un po' di spettacolo la signora wilson madre non può sgradire un divertimento della sua patria d'adozione la signora segretaria comunale non lo conosce ancora da vicino sarà felice di essere ai primi posti per assistere ad una delle tante inezie della moda i tre satelliti della contessa amano tutto ciò che ama il loro astro dominatore il commendatore matteini non ha opinioni in proposito rammenta ad essere stato ai suoi tempi un dilettante di pallone si adatterà volentieri a veder giocare alla palla condizione di spettatore tranquillo che può pensare intanto a tutt'altro magari alla città dell'anima quanto a me dovevo immaginarmelo questo tiro mancino abomino il long tennis più che io non faccia i miei peccati di gioventù pensieri opere ed omissioni e proprio a me doveva toccare questa delizia a mille metri anzi a mille e diciannove sul livello del mare ho fatto di necessità virtù accompagnando la brigata sulla prateria destinata avrei fatta anche la fatica di andare attorno in cerca di petroni per far sedili alle signore ma c'erano i ripieghini utili e maneschi sederini di tela con due staggi mastiettati a iccasse che venivano a fare l'ufficio loro in buon punto il saggio Terenzio Spazzoli aveva proprio pensato a tutto perfino agli 89 kg della signora Berti e già in quella sua breve assenza dalla fontana aveva fatto prodigi aiutato dai serventi che gli tenevano le cordicelle tese e dai due piccoli Berti che gli portavano il gesso aveva segnate le doppie linee parallele del campo di giuoco poi piantati i più oli aveva rizzata nel mezzo la rete che fa nell'home tennis l'uffizio del cordino nel giuoco del pallone e che bisogna sempre trapassare con la palla perché il giuoco sia buono le racchette erano apposto sulle due estremità del campo apposto sulla battuta le palle di guttaperca il numero di sei per averne sempre una impronto se un'altra si crepasse e un'altra o parecchie volassero di qua o di là fuor del confine per quelle poi vigilavano i ragazzi sempre vogliosi di correre così tutte disposte le cose in mezzo a due file di spettatori si distribuirono le coppie dei giuocatori e le mute rispettive primi a giuocare furono da una parte la contessa Guarneri con Terenzio Spazzoli dall'altra la signorina Wilson col primo e poi veramente il primo dei famosi satelliti anche a me fecero cortesia invitandomi a giuocare mi sono scusato confessando d'essere ad ogni giuoco una sbercia non è meno sbercia si è detto con tutto lo sequio dovuto a tanti pregi fisici e intellettuali non è meno sbercia di me la contessa Guarneri che con una sequela di falli conduce in perdizione il suo compagno di giuoco e se stessa pure aveva contrario uno dei fidi satelliti che lavorava con ogni suo potere a farla guadagnare non azzeccandone mai una ma vegliava accanto a lui la signorina Kitty che le imbroccava tutte e che come ebbe visto farci lecca il compagno prese a levargli la mano muovendosi lei leggera come una ninfa e sopra mano e sotto mano come le veniva fatto rimandando la palla ma da furba non mai dalla parte di Terenzio Spazzoli ho detto che le imbroccava tutte e non mi disdico sebbene due le uscissero dalle righe ma quelle due le aveva gettate a bella posta fuori del gioco scambio di rimandarle alla parte avversaria con un abile giro di racchetta le scagliava verso di me una facendone ruzzolare fino a miei piedi e l'altra poi accoccandomela senza misericordia sul mio cappello di sparto senza averne l'aria si capisce mentre io stavo discorrendo con la contessa Guarneri che si era stancata alle prime partite e uscita di giuoco e surrogata dalla maggiore delle Berti era venuta a sedersi presso di me e rimasto a caso in disparte non più è venò davvero Galatea da capo e non già quella di Orazio che si metteva in viaggio non già quella di Teocrito che tradiva Polifemo peraci la Virgiliana dico della quale cantò D'Arneta nella terza delle Bucoliche malo me Galatea petit lasciva poella et fugit ad salices et secupit antevideri ad un certo punto approfittando della distrazione di uno dei ragazzi viene a raccogliere una palla a poca distanza da me avrei dovuto alzarmi io raccoglierla ma mi tratteneva nel dialogo una battuta un po' lunga della contessa Guarneri passando leggera davanti a noi la signorina Wilson mi gitta poche parole che rompono a mezzo il discorsetto della mia interlocutrice non è vero signor Rinaldo che è bello il long tennis gli rispondo che è bellissimo ma ella è già trascorsa veloce sorridente graziosa si curva sulla vita raccoglie la palla e fugge al suo posto di combattimento gran diavola di ninfa non offre all'occhio che belle linee flessuose elegantissime nella loro mobilità ogni atto in lei ogni gesto ogni movenza è un prodigio di grazia ci a parte sicuramente il long tennis con tanta varietà di movimenti che richiede ed è forse per questo che le signorine giuocano volentieri al long tennis ma ogni bel giuoco dura poco anche quando pare una gran novità a 1019 metri sul livello del mare la signora Wilson e la signora Berti madri ad arbitro del campo hanno guardato l'orologio e fatto un gesto a Terenzia Spazzoli la signora Berti è anche un po' di cattivo umore perché? immagino che le dia noi alla luminosa bionda che ha tre serventi mentre le sue figliuole non ne hanno nessuno eppure sono tanto carine ma che mania scusi alla sua di condurle dappertutto in mostra a far numero tra le donne di sboccio tra quelle io vuol dire che stanno sulle mode e sugli spassi che son vaghe di conversazioni, di teatri e di feste da ballo giuro, anzi scommetto, che a far così non troveranno marito uno che abbia la vocazione di prendere moglie o cerca una dote vistosa o si appiglia a qualità più modeste le sue care figliuole hanno tutte le mode ultimissime scorrazzano su tutti i marciapiedi si fanno vedere a tutte le prime rappresentazioni a tutte le feste, a tutti i ricevimenti solenni è una cattiva strada quella che prende la signora Berti degnissima e ci ha dopo tutto un cuor d'eroina per il suo nobile errore si adatta ad ogni fatica più improba corre di qua e di là senza posa naviga e pesca in ogni acqua, povero vascello a tre ponti e si scuse dicendo che fa tutto ciò per ragion di salute se almeno uno dei tre satelliti lasciasse un po' la quarneri ma no, niente, son fermi al posto e si direbbe quasi che si facciano la guardia l'un l'altro dove va uno si cacciano gli altri due garbati, silenziosi, sospettosi non sanno neanche marciare in fila vanno sempre di fronte quando uno ha l'ombrellino della signora da tenere l'altro porta il ventaglio e il terzo i guanti la contessa li tratta tutti egualmente con languida benevolenza imperatoria con altrettanta benevolenza ha chiesto dei versi a me pel suo albo gli amici miei ci son tutti, mi ha detto e non altri che amici dio quanti ce ne debbono essere è molto bella ed una bellezza che attrae carnagione di madreperla con toni rosei capelli biondi ma d'un biondo strano che tira all'amaranto con vene e riflessi d'oro di zecchino occhi un po' grigi ma fosforescenti bellezza luminosa ho già detto e non c'è altro da aggiungere gli arnesi del giuoco sono raccolti nella cesta raccolta e caricata la batteria degli impicci delle provvigioni avanzate delle stoviglie e via discorrendo si dà un'occhiata stracca alla gran scena del mare che ci aveva tanto commossi all'arrivo e si riprende il sentiero della valle laggiù a due terzi di strada dove si era notato un luogo assai pittoresco in vicinanza del mulino si farà una lunga fermata ed anche una merenda così decreta Terenzio Spazzoli le signore protestano che non toccheranno più cibo ma egli sicuro del fatto suo sentenzia che giunte laggiù sentiranno ancora gli stimoli dell'appetito e non vorranno poi lasciar soli a macinare i compagni del sesso forte che sentiranno gli strazzi della fame si ride, si salta, si canta e si scende la signorina Wilson è venuta al mio fianco a caso per non rimanerci a lungo di che cosa le parlava con tanto ardore la signora Querneri mi chiede di poete in genere rispondo ma più del leopardi ne va matta sì, esclama lei torcendo le labbra oh cara qui fa una pausa e poi parla d'altro finalmente disponendosi a lasciarmi per andar con l'Aberti mi scaglia la frecciata del parto fuggente ho osservato che lei diventerà un discreto giocatore di long tennis io, e perché? perché si adatta così bene a fare il quarto assassina vorrei chiederle conto della sua frase ritenendola oscura ma lei è già lontana e chiama Bucci ad alta voce Bucci arriva ma ha piccole giornate e non salta più trova appena il tempo di ridere avendo fatta una scorpacciata da vicario foraneo lascio la signorina Kitty al suo Bucci ed ella non sa che potrei farla ridere con più gusto e più rumorosamente di Bucci basterebbe che io le riferissi un brano di discorso della signora Querneri quanto l'amo quel caro leopardi e dica è sempre laggiù confinato nella sua recanati? fine del capitolo sesto capitolo settimo di Galatea questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol Galatea di Anton Giulio Barrili capitolo settimo Rinaldo a Filippo 25 luglio 1800 che idee ti passano per la testa che opinione ti sei formata di me che io sia diventato un mulino a vento da muoverle pale ad ogni soffio un arcolaio che quanto è più vecchio e più gira ai capricci delle donne gentili che si trastullano a dipanare un guancialino da aghi e da spilli per uso delle ragazze che si addestrano a pungere e peggio poi un tappeto, una pedana, un posapiedi da contesse tu vuoi aver l'aria di saper molto addentro dei fatti di Corsena e non sai niente, lasciatelo dire niente di niente se sai perché ti lagni che non ti scrivo io ma infine è vero non ti ho più scritto da dieci giorni magari da quindici ho la malattia degli scrittori, mio caro quella specie di intermittenza che si hanno comune con certe fontane sono periodi di inerzia quando non riesco ad azzeccare un'idea e do non di meno il prurito nelle mani scrivo lettere è giusto allora che io scriva al migliore degli amici ma poi le idee mi ritornano, mi pare e allora son tutto al lavoro guai se non fosse così quanto al giornale di Corsenna che che tu ne pensi non si poteva tirare avanti era vuoto di cose ed io non potevo tesserlo tutto di ciance altro che articoli di fondo come li vuoi chiamar tu sognando ad occhi aperti vedo qualche volta saluto e da lontano se posso quando non posso da lontano adempio gli obblighi di società tirandomi fuori alla svelta e mi rifaccio al poema sicuro al poema mio tormento e mia gloria rivedo più chiara l'idea madre anzi ti dirò che mi è cresciuta fra mani Don Giovanni è l'uomo nella sua bramosia insaziata d'ideale dell'ideale che cerca dappertutto che crede ad ogni istante di afferrare e che da ogni parte gli sfugge mi dirai che questo è poi Faust quello della seconda e più ancora della terza parte vero ma quello è veduto un po' tardi ed espresso anche timidamente sarei per dire fiaccamente con ingegno sempre sveglio ma con mano senile del tempo triste in cui ride ancora al poeta l'immagine ma incomincia a mancare la fantasia ordinatrice né io voglio dirti che farò meglio del Goethe mi basta assicurarti che farò diversamente da lui la signorina di cui mi parli fu un'apparizione momentanea ed anche se ti degnerai di rileggermi capitata in mal punto a romper la quiete del mio rifugio nel verde sei tanto curioso di lei perché non mi domandi ancora del cane quello per esempio è interessante davvero e vive oramai con me il padrone dopo un'assenza un po' lunga l'ha castigato chiudendolo in casa quell'altro è scappato dalla finestra ha fatto un'assenza anche più lunga tanto lunga che non ha più voluto ritornare il contadino l'ha cercato dappertutto in paese finalmente l'ha ritrovato da me ma la povera bestia che ride così volentieri si è messa a guaire anche prima di ricevere il più piccolo colpo ne ho fatta una delle mie ho proposto al contadino di comperargli il suo cane a quello non parve neppur vero di buscarsi venti lire per un povero cane da pastori non più di primo pelo e sviato oramai che non gli avrebbe più fatto niente di buono buci a farla grossa non val dieci lire come cane come amico vale un perù è felicissimo del trapasso non mi lascia un minuto dormi accanto al mio letto sopra una sedia che fa ballar tutta la notte dandosi poco riguardosamente alle pulci ringhia a tutti per via mangia quando gli fa comodo e mi obbedisce quando gli piace a fartela breve aveva un padrone lo ha lasciato e si è procacciato un servitore ti ho date così e non brevemente tutte le mie notizie in ricambio dovresti farmi un piacere mandarmi tre libri che ti sarà facile ritrovare da ogni libraio un Teocrito un Virgilio un Orazio per far cerchi i confronti che mi sono necessari edizioni del Teubner mi raccomando che hanno le varianti di tutti i codici il Teocrito mi pare sia quello che porta le note del Fritsche dell'Orazio sono sicuro che ha le note del Müller e del Virgilio sono parimente sicuro che ha quelle del Cappes sono venuto qua senza libri non contando l'Orazio del Marrai un gengillo non un libro di studio e non contando il mio Dante il Babbo di tutti e non se l'abbia male nessuno c'è tutto in lui come nella Bibbia ed è sempre nuovo Dio di misericordia non si potrà dunque far meglio consoliamoci peraltro l'insuperabile è nostro italiano e quelli che di tanto in tanto gli voglio mettere a paro possono farlo con la voglia non hanno descritto né contenuto un mondo come il suo così pieno così vario così mirabilmente fuso del reale dell'ideale perciò non reggono alla prova cadono irreparabilmente con quella moda medesima che li aveva fatti sorgere alla gloria degli altari mi raccomando adunque Teocrito Virgilio Orazio e del Toibner per vedere tutte le varianti in quei passi che mi preme di confrontare e forse anche mi verrà voglia di tradurre non ti puoi immaginare come Giovi il tradurre come rifaccia la mano ci andiamo sbrandellando sfilacciando sbriciolando nella facilità della nostra lingua corrente che porta a dir tutto anche l'inutile e Dante ci richiama alla sobrietà efficace ma Dante è l'esempio occorre l'esercizio allora si traduce dal latino o dal greco si combatte a corpo a corpo con l'idea e con l'espressione che è l'è propria si acquista precisione si consegue agilità si ottiene fermezza vedi bene che non hai il capo alle donne che idee ti passano per la testa troppo breve tilagna ancora troppo breve ma che cosa dovevo io dirti di più per allungare l'epistola leggi quelle di cicerone e vedrai che il grand'uomo ne ha scritte d'ogni misura anche da roma capo del mondo e conoscendone tutti i segreti da cuma poi o d'altro dei suoi luoghi di villeggiatura non scriveva più lettere ma biglietti pagillares come dicevano allora da stare nel pugno e guai a stringere non se ne spremeva una goccia di sugo e cosa dovrò raccontarti io da corsenna la contessa quarneri mi dici e vedo che ti sta molto a cuore caro mio prega il marito di morire alle sue acque di san pellegrino passa da quel terribile spadaccino che sei sopra i cadaveri fumanti della sua guardia del corpo e sposala per me te la rinunzio mi ha chiesto dei versi per il suo albo dove non scrivono che amici che piena affrettati anche tu perché ci sono a malapena due pagine bianche io mi sono contentato di un angolo dove ho ricopiato per l'ottantesima volta il mio famoso sonetto del cigno dicono che è classico lei lo ha trovato stupendo ma tu che sei la storia di queste repliche qual prova più convincente vorresti della mia innocenza e della mia indifferenza è bella sì dio mio fin troppo bella è una di quelle donne che dicono alla gente guardatemi contemplatemi adoratemi in una città sono istituzioni monumenti musei si va a visitarle e si segna e si segna nel tacquino l'ho veduta compiango peraltro il custode di quel museo povero custode che ha perdute le chiavi e deve lasciare aperto a tutti i curiosi non capisco veramente come sia venuta quest'anno a Corsenna dove non ha modo di brillare a suo modo che il marito l'abbia mandata qui in punizione o per cautela certo non sarebbe stato bello che mentre egli era a curargli acciacchi a San Pellegrino la signora fosse a Rimini a Livorno a Viareggio sì deve essere per questo sono andato tre giorni fa a visitarla non tremare facevo il quarto per una visita sola può andare ma non ci cascherei la seconda volta né quarto né terzo né secondo Cesare aveva ragione arrivato l'ultimo nel salotto della contessa Quarnerici son pure rimasto un'ora buona per non parerle desideroso di fuggirla ho seccato della compagnia importuna e non di meno ho dovuto partirmene per il primo tanto quei tre anabattisti tenevano duro grazie dei libri che ho ricevuti ieri ho già incominciato a servirmene traducendo una saffica di Orazio te ne manderò un assaggio a suo tempo seppure sarò contento dei fatti miei e tu non vai in nessun luogo rammento la tua massima quando tutti se ne vanno in campagna l'uomo sapiente villeggia a largo in città è un'idea voglio provare un altranno ancor io 4 agosto 1800 e neanche la Wilsoncina no niente nientissimo che uomo sei tu che non ti basta neanche la parola fai anche le tue supposizioni sul fatto che io non la nomino sei troppo sospettoso a buon conto non sono io che te ne ho scritto se non t'accennavo io il suo nome un mese fa non ne sapresti forse l'esistenza certo ne ignoreresti la presenza in corsenna del resto sappi che la signorina non è il mio genere sono un uomo tranquillo io amico della pace e quella è un argento vivo mi pare una giovane baccante ed io vorrei Diana semmai la tacita dea delle selve correre divertirsi e giocare far chiasso al suo gusto ti par fatta per piacere ad un letterato sia pure un letterato dilettante come il tuo divotissimo servo senti questa dopo tutto e finisci di persuaderti l'altra sera passando per istrade incontrai tutta la comitiva delle signore e dei cavalieri che tornavano dal loro eterno lavorar di racchette costretto a rimanere qualche minuto con loro non mi lasciai fuggire l'occasione di dire del long tennis scarbatamente peraltro tutto ciò che ne penso e la graziosa Wilsoncina cinque minuti dopo trovò il modo di dire non so più bene a chi ma in guisa che io potessi sentirla ho osservato che il long tennis non piace ai grassi e che la caccia non piace ai miopi applica filosofo e la sa benissimo che non amo la caccia così m'ha dato ad un punto del grasso e del miope m'ha fatto due offesi che sarebbero mortali se io non fossi corazzato da un pezzo contro i motteggi delle fanciulle audaci come contro i vezzi delle signore cascanti sei persuaso dammi pace e lasciami tradurre da Orazio fine del capitolo settimo capitolo ottavo di Galatea questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol Galatea di Anton Giulio Barrili capitolo ottavo si torna al memoriale 4 agosto 1800 quel diavolo del ferri non ne passa una ma già per la Quarneri si sa da tutti che è venuta in Corsenna è uno di quei corpi luminosi che hanno tanto di strascico e lasciano il solco dovunque trascorrano quando non si vede più niente di loro nello spazio si sente che mancano e si vuol sapere ad ogni costo dove siano andati a parare gli astronomi del marciapiede ne studiano il corso ne determinano l'orbita come si fa delle comete della Wilson poi ho scritto io che sciocco e imprudente potevo dire una giovane villeggiante e ce n'era d'avanzo non bisogna mai scrivere nomi di donne neanche agli amici più intimi quello ora si immagina che io ne sia innamorato innamorato io io legno stagionato navigato provato ad ogni vento passato per tutte le acque quanti pericoli non ho affrontati quante cicladi quante sirti e sirene cantanti e scille latranti e cariddi voraci forse come il don Giovanni del campo amor sono passato accanto alla felicità senza vedermene ed ho lasciato intatto il suggello al dolce bigliettino in cui mi era promessa innamorato io ma che mi sento libero il cuore calmo tranquillo sereno lo spirito senza alcuno di quei turbamenti che accompagnano il nascere d'una passione studiamoci su analizziamo che è sempre il miglior modo di intendere la sintesi è troppo spesso una confusione certo considerando il primo principio della mia conoscenza con la signorina Wilson o per dire più esattamente del mio pensare a lei un carattere dell'amore si potrebbe rinvenire ed è il modo strano del nostro avvicinamento la prontezza quasi fulminea certo senza passaggi senza gradazioni di quella certa intimità che ci ha condotti ridendo a dirci ogni cosa più amena ma già molti giorni prima avevo conosciuta la signorina Wilson l'avevo riverita insieme con le altre villeggianti di qui e non m'aveva fatto un senso particolare tanto che trovavo carine le Berti e di lei non avevo pensato nulla tanto che trovavo bellissima la Quarneria anzi pericolosissima e per la Wilsoncina non m'era venuto in mente il più modesto superlativo neanche un gentilissima che si prodiga a tutte osservo che il suo genere di bellezza non è tale da colpire e forse bisogna vederla a lungo per esserne presi è sana forte e fresca ha la grazia della donna nascente sotto la scorza della fanciullona matta così avviene della Camelia si annunzia male sotto quella imbriciata di ruvide brattegia all'ognole che ne inviluppano il calice mentre il bocciolo della rosa si invermiglia delicato e piacente alla prima vista tra i sepali verdi che lo proteggono senza volerlo nascondere cerchiamo un altro paragone e non tra i fiori la signorina Wilson ricorda la ingenuità rusticana che tiene ancora un pochino della corteccia dei tronchi donde gli antichi hanno fatto sbocciarle a madriadi le quali poi dispiccate dalle fibre del legno nel dolce silenzio di una notte di primavera frementi di gioventù fosforescenti di bellezza corrono per l'ombra dei boschi escono nelle radure danzando lietamente al quieto lume della luna timidi sussurri intime fragranze occhi amorosi della natura che si rivolgono al cielo e d'una ninfa ha la persona snella ad un tempo e robusta d'una ninfa il portamento altero e i movimenti non senza eleganza impetuosi d'una ninfa la carne tra vermiglia e dorata l'indocile capigliatura corvina l'occhio curioso nella sua bella semplicità di nuova venuta ai misteri della vita la bocca fiorente umida e viva che il piacere non ha ancora dischiusa né ancora suggellata il dolore sì tutto questo andrà bene seppure non è un tantino arbitrario come tutte le osservazioni personali ma una cosa è fuori di dubbio che la strana forma del nostro primo incontro è quella che mi ha colpito e non altra ragione non altra questo è senza fallo uno dei caratteri dell'amore ma non basta ed un solo fiore non si può tesser ghirlanda sento o piuttosto riconosco che la signorina Wilson sarebbe una buona compagna di passeggiate vado con lei di qua e di là tutte le volte che ci incontriamo si riesce a fare insieme un'ora di cammino per forre o per balze con buci in avanguardia ride volentieri ed ha il riso piacevole comunicativo in sommo grado ha poi delle scappate che mi rallegrano come raggi di sole che splendano d'improvviso sull'erba passando tra il fogliame d'un bosco dice qualche volta confessiamolo pure delle cose che non rallegrano affatto e a cui bisogna far bocca da ridere per non aver aria di gente permalosa ma ella stessa si affretta a spiegarle ho detto per celia che uomo è lei che va in collera io signorina no davvero non sono andato in collera affatto quantunque esser chiamato grasso e mio petutto d'un colpo ah vede ne aveva avuto noia ed è grasso sì almeno non può prender posto tra i magri ma corre si arrampica resiste ad ogni fatica e questo non è da grassi quanto all'esser mio pelocreduto sa ma ora non ne sono più tanto persuasa e dubito che lo faccia apposta per ingannare la gente eccone un'altra che cosa intenderebbe dire con questa niente niente ho fatto per celia e ride ride non c'è verso di cavarne più altro e così come niente la trattiene niente la spaventa niente le pare impossibile o inammissibile neanche l'andare attorno con un uomo che non è suo fratello né suo zio e neppure suo cugino quel buon cugino che fa tanto comodo alle altre italiane ma in fondo in fondo non è italiana lei essendo inglese dal babbo e tenendo assai di quelle donne inglesi che erano già di doppia indole fin dai principi della stirpe vaporose e pensose come sassoni forti e imperterrite come angliche e danesi donne che ornano singolarmente la casa e corrono così volentieri le strade maestre donne che fanno il tè che hanno inventata la celeste mistura delle acciughe e del burro che hanno accolta a festa l'invenzione delle patate e ritrovato che tra i cento modi di servirle in tavola il migliore è ancora il più semplice di imbandirle all'esso per contorno della carne donne che sanno di stillare il rosolio di gooseberry come la moglie del vicario di wakefield e galoppare per il mondo come lady stanhope terribili come anna redcliffe appassionate come carolina lamb calze azzurre come lady worthley montague e come la contessa di blessington qualche volta con un granellino di pazzia sempre con due o tre di piacente originalità donne soprattutto da mandar sempre uniti i pregi più disparati del loro doppio carattere da portare in ogni luogo più inospite le confortevoli usanze della casa da prepararvi un tè sulla piramide di cheope o in riva al lago tanganica sulle sponde delle eufrate o sulle rovine di tello ah forse bisognerebbe che una buona e veramente efficace alleanza anglo-italiana stabilisse in due articoli il suo patto fondamentale articolo primo dal 1901 in giù per la durata di 50 anni gli inglesi non i sposeranno che donne italiane e gli italiani non i sposeranno che donne inglesi articolo secondo in capo ai 50 anni si vedrà se sia o non sia il caso di continuare ma che matto sono io io che non amo il tè starei fresco Kathleen già non la chiamerò più Kitty ciò la rende troppo minuscola Kathleen ha molto di Galatea ma di quale della Oraziana della Virgiliana o della Teocritea l'aura ziana a ben guardare non consiste che in due versi quelli che son caduti per istrana combinazione sotto gli occhi della signorina Wilson sii pur felice ovunque andarti piaccia e di noi Galatea memore vivi il resto è tutto un ripieno il poeta ha messi quei due versi con quel noi tutto suo tra tanta enumerazione d'animali di buono e di cattivo augurio e una diffusa descrizione del ratto d'Europa il qual noi è come una tenerezza nascosta da lasciarci pensare due cose che l'elia galla piaceva ad Orazio e che per piacere in quel modo ad un uomo di buonsenso come lui bisognava essere un fior di donna possedere il quid arcanum una cosa che a noi sfugge poiché egli non ha stimato prudente di dircela tradurrò certamente tutta l'ode e resterà una memoria dell'acqua ascosa come tante e tante altre che dormono nel cassetto dei ricordi poveri ricordi che qualche volta inorridisco a dirlo non mi ricordan più nulla è forse la Galatea Virgiliana appare anch'essa in due versi di Dameta che fa agli strambotti con menalca come due capri farebbero a cozzi in un prato ricordando la scena del San Donato si potrebbe tradurre così un pomo in sulla testa matta fanciulla galatea massesta e se ne fugge via fra i salci ed ama esser veduta in pria gran birichina quella Galatea di Dameta ma anche piena d'ingegno e di grazia nel suo discorso infatti il daino continua o dolci parolette che tante volte Galatea mi ha dette vorrei che un saggio il vento ne portasse agli dèi del firmamento sì questa è la Galatea che mi piace ma la mia non potrebbe essere quella di Teocrito amata pazzamente da Polifemo e invaghita del giovane Aci sventuratissimo Polifemo quanti caldi sospiri quanti ardenti proteste quante vane querele che Ovidio ha raccolte e non paion troppe al bisogno in quella stemperata fuga ad esametri delle sue metamorfosi che farci egli è la scarmigliata vecchiaia ed Aci è la florida gioventù inoltre il disgraziato Polifemo ha un occhio solo quasi a significare la sua vita dimezzata nel mezzo del cammin di nostra vita non ci sono ancor io Dante da strapazzo ancor io Galatea è invaghita di Aci non può essere altrimenti se un Aci non è ancora capitato mettiamo pure che non sia molto lontano per fortuna non amo Galatea quattro chiacchiere più garbate più amene che mi vengano fatte ora e sempre ma niente di più vediamo intanto quest'Aci non potrebbe essere Terenzio spazzoli non è bello e ci corre oddio e che significa ciò è la mia opinione dopo tutto e si è sempre visto piacere alle donne quello che a noi pareva un becco di cutrettola un muso di pecora un ceffo di cane già le donne badano molto al figurino anche quelle che non lo vogliono ammettere e quelle che non lo confessano neppure a se stesse Terenzio è sempre all'ultima moda in ogni cosa dal capo alle piante sia fuori o in casa in piedi o a letto un prodigio e poi vecchi e giovani per piacere bisogna sapersi mettere a pari con quei che piacciono io mi lascio andar troppo giù la mia semplicità potrebbe passare ma a patto che non paresse negligenza per fortuna ripeto non amo Galatea e non soffro niente a pensare che ci ha avuto un segreto in comune con Terenzio spazzoli anzi due segreti il canestro del caffè e la cesta del long tennis respiro questa analisi mi ha fatto bene posso andarmene a letto tranquillo fine del capitolo ottavo capitolo nono di Galatea questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol Galatea di Anton Giulio Barrili capitolo nono il castello dei Burattini 6 agosto 1800 perché non è venuto ai Burattini iersera a perbacco esclamai battendomi la fronte se n'era dimenticato belle cose dimenticato io dei Burattini come si vede che non mi conosce ma non sa che li adoro sì è il verbo adatto e lei dica pure che è un'iperbole mia delizia della mia infanzia sorriso della mia giovinezza memore dilettazione della mia maturità i Burattini hanno sempre avuto un fascino strano su me cari fantocci di cenci con la testa di legno che da ragazzo mi parevano uomini e più mi paiono uomini quanto più minoltro nell'esperienza del mondo sempre quelli sempre maneggiati da un Burattinaio invisibile dietro la tenda per dire e per fare mai sempre le medesime cose con quelle loro smorfie intagliate fissate irrigidite nella sorda materia e noti signorina quelle smorfie sono le loro qualità e le loro virtù i loro difetti e i loro vizi un po' contraffatti ma per eccesso di significazione che è pur necessario a darci da lontano l'apparenza del vero e riescono tanto evidenti così non c'è modo di scambiarli gli uni per gli altri né da crederli diversi da noi la nostra sciocchezza è la nostra viltà le nostre astuzie e le nostre piccinerie tutto ciò che siamo e tutto ciò che sentiamo hanno la loro espressione chiara sicura e efficace in quelle facce di legno tutto il teatro e per conseguenza tutta la vita è là dentro e non c'è più nulla da aggiungere come è giunto l'uomo per qual'arte divinatoria per qual lampo d'ingegno a immaginare il burattino ed è così antico oramai ma nessuna maraviglia di ciò è pure antica l'iliade c'è stato un tempo molto lontano da noi che l'uomo ha veduto inteso e potuto esprimere artisticamente se stesso quello è stato il gran punto in quel giorno tutto è stato creato nella filosofia nella morale e nell'arte tutto capisce tutto tranne la polvere da cannone la stampa la strada ferrata e il telegrafo quattro arnesi di utilità ne convengo e non sarò venuto al mondo io per dirne male voglio dire piuttosto che sono cose piccine mentre tutte le cose alte e grandi che per via della rappresentazione hanno raggiunta l'intelligenza della vita avevano già da duemila anni forse da tremila la loro estrinsecazione miracolosa il loro svolgimento felice il loro ufficio rinnovatore nel mondo la signorina Wilson mi lasciava dire ero in vena ed ella non voleva trattenermi forse ha imparato a conoscermi ed ha preso l'abitudine di lasciarmi sfogare il che dopo tutto mi fa piacere e vuole essere una delle ragioni che me la rendono simpatica l'uomo che ciancia bisogna lasciarlo cianciare egli si persuade di piacervi e piacete tanto più a lui quanto più state a sentirlo ma non bisogna distrarsi quando egli ha sciolto giordano povero a voi se egli si ferma per domandarvi approvazione e voi siete col capo ad altro io per esempio quando mi fanno un discorso troppo lungo penso volentieri ai fatti miei ma uso l'avvertenza di collocare ad ogni tanto un già un sicuro un è proprio così che mi vengono naturalissimi facilissimi senza bisogno di studiarci guardatevi peraltro dalle interruzioni che escano dai generali a me accadde un giorno di collocare un e lui che fece rimaner male l'amico ma che lui mi gridò egli stizzito ti parlavo di lei ah sì è vero rimediei alla meglio è stato un lapsus lingue torniamo alla signorina Wilson che mi aveva lasciato dire a mio posta e poi soggiunse con accento malinconico il burattinaio ha fatto capolino tre volte dalla sua tenda cercando con gli occhi in giro nel suo auditorio pareva il patriarca Noè quando mise il capo fuori dal finestrino dell'arca per vedere se il corvo fosse ancora tornato ma il corvo non c'era ah me ne dispiace creda me ne dispiace e a me più di lei sono una ragazza e non ho la borsa troppo gaia la mamma del resto non mi lascerebbe fare la bella follia che ha fatta lei l'altra sera ah come l'avrei dato volentieri io quello scudo signorina le ha fatto piacere ne sono contento più ancora degli occhi sbarrati della burattinaia quando vide il mio biglietto da cinque nel suo piattellino di stagno ma dica non c'erano dunque cavalieri alla rappresentazione di iersera tutti non mancava che lei ma non vogliono andare in rovina quei là due soldi appena mi capisce due miseri soldi e si scusano con una buona ragione quei signori dicono che il burattinaio manda la moglie in giro tre volte e che tre volte due soldi fan sei e sei per ognuno dei tre satelliti della contessa fanno diciotto soldi in una sera che scialo i satelliti ripeté la signorina wilson ridendo senza averne voglia è strano che le siano venuti in mente quelli oh non faccia caso volevo evitare terenzio spazzoli il mio divo terenzio che fa bene ogni cosa buono quello e lei gli è molto amico non è vero sì dopo la trovata del caffè le confesso che mi è entrato in grazia chi la sentisse signor morelli e chi sentisse lei signorina quando mi dice che gli son tanto amico questo il dialogo corso oggi tra me e la signorina kathleen io veramente non avevo dimenticato il burattinaio venuto la sera del quattro ad arsaggio della sua abilità in corsenna ma lo avevo creduto ciel di passo che dovesse contentarsi di una sola rappresentazione e portar la sua baracca altrove perciò volendo scrivere e ordinar le mie note ero rimasto a casa non bisogna neanche star troppo ai fianchi della gente pensavo e voi signor Bucci per questa sera rimarrete in camera a far ballare eternamente la sedia lo spettacolo dell'altra sera gran novità annunziata a suon di tamburo per l'unica via del villaggio aveva tirato in piazza tutto il popolo dei corsennati la colonia dei villeggianti si era commossa di desiderio in campagna par sempre di annoiarsi e si corre volentieri a tutti gli svaghi mi avevano incontrato preso in mezzo e condotto a teatro cioè a dire in piazza dove si stava pigiati su certe panche d'osteria davanti ad un castello di burattini illuminato da due lampade fumose a petrolio la povertà del burattinaio mi aveva fatto pena contando così a occhio e croce i soldi che la sua donna veniva raccogliendo negli intermezzi dalla bontà di lor signori pensai che quei poveri diavoli non avrebbero intascato due lire donde era poi da detrarre il prezzo di locazione delle panche e il costo del petrolio non restando forse una lira alla fabbrica dell'appetito preso dalla compassione alla seconda tornata della burattinaia avevo fatto scivolare un biglietto da cinque lire nel suo piattellino sperando che la cosa non fosse osservata da nessuno in quella mezza oscurità della piazza ma la burattinaia avvezza a vederci di notte come i gatti e costretta a tener d'occhio quei pochi per timore che i monelli scambio di darne lavorassero a ghermirne si era bene avveduta della mia generosità si era fermata a guardare il biglietto poi me che dovetti parerle un principe travestito tutto ciò aveva dato tempo alla signorina Wilson che mi sedeva d'accanto di vedere a sua volta nel piattellino quanto a me non avevo creduto di far niente di strano tra le cose avrei giurato che Terenzio Spazzoli desse almeno una ventina di lire e signore si divertivano tanto a quello spettacolo inaspettato non bisognava forse pagarle quelle buone scappate di risa argentine ma niente due soldi tre soldi forse anche più argentini delle risa sullodate i due soldi e da non poterli spendere niente di più anche il mio divo Terenzio Spazzoli due soldi buono quello e nel sarcastico epifonema della signorina Wilson l'amico inarrivabile ci ha avuto il suo conto saldato in verità gli egoisti che sanno spendere solamente per se stessi e tutto si mettono sulla persona non sanno quel che si facciano ripeto io non sapevo che ci fosse ieri una seconda rappresentazione credevo che il burattinaio fosse di passaggio in Corsenna avviato a qualche borgo più importante e più capace di intenderlo vuol far la stagione qui e sia ho promesso stamane alla signorina Wilson di non mancar questa sera ed ho mantenuta la parola intorno alle otto grande stamburata per l'unica via di Corsenna non tengo conto dei vicoli delle traverse si capisce il cartellone appeso alla facciata del palazzo comunale annunzia Griselda di Saluzzo ovvero sia la moglie obbediente e il marito stravagante con Fasolino Armigero Bolognese la favola è patetica nel Decamerone sai Dio come l'avrà conciata il burattinaio ho osservato ier l'altro che il suo Fasolino è un po' sboccato per piacere e volghe si intende ma non sapendo distinguere tra chi lo paga in applausi e chi gli dà la mancia più larga perciò lasciate un momento le signore ho rincorso l'uomo del tamburo l'ho tratto in un vicolo e gli ho raccomandato di dir meno parolacce e di somministrar più legnate sarà contento dice il burattinaio a cui brillano gli occhi poiché mi ha riconosciuto per quel dello scudo ci ho Fasolino in una parte tutta dal ridere Fasolino che scampa dai ladri e poi dalla giustizia bene mi raccomando legnate a tutti tante legnate da far piangere gli occhi dal ridere e badate voglio vedere molti morti accapastati sulla ribalta non dubiti illustrissimo ci passerà tutta la compagnia quanto guadagnate gli ho chiesto prima di congedarlo ah signore una miseria iersera che lei non c'era appena una lira e venti poveraccio iersera i miei cavalieri hanno dunque lesinato perfino i due soldi una lira e venti rispondo c'è da morire io per questa sera ve ne do dieci sì dieci ed eccole qua ma ad un patto comandi illustrissimo comandi che questa sera non mandiate attorno il piattellino della buona grazia regalo io la rappresentazione stasera è resto incognito ci intendiamo non dubiti che il cielo la benedica la Griselda ha molto divertito il buon popolo di Corsenna ed anche in certi punti lo ha commosso non così la colonia dei villeggianti a cui pare giustamente che il patetico non faccia buona prova con le teste di legno del resto non potendo far dire delle cosacce al suo fasolino il povero burattinaio ha perso la metà dei suoi effetti di chiaroscuro che importa ha fatto un maggiore effetto non mandando in giro la moglie col piattellino di stagno che novità è mai questa si domanda nei posti distinti è forse ammalata la povera donna ed io che avevo i miei soldi qui pronti ed io ed io vuol rinunziare ad una bella somma il brav'uomo a un certo punto cresce l'effetto è sbalor di toio senz'altro si presenta fasolino alla ribalta sipario calato fra il quarto e il quinto atto del dramma e così prende a parlare agitando in aria un mattarello più grosso della sua testa e lungo quattro volte la sua smilza persona colto e rispettabile pubblico e inclita guarnigione cari ed amati ragazzi speranze di corsenna av salute sì dico vi saluto ora si darà l'ultimo atto della griselda di saluzzo che come avete ben capito è opera di una storia eminente dello schiaccia spie niente di meno e se non per annunzio bene il suo riverito nome pensate che sono un povero diavolo senza ostruzione e l'inglese lo parlo ma non lo intendo dopo questa produzione dell'immortale scappa via si farà la farsa e ve lo dico perché non scappiate voi altri farsa tutta da ridere tanto che ve ne piangeranno gli occhi come si è degnato di dire un grande astore di mia conoscenza auricolare fasolino che sono poi me sarà in guerra con i ladri assicini e poi con la giustizia con trionfo finale dell'innocente che sono poi sempre me e questo sia per saluto di ringraziamento a questa nobilissima città di corsenna alla quale si leva l'incomodo questa notte per viaggiare dei gran signori col fresco rappresentazione tutta gratis ma non si grattino quei ragazzi laggiù perché anstamia bene si dico non sta bene in società alla presenza di un illustre personaggio al quale faccia tanti rispetti e viva sempre la sua bella fazza si dico la suva degna persona che ha tanto buon cuore per i poveri diavoli traditi dall'infame destino io non ero nato credetelo per vivere così mendicando la vita frutto a frutto nelle campagne e restando senza frutti quando alla cattiva stagione sono figlio di gran signori caduti in miseria per causa della loro generosità che loro a chi davano e a chi imprestavano e quando imprestavano mi capite non riavevano più la testa d'un baiocco i miei antenati erano padroni di Ravenna avevano un palazzo in città ed un castello fuori chiamato per l'abbondanza della grazia di dio il castello di Polenta ora come vedete non conservo più che il mestone col quale avsalut macchinista sui il sipario e risplenda la reggia di saluzzo agli occhi dell'ottonito riguardante ci abbiamo speso un capitale il colto pubblico sghignazza l'inclita guarnigione assente com'è non può partecipare a tanta allegrezza io sentendo l'accenno all'illustre personaggio son rimasto un po male ma un gomito sinistro sfiora gentilmente il mio gomito destro divina fanciulla se tu l'hai fatto apposta sii benedetta e concedimi il bis chi sarà mai questo personaggio che paga per tutti domanda la contessa quarneri eh s'indovina risponde la signora berti terenzio spazzoli a lui si rivolgono tutti i concenni di complimento terenzio spazzoli sorride come buci senza schiudere i denti abriccone ma sia come ti pare io non ho bisogno delle mie penne vestitene pure cornacchia questa sera finita la rappresentazione e mentre si ride ancora delle legnate con cui fasolino ha accoppato i ladri assissini la vecchia manutengola l'usciere che va a citarlo i gendarmi che vanno ad arrestarlo i giudici che vorrebbero condannarlo la signorina Wilson mi ha detto come sono stata felice e come è delicato lei signor Morelli scommetto che per essere tale del tutto ha dato questa sera due scudi non uno è vero signorina ma sa lei perché non mi par difficile intenderlo per riparare alla mancanza sua di ieri sera no s'inganna posso aver mancato verso le signore rimanendo a casa quantunque a dire la verità poteva trattenermi benissimo il pensiero di essere importuno ma al burattinaio non ero debitore di nulla fu dunque e la prego di crederlo per un'altra ragione quale? indovini non ci arrivo me la voglia dir lei non posso è una ragione che se uno non la indovina l'altro non la può dire ebbene proviamo dissella dopo un istante di pausa lei ha dato due scudi per associar qualche d'uno via diciamo pure il nome per associar buci alla sua opera buona buci veramente mormorai ma sia diciamo pur buci tanto egli non avrà da saperne nulla e zitti e buci birichina come ha saputo accoccarmi anche questa ma è una mela fragrante dopo tutto non una palla di gutta perca queste sono oramai per te divo terenzio spazzoli buono quello buono quello e portalo a casa ho scritto tutto rileggo e mi pare che ce ne sia d'avanzo non si direbbe infatti che sono innamorato eh via questo poi no galatea è una graziosa ninfa piacevole a quel dio e sarebbe un'ottima compagna per un lungo viaggio ma non a te vecchio barbone che sei godi da saggio epicureo il tuo sorriso di gioventù il tuo granellino di dolce follia ma guai a fartene un albero capisco finalmente che certe ubriacature passano presto son come lo champagne a queste care figliuole un po' di spuma e buonanotte domani sarà di giorno ma no poi perché questi ragionamenti volgari ma no come no non sarà dunque di giorno domani al diavolo le incertezze non vorrei mica essere stregato non vorrei mica impazzire fine del capitolo nono x galatea la gloria è a buon mercato in corsenna per quindici lire buttate via son salito in grande estimazione presso le signore che buona occasione ha perduta Terenzio Spazzoli di apparire un uomo perfetto ora egli ha una macchia nel suo blasone un'ombra nella sua luce la contessa Quarneri non è rimasta ingannata dalla supposizione che alla signora Berti era piaciuto di fare e non crede affatto che il divo Terenzio sia stato il protettore del povero burattinaio il mecenate delle arti il dator di spettacoli in piazza me lo ha detto ella stessa la luminosa contessa e in quella occasione con bel garbo di confidenza signorile ha preso a darmi del voi cosa che mi piace e non mi piace ad un tempo mi piace perché suona bene non mi piace perché farà credere Dio sa che cosa quando gli altri osserveranno la novità del trattamento che sembrerà un abbandono delle antiche cerimonie ma così vogliono le belle e non c'è da resistere diamoci pure del voi non siamo amici forse mi ha detto specie dopo che come amico mi avete dato dei versi ah sì mi ricordo benissimo che come tale sono stato ammesso nell'albo e come tale anche difeso da lei è infine una gentile signora possiede una cultura molto superficiale tanto da non sapere due settimane fa che il leopardi è morto ma che per gustare le bellezze d'un poeta è forse necessario di conoscerne la vita quella è scritta in prosa e la contessa non si rovina gli occhi nella prosa ecco tutto le donne di solito non sanno niente di storia letteraria Dio buono e chi ne sa intorno a loro Terenzio Spazzoli conosce la letteratura francese modernissima per aver letto dei titoli e qualche pagina dei libri parigini conosce la russa per sentita dire e solo perché i romanzi russi sono passati dallo staccio di Parigi vuole oggi psicologia nei libri come qualche anno fa avrà voluto fisiologia e patologia psicopatia patopsichia o d'altra con simile tautologia senza sapere da dove si cominci se nel romanzo è russo nel teatro è scandinavo per moda deve averglielo suggerito quel po' di testo che accompagna il suo figurino nel giornale dei Sarti non sanno più addentro o pretendono a saperne i tre satelliti della contessa uno dei quali è decadente e fa delle rime impossibili ha perfino stampato un volumino ino ino ma di gran margine che nessuno ha letto anzi no dico male lo han letto moltissimi ma non lo ha comprato nessuno onde un'ira feroce dissimulata sotto un olimpico disprezzo contro la letteratura alimentare che cosa ha veduto di alimentare nel mio cigno per dirne tanto male nel salotto della contessa se fosse stato un'oca pazienza capirei ma un povero cigno tiglioso e stoppone via non meritava tanta durezza di giudizio la contessa ha dovuto riprenderlo e so che l'ha fatto con una grazia tutta sua che non escludeva la forza la contessa ha buon gusto e se non sa certe cose che importa è tanto bella che avrebbe perfino il diritto di non sapere nulla al mondo mi ha invitato da capo al suo villino ma non mi sono lasciato prendere Galatea direbbe con ragione che mi ha dato a fare il quarto poi quei tre compagni mi annoierebbero so far bocca dal ridere anche ai nemici ma non sopporto i noiosi in larga compagnia all'aperto son gocce d'inchiostro che s'affogano in un secchio d'acqua e non la tingono troppo in un salotto loro tre su cinque presenti e sedenti dovrebbero essere una morte sola e continua l'altra sera la signora contessa ha invitata tutta la comitiva di san donato a prendere il tè in casa sua anche qui mi sono scusato ma qui ci avevo almeno un'altra ragione abbastanza ridicola e imperiosa non di meno ineluttabile perentoria figurarsi non avevo ricevuto ancora dal mio sarto un tutto vestito di stoffa inglese che mi è necessario e che io ho dimenticato di portare per le mezze parate non prevedendo tutti questi perditempi quotidiani gli abiti che ho con me in corsenna vanno mattamente da un estremo all'altro o di gran parata e non è il luogo nell'uso di questi giovanotti o di tela d'alpaca e che so io fatti a giacca e non possono andare che all'aperta campagna miserie lo so ma di queste si vive e il tutto vestito grigio non m'è arrivato che ieri quando l'occasione era passata alla signora peraltro non era passata la collera per la mia diserzione per il mio tradimento come ha voluto chiamare una semplice assenza ha scoperto anche lei il mio dolce rifugio dell'acqua ascosa senza averne la topografia esatta ci si è accostata di molto e ad un'ora insolita andando a diporto tutta sola ha presa la via del mulino dove mi ha combinato proprio allora col mio teocrito in tasca andavo a cercare il mio covo e qui complimenti si capisce maraviglie ed ossequi da parte mia che non potevo far altro qualche bottata da parte sua finalmente la pace m'hanno detto incominciò essa allora con la sua vocina insidiosa di sirena che di là dal mulino c'è un luogo ombroso stupendo e che voi lo conoscete volete farne parte anche a me come dire di no minchino e l'accompagno si risale la strada a fianco del mulino e della sua ruota immane mostro che dorme in quest'ora mezzo al sole e mezzo all'ombra della sua buca tutto vestito d'erba viscida lungo le pale nerastre là dietro si passa sopra un ponticello di legno che corre tra la ruota e la gola del bottaccio mettendoci dall'altra banda su d'un robustissimo terrapieno a scarpa levato ad argine tra l'acqua alta e la prateria che va giù a conca scendendo sempre e dilungandosi verso il gran viale dei pioppi per un tratto dove è più profondo il serbatoio l'argine ha così larga la cima che ci si passa comodamente in due ma più in là dove il bottaccio incomincia a restringersi la ripa si restringe anch'essa via via non si può andare tutte e due di fronte ed ella è costretta ad appoggiarsi sulla mia spalla ma che dico appoggiarsi vi s'aggrappa per disperata come una bella spericolona al braccio del robusto bagnaiuolo che l'ha in custodia sulla spiaggia di Livorno o di Rimini già aveva tremato un pochino al passaggio d'un secondo ponticello che cavalca la chiusa donde il bottaccio si scarica quando non lavora il mulino ma qui è un tremar continuo dovendo andar noi sulla ripa alta e stretta con l'acqua profonda a manca e la prateria molto bassa a diritta volete forse tornare indietro le dico no mi risponde con un brivido che parrebbe far contro alle parole il pericolo ha le sue attrattive avanti dunque con le attrattive ma l'ha in paccia il suo ombrellino da sole e da pioggia il suo en tout cas come ella lo chiama e che prendo io in governo l'ha in paccia il suo gran ventaglio che le ballonzola sulle ginocchia e che io metto accanto all'ombrellino facendone tutta una manciata l'ha in paccia la gonna troppo lunga di cui non posso io ugualmente raccogliere i lembi e che bisogna lasciar strascicare sull'erba si va a passi lenti e corti inframmezzati da lei di piccole strida e di larghe risate da me per farle coraggio mentre ella così serrata sulla mia spalla mi involge tutto in un profumo di pelle di spagna soave delicato inebriante davvero basta come dio vuole eccola in salvo la ripa su cui si procede è sempre angusta per due ma siamo giunti dove la prateria sottostante risale risale sempre più per venir quasi a filo dell'argine e non c'è più pericolo di capogiri il sentieruolo lasciandolo scoperto si ficca dentro alla piantata delle carpinelle ed eccoci inselvati con l'acqua sussurrona che ci corre d'accanto e di là dall'acqua le falde del monte che salgono vestite di borraccina ed eriche nane sotto la guardia e l'ombra dei vecchi castagni come folto qua sotto esclama la contessa chissà trovarci è bravo non dubitate ancora pochi passi e si riesce al chiaro o non mi dolgo già di quest'ombra c'è così fresco voglio dire che troveremo più rado il fogliame ed ombra ce ne sarà ancora abbastanza queste carpinelle girano tutto intorno fino al punto dove la montagna fa uno sprone sull'acqua laggiù saremo più a largo e vi parrà di respirare un po' meglio eccoci infatti allo sprone la balza viene giù tagliata a picco e sarebbe troppo brulla come una cava di pietre se due o tre semi di frassino non fossero volati ad allogarsi tra i crepacci per venir fuori in giovani piante che spurgono ad ombrello e rompono pittorescamente la nudità della roccia il luogo è bello e le piace disgraziatamente non c'è da sedere eh lo so ben io dove c'è da sedere ma mi secca un pochino di doverla guidare fin là non di meno poiché io non son più padrone di tornare indietro si prosegue lungo la sponda del rivo si scende ancora un poco dove l'acqua ritorna a mostrarsi arginata eccolo lì il mio rifugio passo davanti al mio arginello erboso e fiorito ma senza guardarlo per timore che gli occhi tradiscano le mie tenerezze o teocrito esclamo dentro di me qui volevo venire per leggerti pazienza non è vero pazienza per me quanto a te vecchio siracusano andato ad ammorbidirti fra le graziette alessandrine scommetto che se tu potessi uscire vivo e sano dalle pagine del tuo signor Teubner vorresti essere al mio posto e filar qui un graziosissimo idilio frattanto la contessa ha trovato da sedere e lì, proprio lì, si ferma sui due piedi gridando ecco un buon posto non è forse il vostro, Morelli? io non ho mai saputo mentire senza farmici rosso e perché ella mi guarda ed io non voglio arrossire rispondo sì, è questo per l'appunto bene, sediamoci dunque e datemi il ventaglio, vi prego se volete vi lascerò l'entucca sorrido dentro di me parendomi d'essere il quarto satellite e mi siedo accanto a lei col suo ombrellino tra mani è veramente un bel luogo è molto poetico dissella dopo aver guardato in giro con aria di somma compiacenza ma non da venirci da soli io ci avrei paura da sola è sicurissimo, risposi Corsenna non è un nido d'aquile ma non ci sono neanche avvoltoi poi qui dietro a cento passi c'è un casale con quattro o cinque famiglie di contadini tutta bravissima gente Dio sa, ripigliò la contessa seguendo il suo filo e non il mio quante coppie felici saranno venute qui a dirsi tante belle cose peccato che non ce ne rimanga l'eco possiamo immaginarcele, contessa del resto si può domandarne a quelle farfalle che passano o a quegli uccellini che si rincorrono tra gli alberi pensando che noi siamo una di quelle coppie felici non è così? disingannatevi uccellini del bosco soggiunse la contessa con accento tracomico e patetico il signor Morelli è un solitario che si ritrova qui accompagnato per caso e rideva e risi ancor io o non ci sarebbe da ridere soggiunse ella sforzandosi di farcipiglio che cos'è questa vostra maniera di fare Morelli perché non avete voluto venire a prendere il tè l'altra sera in compagnia di tutti i nostri buoni amici perché non volete mai rifar la salita del roccolo è tanto breve lo sapete essendoci stato una volta vi spiace il nome? spiace anche a me lo cambieremo anzi studiateci e datelo voi non ho fantasia io e ne sarò felicissima ci penserò ah bene ma ci verrete non è vero per carità non mi condannate a questa condizione spiacevolissima di vedere in casa mia solamente i noiosi scusate signora ma se io avessi proprio temuto di far numero con questi sarebbe stato un timore indegno di voi replicò la contessa confessate piuttosto tanto mi ripugna di ammettere che potesse spiacervi la padrona di casa confessate piuttosto che i suoi eterni visitatori vi seccano ah quelli poi se mi date licenza mi sfogo quelli poi mi fanno perder le staffe non ho mai visto più molesti come chiamarli lasciamo il sostantivo certo l'alighieri non li avrebbe chiamati mai graziosi né benigni bene bene così mi piacete sincero ancor io son tutta impastata di sincerità e vi seccano dunque come seccano me un momento mi è parso di avervi capito quell'unica volta che siete venuto a vedermi siete rimasto un'ora e nessuno di quei signori che c'erano già da due ore si è mosso tanto che voi ve ne siete andato prima di loro già fanno sempre così sospettosi con tutti ed anche peggio tra loro se resto la sera a casa suonano le dieci suonano le undici e nessuno si vuol muovere per il primo cosicché io sono costretta a congedarli in massa è una persecuzione qualche volta casco dal sonno e non se ne vogliono accorgere molesti animali avete detto bene Morelli veramente non avevo osato di proferirlo il sostantivo che li definisce di solito e senza cercare molto addentro nel sentimento che destano io li chiamo tra me e me i vostri satelliti se Giove in cielo ne ha quattro perché non ne avrebbe tre l'astro luminoso di Venere non badate signora mi è venuto così spontaneo che avreste torto a non lasciarlo passare il vostro caso del resto non è nuovo nella storia si è dato il simile tremila e più anni fa nell'isola d'Itaca ed è toccato alla regina Penelope che ce n'aveva un bel numero anche lei che non le davano tregua ma un giorno capitò Ulisse a casa e li conciò per le feste se uno di questi giorni imitando Ulisse il savio conte Quarneri la contessa mi mozzò le parole in bocca con una matta risata ah sì proprio credereste che bisognasse ricorrere a questa estremità non so siete giudice voi risposi un tantino mortificato del resto anche senza chiamarlo e volendo pure liberarsi dai satelliti seccatori si potrebbe annunciarlo come prossimo ad arrivare e si vedrebbe l'effetto che fa resterebbero male lo capisco replicò la contessa ma intanto resterebbero fino all'arrivo e non arrivando lui seguiterebbero a non muoversi capisco o mi par di capire che la luminosa contessa mi faccia questi sfoghi per chiasso e che nel fondo sia molto contenta ad esser seccata questi assedi ostinati piacciono alle donne belle come se si leggono bene le storie dovevano piacere alle antiche città quando avevano buone mura e viveri dentro per durare anche a dieci e vent'anni di investimento ma la contessa non è ancora sazia di ciance e vuol proprio che io pensi al caso suo non avete altro consiglio da darmi soggiunse con tutta la vostra fantasia ecco signora la mia fantasia è una povera cosa ed i consigli non può offrirvene che due il primo che va dato era il consiglio classico ma non vi è parso buono passiamo al consiglio romantico ma vi avverto che dopo questo io non saprei più che cosa trovare per il vostro bisogno sentiamo sentiamo il consiglio romantico gridò ella battendo le palne con gioia infantile son veramente curiosa ci ho gusto contessa e spero che questa volta sarete anche persuase incominciate dal figurarvi che io sia voi ciò sarà molto stravagante e per conseguenza molto romantico ho il vostro en tout cas se aggiungeste per grazia somma il vostro ventaglio così facendomi vento parlerei in questa forma ai miei satelliti signori miei dilettissimi sapete voi che stanotte non ho potuto dormire ho passato il mio tempo pensando a voi altri quei cari giovani dicevo tra me e me perché veramente siete cari tanto cari che io non so quale sia il più caro tra voi o questo poi gridò la contessa o questo o d'altro ripresi il proemio sia pure a vostra scelta purché ci sia l'essenziale secondo il parer mio e l'essenziale è di dire ai satelliti signori miei perché non pensate ad accasarvi è un ottimo stato il matrimoniale io l'ho scelto e me ne trovo felicissima imitate l'esempio mio e sarà una prova di bella amicizia anzi vedete avevo stanotte pensato anche a trovarvi la sposa ci sono tre berti in corsenna una per uno e tutte e tre molto carine tanto carine che io veramente non so qual sia la più carina delle tre volete faccio io la domanda per voi ah bello bello magnifico stupendo ed anche romantico sì molto romantico gridò la contessa arrovesciando le spalle sull'argine e ridendo a più non posso ma se non accettano oddio se non accettano tanto peggio per loro risposi del resto io faccio un dilemma o sono giovani di cuore e di spirito o solamente di spirito mi ripugna di aggiungere un corno all'argomentazione e di crederli sciocchi se hanno spirito e cuore accetteranno il vostro consiglio perché in verità le tre berti sono molto carine e possono far la felicità di altrettanti figli d'adamo in questa valle di lacrime se sono solamente o niente affatto di spirito tutti e tre prendono ventiquattro ore di tempo a rispondervi ma in quelle ventiquattro ore fanno le valigie prendono un biglietto alla prima stazione di strada ferrata e vanno a farsi impiccare altrove vi torna si si ottima idea quantunque io non voglia fare l'esperienza precisamente nella forma che voi proponete e per cui ci vorreste voi signor rinaldo col vostro modo curioso di farvi vento ma vi sono grata sapete vi sono gratissima e qualche cosa di simile a ciò che voi avete immaginato certamente farò mi stese la mano così dicendo e strinse forte la mia era contenta di me ed io incominciavo ad essere contento di lei tanto che dimenticavo perfino la storia del povero leopardi e re canati quand'ecco il quand'ecco è diritto in questi casi si sente un fruscio tra i rami bassi delle carpinelle e un cane mi sbuca di là buci l'eterno buci il mio satellite che ride e mi fa impallidire e tremare quella mattina non avevo badato a lui che non era in casa ed io non mi ero dato il pensiero di cercarlo buci aveva saltata la siepe dell'orto secondo l'uso suo e dei suoi pari benedetti cani prima era sempre con me e per venire con me per essermi alle calcagno dovunque andassi risicava le busse del suo padrone ogni sera adesso che sta con me va sempre con gli altri e quando è con gli altri non ha pace finché non li guida sulle mie tracce da tanti giorni non venivo al rifugio dell'acqua scosa ed ecco proprio la prima volta che ci torno buci mi viene a scovare e sicuramente porta qualche d'uno con sé tutte queste cose pensai o piuttosto vidi in un attimo e il pensarle e il vederle mi alterarono in faccia che c'è disse lei nulla vi prego alzatevi e venite via perché ve lo dirò poi venite via dove lo saprete ma venite senza perdere un minuto secondo ma che debbo temere che mi trovino qui disse l'avviandosi ebbene non sarebbe già bello risposi trascinandola ma io non ho paura ad esser trovata con voi con un gentiluomo con un cavaliere grazie ma venite più svelta vi supplico comandate obbedisco e prese il mio braccio per correre più spedita io avevo fatto un gesto a buci come per dirgli che andasse all'inferno ma egli non lo capì gliene feci un altro per accennargli che mi precedesse ed egli capì quello finalmente la contessa muoveva frettolosa al mio braccio si giunse ad un punto del sentiero dove o per il fogliame degli alberi o per la piega del monte non si vedeva più il posto dove eravamo stati a sedere laggiù incominciai a riprendere il fiato che uomo siete voi mormorò la luminosa contessa un altro al vostro posto un altro interruppi sarebbe uno sciocco o un mascalzone io non sono nell'uno nell'altro venite ancora pochi passi e saremo fuori del tiro si costeggiava la sponda del canale sempre in mezzo alle piante ad un certo punto incontrammo l'ostacolo che io già conoscevo una casa di contadini che cavalcava il ruscello e qui una delle due o passar l'acqua inerpicandoci tosto per un orto a scaglioni risalire di là ai casali di santa giustina e sparire di là per riapparire al bisogno donde ci paresse meglio con aria di persone a di porto sud una strada scoperta o scendere dall'altra parte della pescaia e arrivare al greto del fiume dove ci avrebbero veduti indovinando anche come e perché ci trovassimo là no niente al fiume piuttosto ai casali di santa giustina vi sentite disse alla contessa di saltare quest'acqua e la guardò un poco il ruscello misurandone a occhio l'ampiezza no vi confesso rispose con l'impiccio della gonna permettete allora qui non c'è tempo da perdere vi rapisco senz'altro le prendo ventaglio e ombrellino e getto i due arnesi sull'altra sponda ma un po' lontani che non mi impaccino il passo poi prendo lei nelle braccia mi assicuro di averla ben in equilibrio sul petto e spicco il salto il rivo non era largo più di sei palmi e non facevo poi un miracolo di destrezza ma il peso che avevo sulle braccia e la cura che richiedeva non mi lasciarono veder bene davanti a me né pensare che la sponda di là era in un certo punto assai molle per l'avanzarsi dell'acqua sotto l'erba traditrice così immollai un piede fino alla caviglia ma la contessa era in salvo la deposi sul sodo terreno raccolsi l'ombrellino e il ventaglio feci un altro gesto rabbioso a buci che si era fermato davanti a me non intendendo una saetta di tutte quelle novità e su per la salita a grandi passi siete forte come un turco mi dissella ridendo ecco un ratto in piena forma zitta con quella voce per carità e via senza posarci un minuto si passa davanti ad un casale e per fortuna non si vede anima viva né alle finestre né agli usci avevo pensato di far sosta ad una di quelle casupole fingendo di esser capitati là dalla strada alta ma il non esser visti da nessuno e il trovar lì sotto la mano anzi meglio sotto il piede un sentiero che mette nel bosco dei castagni mi fa cambiare di idea la conduco da quella banda ed ho il conforto di vedere che il sentiero pianeggia abbastanza così ella non si affaticherà troppo a salire sentite dice ella ad un certo punto tendendo l'orecchio ci chiamano avevo sentito ancor io anzi prima di lei di laggiù commettevano a tutti gli echi a tutti i punti cardinali i nomi di Adriana e di Rinaldo riconoscevo la voce delle giovani Berti di Terenzio Spazzoli di Enrico Dalciotto uno dei satelliti il che mi lasciava supporre che ci fossero anche gli altri due ma il guaio più grosso e chi mi metteva le ali alle calcagna era quello di aver riconosciuta fra l'altro la voce della signorina Wilson fortunatamente la comitiva si era fermata al punto dove noi eravamo stati a sedere e di là si sentivano venire le voci mentre noi avviati nel sentiero alto a mezza costa eravamo celati a tutti dallo sprone del monte che già avevamo oltrepassato per muovere verso il mulino per poco che fossero rimasti a cercare di noi laggiù e ad invocare i nostri nomi in vano saremmo arrivati a salvamento e sempre benissimo nascosti tra i castagni fino al punto della strada battuta dove ci eravamo due ore prima incontrati la contessa avrebbe voluto fermarsi al mulino secondo lei si doveva restarci fino a tanto ritornasse indietro la comitiva e aver l'aria di essere entrati là dentro a vedere le macchine donde la possibilità del non esserci incontrati prima coi nostri cercatori importuni sì risposi ma se anch'essi venendo fossero entrati al mulino o solo avessero attaccato discorso con qualche d'uno della casa ebbene replicò lei tanto peggio per loro poiché tra quei curiosi ci ho i miei tre satelliti sarebbe il terzo modo non classico né romantico ma ugualmente sbrigativo per liberarmi di loro la ringraziai con un inchino della bellissima idea che poteva lusingare benissimo la mia vanità mascolina ma che non conferiva appunto alla mia quiete la voce di galatea udita laggiù dall'acqua a scosa mi aveva dato un gran rimescolo al sangue sentite signora le dissi gravemente il meglio è di non dover dare spiegazioni siano esse trovate buone o cattive sono venuti a cercare di noi e non ci hanno trovato segno che non c'eravamo o che essi non hanno saputo scovarci a buon conto non eravamo là dove sono andati a far capo voi a casa vostra quest'oggi non avete da dar ragione dei vostri passi e nessuno sarà tanto ineducato da farvi domande in proposito con me nessuno ha tanta confidenza da entrare in simili inchieste pensino quel che vorranno dal canto nostro come saremo laggiù al crocicchio in vicinanza della nobil corsenna ci divideremo da buoni amici per rivederci più tardi avete ragione rispose la contessa poiché siamo fuggiti tanto vale approfittar della fuga quella sera ci fu un pochettino di musoneria nella colonia villeggiante di corsenna i satelliti avevano le facce scure terenzio spazzoli non si degnò di mostrare i denti più d'una volta le berti amabili innocenti accennarono soltanto di essere andate il mattino a passeggio di là dal mulino avendo sentito che adriana era andata a passeggio anche lei traversando il paese e girando da quella parte ma certamente s'erano ingannati gli informatori poiché non l'avevano trovata no rispose la contessa con la sua bella tranquillità di signora accorta non s'erano ingannati era uscita fuor d'ora avendo l'emicrania e non potendo star ferma in casa ero anche andata di là dal ponte con l'idea di salire a santa giustina ma ad un certo punto vedendo due strade ho temuto di smarrirmi e son ritornata a me non si disse nulla che avrei saputo rispondere a buci nemmeno che avrebbe potuto cavarsela ridendo per me soltanto ci fu a quattro occhi una bottata di galatea che odore questa mattina all'acqua scuosa un odore acuto come di pelle di spagna ah sì rispose colpito in pieno petto ma non volendo parere è poi l'odore delle rose canine e dei fiori di rovo ce n'è tanti laggiù fine del capitolo decimo capitolo undicesimo di galatea questa registrazione libri voxe di pubblico dominio registrato da riccardo fasol galatea di anton giulio barrili capitolo undicesimo maubra s'invata in guerre 13 luglio 1800 questa mattina ero stato un po' in forse dell'andare o del non andare in visita al roccolo è debito dicevo tra me debito di galantuomo dopo l'impresa del mulino sì mi rispondevo ma che cosa ne penserà galatea orbene che male ci sarà sono io infeudato alla signorina chitti le ho mai detto una parola più calda di tutte le altre e mie e di coloro che vede ogni giorno con lei con sua madre con le berti con la quarneri perfino con la signora segretaria comunale con la signora sindachessa di corsenna ci ho i miei doveri di galateo così è una volta imbarcati per questa via da negri che è la vita di società bisogna bene curvar le spalle e adattarsi a coltivare canne da zucchero che cosa penserebbe dei fatti miei la contessa se io non andassi a riverirla a sentire da lei com'è finita se ha avuto code o no piccole noie per lei la matta impresa di ieri e che cosa direbbero i signori satelliti se non mi vedessero comparire al roccolo quest'oggi farei senza dubbio la figura del can bastonato bastonato da lei e pauroso di loro ah no perdi incibacco non sarà mai l'idea di ciò che potevano dire i satelliti mi ha messo di cattivo umore il cattivo umore mi ha fatto mettere in armi siamo in guerra combattiamo e tanto per cominciare esploriamo il terreno ieri mattina la contessa Adriana era uscita di casa alle otto ora insolita per lei bruciata per i suoi assedianti che dovevano immaginarla non uscita ancora dalle sue camere essi di certo non usano andare che verso le undici alle loro batterie infatti a quell'ora non avendola trovata al roccolo si sono dati alla campagna raccogliendo per via tutta la colonia villeggiante come a dire tutto l'esercito di Corsenna han preso lingua han saputo che la contessa Adriana aveva preso il sentiero del mulino hanno sospettato che fossi ancora io da quelle parti e tutti sull'orma che hanno perduta fortunatamente per noi dunque ricapitoliamo la contessa è sola fino alle undici se ci vado tra le nove e le dieci sono sicuro di trovarla di aver tempo a discorrere a sentire da lei tutto quello che sarà utile di sapere rimarrò quanto ella vorrà e se dovrò rimanere tanto che arrivino i satelliti niente di male potrò andarmene in loro presenza insegnando a chi non lo sapesse ancora che non è di buon gener star nei salotti in sentinella come all'ingresso d'una caserma d'un parco d'artiglieria d'una polveriera alle nove del mattino indossato il mio tutto vestito grigio d'autentica stoffa inglese così almeno assicura il mio sarto che è di biella raso accuratamente ravviato ripicchiato a dovere con un bel garofano bianco all'occhiello mi mossi alla volta del roccolo evitando l'abitato di Corsenna peraltro tanto che ci arrivai alle nove e quaranta minuti troppo presto forse e dopo tutto avrei lasciato un biglietto da visita ma non ci fu bisogno di questo mezzo termine ero a mezzo il viale quando ella si mostrò nel vano di una finestra al primo piano della sua palazzina mi vide mi riconobbe mi gettò con la sua vocina insidiosa un buon giorno di sirena e sparì ma per avvicinarsi compariva di fatto nell'atrio quando io mettevo il piede sulla soglia del tempio ah bene gridò stendendomi tutte e due le mani questo è un bel tratto veramente degno di voi e di me soggiunse dopo un istante di pausa perché io v'aspettavo risposi non so che cosa ma balbettando assai più che parlando ella intanto preso il mio braccio mi conduceva in un salottino accanto al vestibolo indicandomi una poltroncina sulla quale mi posi a sedere ammirando un pochino l'addobbo della stanza e più quello della padrona di casa che indossava un grazioso abito da camera dovrei chiamarlo desabillé alla francese ma in verità non mi pare che il nome vada a capello come chiamare desabillé un abito sia pure sciolto intorno alla vita e largo di maniche tutto ricami tra fori e passamani con la giunta ad una guarnizione di merletti del resto abbia il nome che si vuole sian parecchi i desabillé del signore come gli abiti di mattina da passeggio da ricevimento accollati scollati a mezzo scollo e ne mutino due tre quattro volte in un giorno saranno belle in due tre quattro maniere la bellezza è cosa di cielo ammiriamola perché narra anch'essa la gloria di dio come siete stato gentile ripiglia la contessa adriana dopo aver concesso qualche minuto secondo alle mie ammirazioni che dite contessa era il mio dovere volevo informarmi di ieri tutto è andato bene non è vero sì quantunque sarebbe stato meglio rimanere al nostro posto eravamo a discorrere al fresco ci avrebbero trovati e ci avrebbero fatto compagnia se fosse loro piaciuto ma infine io non andrò indagando tutte le ragioni che vi hanno persuaso a volere altrimenti forse ci perdevate un tanto a farvi vedere con una donna brutta e allora signora scherzo sapete so bene di non essere il diavolo e non mi fate complimenti vi supplico non ho parlato così con la intenzione di averne uno da voi li gradisco ma quando non li ho provocati e soprattutto quando vengono spontanei nella sincerità del momento come accade a voi che siete poeta ieri per esempio ne avete trovato uno bellissimo io quando come sì quando avete parlato dei quattro satelliti di giove donde così naturalmente senza pensarci vi è venuto di accennare ai tre che si potrebbero concedere ad un altro corpo celeste a venere infatti scusate non volevo proferirne io il nome vi sarei parsa vanitosa ma era tanto carino il vostro complimento a proposito dei miei satelliti che noiosi quelli e se sapeste che musi lunghi iersera questo appunto mi premeva di sapere avete già fatto il famoso discorso no non ancora non mi pareva il momento erano anche così poco trattabili se dio guardi mi fanno oggi la seconda di cambio vi assicuro che non ricorro neanche al consiglio di ammogliarli ma veniamo ma veniamo al fatto iersera quando ci siamo lasciati sul ponte mi hanno accompagnati tutti e tre secondo l'uso che a quell'ora tarda non mi dispiace nemmeno saliti al roccolo sono entrati si sono seduti qui muti accigliati come un terzetto di giudici non volevano il tè ma lo volevo prendere io e l'ho preparato si sono rassegnati a sorbirlo ma trovandolo amaro nessuna allusione alle indagini del mattino solo uno il martorana mi chiese di punto in bianco vi è passata l'emicrania non ancora del tutto risposi quindici minuti dopo si congedarono ma se erano stati muti nel mio salotto diventarono loquaci all'aperto specie in fondo alla villa dove clarina li ha uditi clarina è la mia cameriera ed è fuori spesso e volentieri quando io non ho bisogno di lei credo tra parentesi che ci abbia l'innamorato un giovane muratore di qui vorrà diventarci bianca di bruna che è ma passiamo che questo non è affar mio clarina adunque li ha sentiti parlavano di una gita che avevano fatta quella mattina di due persone che andavano cercando e che non avevano trovate ma sicuramente erano là diceva uno il signor Dalciotto che era il più arrabbiato dei tre il cane li ha messi in sospetto e li ha fatti fuggire bisognava guardare dal fiume se è vero diceva un altro il signor Cerinelli se è vero abbiamo fatta una bella figura e c'è qualcuno che riderà di noi il signor qualcuno la pagherà salata replicò Enrico Dalciotto tutte queste cose è venuta a riferirmi clarina e vi confesso che sulle prime mi avevano un po' turbata ma siccome i miei tre satelliti non sapevano niente tanto che iersera immaginavano ancora una mia fuga dalla parte del fiume e siccome ne sapranno anche meno domani o doman l'altro e siccome finalmente sono tre sciocchi mi sono subito tranquillata sul conto delle loro vendette spero bene che non ne tremerete neppur voi io no davvero mi ci diverto un mezzo mondo e non dico un mondo intiero perché già un mezzo mondo m'annoiano li manderò via non dubitate farò quel tal discorso sarà sempre bene conchiusi ho visto degli sciocchi diventar mariti eccellenti e la signora Berti sarà la più felice delle madri ci fu un momento di sosta nel dialogo ed io reputai conveniente di dare un'altra occhiata d'intorno come siete bene qui opera vostra povero addobbo di sella mi mancavano tante cose quando ci sono arrivata ho fatto quel che ho potuto adattando al mio gusto una casa ad altri sapete bene come è venuta a noi per pagamento d'un credito che aveva mio marito e che non si sarebbe potuto recuperare altrimenti a lui da principio pareva una gran cosa avendo appunto bisogno d'aria di montagna a me invece non piaceva affatto ora a lui non va più perché gli hanno ordinate le acque di San Pellegrino e piace a me poiché ho dovuto adattarmici per una stagione se potrò aggiustarla del tutto a modo mio mi ci troverò meglio un altro anno e voi Morelli venite tutti gli anni in Corsenna è il primo anno questo anzi non sapevo che fosse un luogo tanto frequentato ero venuto per studiarci figuratevi o ci studierete dando agli amici appena appena quel po' di tempo che potrete scegliendo bene si possono risparmiare molte ore e voi con tanto ingegno che avete non potete sottrarvi al lavoro sarebbe un delitto che cosa avete pubblicato fin qui niente signora o quasi niente già per far numero tra i mediocri è inutile stampare che cosa dite voi mai parlano tutti di voi con tanta ammirazione già perché non fa nulla se facessi mi giudicherebbero diversamente così va il mondo signora ma noi ci inganniamo volentieri l'un l'altro esso prodigandomi una stima che è tutta fondata sulla certezza della mia pigrizia invincibile io godendone senza risparmio e pensando che quella stima io la perderei senza fallo se mai mi decidessi ad uscir dalla nuvola che pessimismo ma voi dite per ceglia non è vero e non avete una così brutta opinione di tante persone gentili che aspettano luce e conforto da voi un po' tardi semmai non sapete che ho già trentacinque anni trentacinque esclamò la contessa in verità vi credevo a malapena sui trenta ma che cosa su un po' i trentacinque anni soggiunse la virilità della gioventù per un uomo io ne ho ventisei e come donna posso dirmi vicina alla maturità che differenza tra noi ma gli anni con le rughe che portano a noi donne non mi toglieranno di seguirvi nei vostri trionfi mi leggerete quello che fate non è vero non so che cosa fossi per risponderle in quel momento si udiva un fruscio sulla ghiaia del giardino e clarina appariva sull'uscio del salotto per annunziare una visita anzi due in un punto già mormorò la contessa Adriana volgendo un'occhiata all'orologio del caminetto che segnava allora le dieci e tre quarti beviamo quest'amarissimo calice soggiunse volgendosi a me con un mesto sorriso entrarono due satelliti Maurizio Cerinelli e Giovanni Martorana entrarono e vedendo l'intruso fecero il muso lungo un palmo soli esclamò la contessa e il signor dalciotto è andato per la carrozza sarà qui fra due minuti la carrozza perché farne non rammentate signora disse il Martorana avevate manifestato il desiderio di visitare il convento di Dusiana soggiunse il Cerinelli è vero è vero rispose la contessa con aria di cadere dalle nuvole ma si era detto per oggi questo mi era passato di mente a quest'ora poi il cielo è coperto disse il Martorana e potrà piovere allora ripigliò la contessa anch'io con quest'emicrania che non mi vuol dar tregua qui la luminosa contessa fece un gesto di persona seccata e non aggiunse parola capitò il dalciotto anche lui con tanto di muso a malapena mi vide ma era più padrone di sé forse essendo stato avvertito della mia presenza colà più padrone di sé ripeto ma mi fece anche un saluto che non mi piacque se non fossimo state in casa ad altri e in presenza di signore a quel saluto breve e sarcastico avrei risposto con un ceffone tanto per cominciare già posso ammettere ed anche gradire che uno non mi saluti ma che mi saluti male mi annoia ho già pensato del resto a ciò che mi conviene di fare le lettere qui si impostano alle sei di sera scriverò prima delle sei a Filippo la signora non vorrebbe andare ad Usiana le occorrerebbe un'ora almeno per vestirsi inoltre è un brutto giorno un tredici lo dice ridendo ma lo dice io rido con lei e la conforto ad andare il tredici secondo me non è altro che un numero il quale ha il torto di venire dopo il dodici e prima del quattordici del resto non a tutti dispiace non a tutti porta sfortuna io posso assicurare per mia esperienza che è un numero eccellente un numero aureo tutte le cose che ho fatte in un giorno tredici mi sono andate benissimo ah sì esclama Enrico dal ciotto strascicando anche la frase come se la tirasse con l'argano certamente gli rispondo io senza scompormi e sul medesimo tono la contessa Adriana nota le pause e le inflessioni di voce aggrotta le ciglia per mostrare a qualche d'uno che ha capito e che non è contenta per nulla poi con sembiante mutato rivolgendosi a me vuol farmi sentire che la padrona di casa non rileva le piccole impertinenze e che io posso far come lei voi inventate a buon fine signor Rinaldo mi dice e il numero tredici vi dovrebbe essere grato di questo servizio che gli rendete ma io sono ancora molto dubbiosa aggiungete che debbo scrivere parecchie lettere a mio marito per esempio che oggi avrà aspettato inutilmente i miei uncinetti se sto due giorni senza scrivergli è capace di inquietarsi e di piantare San Pellegrino per venire in Corsenna ne avrei piacere per un lato per l'altro mi rincrescerebbe temendo che la sua cura ne soffrisse se non fosse per questo risposi sarei lietissimo di avere la parte mia nel fargli mancare una lettera tanto desiderio di essergli presentato è a detta di tutti un gran gentiluomo ma si fa questo effetto su quanti lo avvicinano replicò la contessa sono una moglie fortunata e sfortunata ad un tempo sapete che le belle signore se lo contendono l'anno scorso a Roncegno faceva lui tutte le carte ed io che non avevo patito mai del brutto male mi capite mi son ritrovata ad esser gelosa ed egli rideva delle mie collere rideva saporitamente come fate voi signori uomini che poi se dio vuole sarete peggio di noi fatte poche altre ciance su questo tono più allegro mi alzo la riverisco e me ne vado senza saper bene se andrà o non andrà a vedere il convento di Dusiana quanto ai tre satelliti li saluto appena quanto basta per la decenza e me ne torno a casa dove butto giù le mie note ora poi scriviamo a Filippo la lettera è fatta mi par utile di ricopiarla qui my dear a friend in need is a friend indeed says the proverb now it happens that I have at this moment very great need of a friend and I am resolved to make the trial sopra di te mio dolce e fiero Filippo tu non hai niente che ti trattenga in città salvo l'abitudine o la pigrizia mentre io ho bisogno qui d'un amico an uncommon want come Lord Byron aveva bisogno di un eroe lascia dunque i tuoi affari inutili e vieni a confortare l'amico tuo il quale non ti è scritto da tanti giorni per la semplicissima ragione che ha speso il suo tempo a commettere un certo numero di sciocchezze e ti vorrebbe qui per dargli una mano in altri termini temo senza sgomenti però di avere ai fianchi una piccola tribù di scioperati dipenderà forse da me di causarne gli attacchi ma se proprio dipendesse da me non vorrei causarli davvero e mi metterei volentieri in guerra come Mowbrow qui non ho persona amica seria ed armigera quanto bisogna a cui commetter tutto me stesso hai capito vieni dunque tu vola e porta per ogni buon fine una coppia di tutte le armi cavallerescamente possibili per dar colore alla spedizione potresti portare un arsenale di sciabole fioretti e pistole da esercitarci tra noi saresti nella tua beva non ti pare non ti ho mai chiesto nulla non mi ricusare la prima credi pure che questa volta ho somma necessità d'essere raffidato dalla tua presenza ti aspetto e preceduto da un telegramma per venirti a prendere alla stazione che è un po' lontanetta da qui grazie anticipate e un amplesso spirituale per giunta il tuo Rinaldo ho impostata la lettera in tempo e più tranquillo me ne sono andato a desinare questa sera passeggiando in paese ho incontrato mezza la colonia che ritornava dal suo eterno long tennis si è fatto sosta all'unico ma infame caffè di Corsenna in grazie del suo qui si gela che promette alle signore la dolce volutà del sorbetto poi diranno che Corsenna è un villaggio conosco delle città dove si gela sì ma solamente e naturalmente ho potuto sapere che la contessa Guarneri non è andata ad Usiana i tre satelliti devono essere furenti imbronciati li vedo ma quieti in atto di rodere il freno che abbiano avuto una correzione salutare mi dispiacerebbe per me che li vedrei volentieri andare in collera specie se mi danno due giorni di tempo tanto che arrivi il ferry con tutti gli omonimi suoi quanto a loro se han presa la ramanzina non hanno male che non si sia meritato avendo smascherate le loro batterie in presenza della contessa mi paiono tre ragazzi con quel loro cospirare all'aperto in un sentiero di villa dove tutti gli alberi hanno orecchi per udire e bocche per riferire viva la faccia delle Berti quelle non sentono non vedono quasi e non ha niente da riferire a nessuno passano nel mondo sorridendo e sperando beate loro e madre bofficiona e figliuole snelle che cresceranno in bellezza e in rotondità come lei la signorina Kathleen mi pare un po' sostenuta cara fanciulla ma che cosa ne posso io se sapesse che non ci ho colpa e che mi trovo impegnato in questo negozio per l'onor della firma dal resto veda un po' lei non è mica Rinaldo Morelli l'uomo che accompagna al roccolo la contessa Adriana quando ella si risolve di lasciare il caffè di Corsenna e infine lei stessa la signorina Kathleen carissima non è forse tutta fiori a baccelli con la luminosa contessa si direbbe anzi che da iersera l'è diventata più amica che mai animo dunque la preghi un pochino e si faccia dir tutto ma forse mi inganno ed ho troppa importanza al mio signor me stesso quell'aria della signorina non è di sostenutezza con me è di stanchezza per la fatica del long tennis infatti ecco che si rianima dopo partita la contessa coi suoi tre satelliti Terenzio Spazzoli ha incominciato un discorso di rowing club e di swimming club e lei è tutta intenta alle belle imprese del mare da quella gran vogatrice da quella gran nuotatrice che è Galatea Ninfa Marina a Viereggio dove ella ha passata l'estate scorsa ne sanno qualche cosa nessuna di quelle nereidi era più intrepida e più valente di lei confessiamolo è una bella cosa e buona soprattutto viver la vita così pienamente come ella fa a questo modo vengono su le belle schiatte sane forti robuste pari a quelle che hanno lasciato tanto buon nome nel mondo e tuttavia se Kathleen fosse mia moglie non vorrei tante cose da lei né racchetta né tuffi in acqua né remo né vela casa 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 e te magari quantunque non mi piaccia e latte e burro a tutto spiano similmente non vorrei che la luminosa contessa dato e non concesso che portasse il mio nome avesse tre satelliti per accompagnarla tutte le sere a casa piuttosto una mezza legione di carabinieri per compenso le permetterei crepila varizia di confessare ai suoi visitatori quattro anni di più sono ancor primavera che diamine fine del capitolo undicesimo che due giornatacce che due giornatacce sono stato di pessimo omore e n'ho avuto le mie buone ragioni io già son fatto così non amo i mezzi termini né le mezze misure o la pace stabilita o la guerra dichiarata mi seccano le tregue e più mi turbano le vigiglie con le loro aspettazioni coi loro sospetti con le loro incertezze tra il sì ed il no star sempre in armi è una condizione sciocca alla quale non mi saprei adattare perché temerei sempre di far troppo o troppo poco e soprattutto di perdere la pazienza prima del tempo come sarebbe il caso qui per l'appunto perché io non li temo i miei tre fastidiosi personaggi e temo piuttosto che mi vogliono stancare ridersi di me per trovare poi qualche gretola e scapparmi via dopo avermi ben molestato li voglio al buon punto per andare subito a fondo hanno certe arie davanti a me da cavare i ceffoni dalle mani di un santo la pazienza non è il mio forte e mi duole che non ne siano persuasi a buon conto una ne ho fatta che li ha costretti a meditare quando ci incontriamo senza che ci siano signore di mezzo non ci salutiamo neanche ho incominciato io questa voglia me la sono levata rizzando la testa e facendo sporgere un pochettino il labbro inferiore come un arciduca di casa d'Austria tanto meglio per loro se facendo così li avrò liberati d'una noia certo mi son liberato io d'un'altra maggiore ma se credono che io voglia fermarmi qui la sbagliano di grosso sono io innamorato della contessa no davvero incapriccito neanche anzi diciamo tutto se alle prime poteva darmi negli occhi perché la bellezza è sempre la bellezza ora non me ne faccio più né di qua né di là perché quella bellezza mi si è mostrata falsa nell'anima si intende l'hanno anche i bottoni e volere o no si riverbera sempre all'esterno che bisogno c'era di darsi 26 anni ne ha 32 perlomeno e di che si lagna si può essere belle a 36 a 40 e piacere anche più in là finalmente si ha l'età che si dimostra io non mi vergogno dei miei 35 se ne avessi con la faccia d'oggi 40 e 50 che male ci sarebbe per oggi levarsi gli anni è una debolezza che non ammetto neanche nelle donne anzi nelle donne meno che negli uomini esse in fin dei conti hanno l'invidiabile privilegio di non sentirsi domandare in società alla fede di nascita perché darla falsa a chi non ha domandata la vera questo è stato un punto nero per lei resta bella ma non mi è più simpatica come prima del resto più mi osservo e mi studio più riconosco di non essere stato un solo momento ingannato dalle sue belle moine aggiungiamo che per me quella donna ha la bellezza troppo vistosa del genere a cui tutti si inchinano essendo ella formata di quegli elementi che piacciono al maggior numero veste troppo bene tanto che vi rifà il figurino a capello e cosa significa ciò se non questo che il suo personale si adatta a tutte le mode non istonando con nessuno dei loro artifici la testa è bellissima per la eleganza dei lineamenti ma non è forse troppo piccina tanto ella va con tutte le fogge di pettinatura non è nel complesso un po' bambola quella bocca le rendo giustizia e faccio il saluto militare ma quegli occhi lunghi sotto quelle palpebre tagliate a mandorla sono proprio naturali apparirebbero tanto luminosi fosforescenti senza il sapiente contrapposto del bistro non sarà così ma pare che sia e sa di commedia proprio come una regina di commedia la contessa ha bisogno dovunque ella sia di aver tutti a suoi piedi non è contenta finché ce n'è uno che non accetti il suo gioco ero io quel tale in corsenna si è rivolta a me come si sarebbe rivolta ad un altro al commendator Matteini per esempio prendendo ipoteca anche su lui vedo queste cose e ci sto senza far molto solo per dar noi a quei tre ma ci sto non mi prendo l'incarico di accompagnarla a casa come fanno loro ma dove mi trovo con lei cerco di invadere aiutandomi lei con una grazia che deve essere crudele per chi ne soffre soffrono essi poi tanto? animali da esperienze sono forse meno sensibili al dolore non si adattano già a portare la croce in tre comunque sia devo essere un bruscolo nell'occhio per tutti e tre me ne persuado al muso che fanno non intendo galatea che è sempre e più che mai pane e cacio con la contessa quando è presente adriana la signorina wilson non rifugge neanche dal ritrovarsi con me pare anzi che ci prenda gusto a farmi parlare rimanendo in nostra compagnia quando non c'è adriana non mi sfugge ma non mi cerca neanche e se è lontana ci resta volentieri amando meglio di prendere ipoteca sul commendator Matteini a vederlo allora il più conservato dei conservatori come fa la ruota credo che non parli più nemmeno di Bologna città dell'anima che gusto ci trova la signorina Kathleen ma già capisco che quella gran diavola fa per chiasso sempre bisognosa di moto di varietà d'aria di luce sempre aperta l'anima e il cuore sempre fuori del guscio come l'argonauta tout en dehors direbbero i francesi è più intima più raccolta più seria quando è con Terenzio Spazzoli col quale ieri ha confabulato a lungo hanno un altro segreto insieme ed io ho potuto scoprirlo da certi discorsi che hanno tenuto con la sindachessa e con la segretaria comunale parlavano dell'asilo infantile e dei suoi bisogni pecuniari domandavano se ci fosse una sala abbastanza vasta in paese e quella dell'asilo non parendo abbastanza capace di una numerosa assemblea si tratta d'imbastire un concerto a pagamento un concerto vocale e strumentale il grande affare di tutte le stazioni di tutte le colonie di tutte le stazioni estive mi è giunto perfino all'orecchio l'accenno d'un prologo in versi che qualche signorina potrebbe recitare hanno già sotto la mano il poeta forse non è vivo e sano Enrico Dalciotto ma vorrei proprio vedere che la signorina Kathleen si rivolgesse a lui questa poi me l'avrei per male sempre che i martelliani dovesse recitarli lei se si tratterà delle Berti sia pur chi si vuole il poeta ma la musica qui ti voglio non c'è neanche un concertino di trombe in Corsenna per avere un pianoforte e un maestro di Cembalo bisognerebbe mandare a Dusiana basta vedremo frattanto siamo giunti a quest'oggi Filippo mi ha telegrafato ieri che si metteva in viaggio arriverà oggi al tocco eccellente amico capiterà con la sua bella aria marziale di paladino antico non è un letterato che Dio lo benedica è un uom di fatti tagliato alla brava in un buon tronco di querce diritto come una spada e netto come il filo d'un rasoio in che modo siamo andati d'accordo noi due per le nostre dissonanze direbbe un osservatore superficiale e non è vero se all'aspetto non ci rassomigliamo punto punto credo che abbiamo comune qualche intrinseca qualità e che questa ci unisca egli è più rigido in apparenza più riguardoso nelle sue maniere più abbottonato ma è poi altrettanto sincero abbiamo il nostro guscio tutte e due ma io meno savio sono troppo spesso e volentieri fuori del guscio altra differenza io faccio spropositi da cavallo sempre nell'idea di andare per le spicce mentre egli è sempre ponderato e di buon consiglio eppure non ne dà mai di debolezza né di pace vecchio schermidore da terreno suol dire che la migliore di tutte le parate è l'andare a fondo curioso cavaliere che per gloria sua avrebbe dovuto nascere otto secoli fa ricorderò sempre quella volta che andò per conto mio con un altro degno collega a chiedere una spiegazione trovò l'avversario bravuomo ed ingegno che aveva avuta la colpa o il merito di darmi una solenne stroncatura per certi miei versi e gli parlò in questa forma perdoni l'incomodo che sarà breve siamo i tali dei tali veniamo in nome del signor Rinaldo Morelli nostro amico a chiederle in cortesia tre cose il luogo l'arma e l'ora Filippo Ferri è fatto così tutto d'un pezzo sta sulla sua come un artabano ma nessuna sua parola offende pochi uomini sono cortesi quanto lui nessuno più di lui ma suol parare andando a fondo ha dolce il sorriso e fiero lo sguardo solo a vederlo per istrada bisogna dire ecco un uomo al tocco ero alla stazione della strada ferrata distante un'ora da questo dolce paese il treno è arrivato ansimando come per farmi capire che non era colpa sua se giungeva con quaranta minuti di ritardo la testa di Filippo appariva da un finestrino e gli occhi suoi mi balenarono un sorriso che ancora non trapelava dal doppio festoncino dei baffi corsi ad aprirgli lo sportello si calò giù e mi si avventò al collo come un padre ma dopo avermi baciato e ribaciato si tirò indietro con aria di rimprovero aria paterna anche questa per dirmi a cane così mi hai ingannato io esclamai in che modo dicendomi che non c'era l'inglesina per bacco e non c'è di fatti non c'è come non c'è non mi hai tu incominciata la tua lettera in inglese ancora un paragrafo di quegli starnuti e mi toccava di pigliare un interprete sai bene che d'inglese io non ne mastico e di tedesco nemmeno lo so benissimo tra le originalità di Filippo Ferri c'è questa di non volersi dedicare a nessuno studio di prossima e diretta utilità per capriccio hai imparato l'ebraico per prolungamento di capriccio hai imparato l'arabo e il copto sai che l'inglese è la mia passione gli dissi e le inglesine no no ti giuro e quando ti avrò raccontato ogni cosa vedrai che si tratta di ben altro ora non è il momento né il luogo soggiunse Filippo lasciami dar la valigia a qualche d'uno c'è qui Pilade il mio servitore hai bagaglio sì e che bagaglio un cassone consegna il polizzino a Pilade sarà ritirato e caricato nella vettura seppure una vettura basterà altrimenti prenderemo un carro basterà che diamine ma ci sarà il dazio vorranno visitare così si scopriranno gli altarini no non dubitare è comune aperto qui per conseguenza il tuo cassone arriverà chiuso nell'alma corsenna di pure il tuo perché io l'ho portato per te mi rispose Filippo mentre uscivamo dalla stazione c'è un vero arsenale dieci fioretti coi bottoni e una coppia di spade dieci sciabole non affilate e quattro col filo ti bastano? ce n'è d'avanzo ma son tutte armi bianche non mancano le nere quattro flaubert quattro l'épage con le rispettive munizioni nella valigia va bene? ottimamente ci sono così tutti i ferri necessari senza contar me ah tu sei il re dei ferri gridai montando in carrozza il bagaglio fu caricato a cassetta sotto ai piedi del cocchiere del servitore che si aggiustarono come poterono e i cavalli presero il trotto io ero raggiante di gioia non avevo più niente da desiderare se non forse di giunger presto a casa per poter raccontare minutamente a Filippo tutto ciò che era necessario di fargli sapere egli non domandò nulla per quanto fu lungo il tragitto di solito non domanda mai nulla la sua massima è questa sia da partire si parte dal pie sinistro uno due è la cosa più facile di questo mondo e non so come i coscritti ci sudino tanto la strada è piacevole alberata e fresca lungo la riva del fiume e il tragitto si fa senza molestia per me il paese è senza carattere ma a Filippo non dispiace forse perché egli non ha l'uso di andar mai in campagna e lo spettacolo gli riesce nuovo con tutto quello sfoggio di verde sono contento che gli faccia buon effetto la valle di Corsenna quando incomodiamo un amico siamo sempre felici che egli non si trovi male nel luogo dove l'abbiamo tirato contro sua voglia o contro le sue consuetudini non credevo che queste montagne fossero così belle diceva egli guardandosi intorno sta a vedere che mi innamoro dei boschi e faccio un idilio ancor io non dipenderà che da te c'è tutto l'occorrente per iscriverlo ed anche per iscriverlo ma io non credevo che tu intendessi di dir questo castagni disse Filippo girando largo castagni dappertutto e lassù quel nero sui monti abeti mio caro abeti e pini Corsenna è famosa per il suo pinus pinsapo ah i miei complimenti e niente pitch pine non credo ma che ti salta di parlare inglese non ne far caso non so che questo vocabolo ma capisco che bisognerà impararne degli altri che idee se ti ho detto che non c'è niente di vero nelle tue supposizioni e sia rispose Filippo può essere bene come tu dici non vedo infatti la via polverosa oh per questo non ci ho merito è piovuto stanotte ed è una gentilezza che mi usa questa poetica valle replicò Filippo ridendo io non amo il polverio ed è questa una delle cagioni che mi fanno odiar la campagna le altre sono le mosche i mosconi le zanzare ed altri animali noiosi che ci si incontrano non è anche la tua opinione per gli altri animali sicuramente ma ora che c'è l'arsenale li metteremo a dovere quando penso disse Filippo mutando registro e mettendo un sospiro tanto fatto quando penso a tutte le scioccherie che l'uomo ha commesse per volersi credere un animale socievole mi viene la stizza era nato per vivere a coppie ed ha voluto vivere a branchi far tribù città popoli reami ed imperi che cosa ci ha guadagnato l'ira in casa e la guerra permanente ai confini o uno stato d'animi che non aiuta certamente a far buone digestioni né in casa né fuori di casa sei diventato filosofo mi congratulo ma sì che vuoi come tutti i guerrieri per romper la noia ad un'ora di marcia non dubitare siamo quasi alla fine del nostro viaggio eccoti l'alma corsenna che s'affaccia alla svolta vedi quel torrione là in fondo è una colombaia di casa colonica quell'edificio lungo e nero che pare un castello o un convento è una filanda che non lavora più da molti anni il baco non ha voluto attecchire in corsenna e il villaggio che si incamminava a diventare un borgo è rimasto villaggio vedo delle casine peraltro dei villini sparsi qua e là certo e sono l'unica bellezza del paese un po' di bianco nel verde e un po' d'acqua corrente da fianco e da piedi e la gente assetata di fresco ci corre ogni estate al rifugio vedi quella palazzina lassù pare a mezza costa di qui ma per effetto di prospettiva è veramente sul colmo d'un poggio si chiama il roccolo ed è il rifugio di una bella signora che tu sai perché me l'hai nominata in una tua lettera per sentita dire rispose filippo di persona non l'ho conosciuta mai il roccolo soggiunse egli che nome e la signora è forse diana cacciatrice scherzo sai non posso ignorare che si chiama armida ma che armida vorrai dire adriana diciamo pure adriana quanto a me vorrai proprio dire armida e rinaldo infatti mi passa per la mente che non essendoci di mezzo nessuna inglesina quest'altra ti dirò ti dirò interruppi io appena saremo a casa ed anche più tardi bada io non ho bisogno di saper nulla parlavo così per chiasso per non mostrarci troppo accigliati quasi imbronciati ai naturali del paese ma eccone tre che non dovrebbero essere indigeni tre bei moscardini in fede mia diedi una sbirciata ancor io e vidi poco più su dai cavalli in atto di tirarsi da banda i miei tre famosi satelliti li vidi in tempo per rizzar muso quanto ce ne voleva al loro bisogno quei tre vanno al roccolo disse a filippo perciò li vedi in strada quest'ora son pronipoti dei proci dell'odissea ulisse è alle acque di san pellegrino ed essi non lasciano un'ora di pace a penelope tu intanto non potevi esser più felice di così filippo mio caro sei giunto appena non hai ancora veduta la prima casa di corsenna e ti vien sotto la tribù dei seccatori per cui ti ho pregato di venirmi a dare manforte vedili là che passano il ponte ed è quello che non vorrebbero lasciar passare a te non è vero se stesse a loro certamente ma non ambarba da impedirmelo vorrà essere ad ogni modo un bel passo d'armi conchiuse filippo intanto è di buon augurio per me averli veduti alla prima l'abitato di corsenna fu presto traversato dalla nostra vettura e senza altri incontri di persone della colonia villeggiante bene si affacciavano alle finestre i terrazzini agli sporti delle botteghe i corsennati dei due sessi per conoscere il nuovo venuto fare i conti sulle sue valigie e dio sa quali supposizioni sul cassone ond'era accompagnato gran gioia la loro al vedere sempre tante facce nuove che si scomodano dal piano per salire ai loro quattrocentosessanta metri sul livello del mare ci vengono per l'aria buona dice il campanaro di corsenna e non son mica ignoranti i medici che ce li mandano vedete noi di fatti che arie di salute a farlo apposta il campanaro di corsenna è nero magro stecchito come una ringa affumicata ma chi si contenta gode e il campanaro di corsenna è un uomo che si contenta mai peggio di così è il suo intercalare son felicissimo di vedere che il mio villino piace a Filippo anche più della valle dei castagni degli abeti e della strada maestra gli faccio vedere nel mio ritiro campestre ogni cosa tranne buci che non c'è ma già so dove bazzica quel ghiottone famoso non va mica al roccolo lui dove si vive a petti di pollo e a zabayoni outsides beef sticks cutlets pigeon pies plum puddings sono io credo i suoi piatti favoriti ed hai ragione o cane sei certamente più saggio di me ho posto da alloggiare un'intiera famiglia e son solo con due persone di servizio posso dare a Filippo non una camera ma due tre quante ne vuole ne occupa due ci dispone tutti i suoi arnesi e mutati abiti scende in giardino con me aspettando l'ora del desinare qui naturalmente incomincio a raccontargli tutto ciò che mi ha occorso briccone mi dice dopo essermi stato tranquillamente a sentire vuoi venire ai ferri e farmi credere che non sei innamorato di armida te lo giuro che ragione avrei per mentire con te la contessa quarneri è bellissima la vedrai e l'ammirerai come faccio io ma intendendo anche tu che si possa ammirare la bellezza senza scaldarci si più che tanto non per niente siamo stagionati e navigati ne convieni quanto a me ti confesso che ci discorro volentieri ha una cultura scarsa il che dopo tutto non guasta ma è intelligente ha una parlantina graziosa e la sua conversazione mi va senza bisogno di altri sentimenti più intimi e più matti non è accaduto anche a te di trovare delle signore con le quali si discorre bene e non si vuol rinunziare alla loro conversazione non me ne parlare la preferisco a quella degli uomini più dotti rispose con grave accento il mio amico Filippo abbasti di ciò il tuo caso non mi par molto chiaro per quanto riguarda le conseguenze possibili non sei innamorato e vuoi leticare con tre rivali capisco sì non perché siano rivali e ti voghino sul remo non perché tu sia rivale a loro e non li voglia sull'orma solamente perché ti hanno in uggia come un visitatore pericoloso e te lo lasciano intender troppo e tu non vuoi mosche sul naso è giustissimo e te ne lodo ma c'è una signora di mezzo ci vuol giudizio nel condurre questa faccenda quantunque alle volte la pazienza si perde soggiunse l'amico tentennando la testa mi hai fatto fremere poc'anzi con quel ah sì del tuo signor dalciotto e forse anche un po' nasale come il nein ebraico non è vero ma tu hai fatto bene a contenerti per la prima volta rispondendogli un certamente altrettanto strascicato più nein di lui facciamo le cose a modo i tuoi moscardini non ci diventeranno mica troppo duri per aver aspettato un giorno di più ad esser pescati e fritti li vedrò più da vicino questa sera o domani e me ne prenderò magari un paio per me ecco l'uomo che mi consiglia di far le cose con giudizio osservai bella chiusa signor ferri ma sì una bella chiusa abbastonata degna del poema villereccio che tu sei riuscito ad imbastire il giudizio poi non esclude l'andare a fondo quando questo sia opportuno io voglio che si facciano le cose con calma tu sei di primo impeto non mi hai confessato tu stesso che se ci avevi impronto i tuoi ferri incominciavi subito dal ceffone io no prima di saltare addosso al mio uomo me lo voglio patullare un'oretta che diamine un combattimento senza avvisaglia è come un desinare senza i principi ahimè li avremo disse io la cuoca è spartana ti avverto quantunque si chiami argia ma corsenna non sarà poi senza burro rispose filippo ferri imperturbato dammi del burro aggiungi qualche altra cosa al resto ci penso io fine del capitolo dodicesimo capitolo tredicesimo di galatea questa registrazione libri vox è di pubblico dominio registrato da riccardo fasol galatea di anton giulio barrili capitolo tredicesimo una giornata campale 18 agosto 1800 ier l'altro a sera ho presentato il mio ferri si era già sparsa la voce dell'arrivo di un nuovo villeggiante smontato con un grosso bagaglio al cancello del giardinetto si chiama così il villino che occupo io i corsennati non brillano per inventiva hanno veduto nascere tanti anni fa intorno a questa casa campestre un po' di fiori ed arbusti e subito gli hanno trovato il nome senza stillarsi il cervello come si vede con uguale facilità pedestre di raziocinio vedendo smontare il forestiero al giardinetto e sapendo che al giardinetto comando io ne soffrirei casigliani hanno concluso che il forestiero fosse mio ospite l'importanza del bagaglio li è pure condotti a pensare che l'ospite si fermerà qui per tutta la stagione e questa notizia corsa per tutti i villini ha destata la curiosità universale come mai un nuovo villeggiante in Corsenna ed ospite del signor Morelli di quel signor Morelli che abbiamo veduto ancora iersera e che non ha creduto necessario né utile né opportuno di dircene nulla immaginarsi adunque la curiosità della colonia ciò che è nulla e meno di nulla in Roma o a Firenze stavo per dire ad Atene è un gran fatto in Corsenna Terenzia e Tulliola moglie e figliuola di Cicerone dovevano essere curiose nelle loro estati di Pozzuoli e nei loro autunni di Tuscolo assai più che non fossero nei loro inverni e nelle loro primavere del clivo capitolino perciò seduta plenaria l'altra sera al bottegone di Corsenna tanto che si dovettero mettere fuori due tavolini di più e quando sono comparso in piazza un po' più tardi del solito per fare più effetto tutti gli occhi si volsero a guardare il personaggio che mi veniva dal lato tacquero le voci e i bisbigli si voleva vedere si voleva giudicare nessuna bella donna arrivò tardi nel suo palchetto a teatro che fosse più guardata e più studiata di Filippo Ferri sulla piazza maggiore ed anche unica della nobil Corsenna l'ho presentato a tutte le signore incominciando dalla sindachessa per non destar gelosie si è preso l'arlecchino di fravole e di limone che è il cavall di battaglia ed anche il ronzino del nostro caffettiere il quale a tutti i complimenti che gli si fanno sull'arte sua e qualche volta un po' ironici guarda i suoi due bigonciuoli pieni di ghiaccio e coperti di frasche di castagno dicendo modestamente si fa quel che si può per contentare i signori preso il sorbetto si chiacchiera le signore fanno a gara per intrattenersi col mio amico e in breve la conversazione diventa generale Filippo Ferri è sempre cortese non sa non può essere diverso ma quando vuole riesce amenissimo e questa volta fa proprio uno sforzo in mani di volontà fa lui tutte le carte parla di cento cose suscitando il desiderio di domandargliene mille ha viaggiato conosce due terzi d'Europa l'Asia minore e l'Egitto è stato a Massawa all'Asmara a Keren insegna di passaggio senza averne l'aria a dir dogali e non dogali racconta aneddoti arabi copti abissini mette in ballo le povere donne di tutti i paesi che ha visitati alterna storie allegre e patetiche fa ridere e fremere come gli piace soprattutto dilettando le signore che sono tutte felici di averlo conosciuto nell'entusiasmo che il nuovo villeggiante ha destato sorge cresce giganteggia e trionfa un'idea quella di star tutti insieme il giorno seguente facendo una scampagnata ad Usiana ah finalmente ad Usiana quella gita che i tre satelliti non erano riusciti a fare con la contessa Quarneri e che lei proprio lei propone ora di fare per atto di onoranza festosa al nuovo venuto siamo ritornati al giardinetto assai tardi ma la conversazione era stata così viva che l'ora uscì di mente a tutti neanche si pensò che il nuovo venuto doveva essere stanco del viaggio ma che stanco dopo tutto aveva ad essere stanco di cinquantasei miglia di strada ferrata un uomo che in tre ore di chiacchiere era corso da Londra a Vienna da Vienna a Costantinopoli da Costantinopoli a Smirne al Cairo a Massawa al Pian delle Scimmie passando ancora per venti o trenta punti intermedi ebbene gli dissi come ci fummo ridotti a casa che te ne pare della nostra colonia niente finora ho appena veduto cercando di orizzontarmi la tua contessa è bellissima la Berti Madre mi pare una donna di buonsenso che porti con dignità il doppio carico della sua mole matronale e delle sue tre figliuole che sono molto graziose la sindachessa è un'oca la segretaria comunale una cinga allegra non ho infatti potuto giudicarlo che ai gesti perché non hanno parlato quasi mai la signora Wilson madre è una fiorentina ma è detto se è tale diciamo pure che è una fiorentina di genere nuovo perché parla sempre coi denti stretti e poco per conseguenza poiché deve durarci fatica ha sposato un inglese rammentalo ed ha dovuto parlare quasi sempre inglese in famiglia del resto quel poco che dice è sempre assennato riprese Filippo mi pare un'ottima donna e molto e giustamente superba della sua graziosa figliuola veniamo agli uomini il tuo commendator Matteini è un rudero ma ben conservato intonacato vuoi dire aspettiamolo di giorno chiaro per vederci le crepe e i miei tre satelliti quelli non li ho studiati ancora mi ha tanto distratto quel Terenzio Spazzoli sì ho ben veduto che non lo hai molto gradito di pure che mi è venuto attraverso come una lisca di pesce in gola e il diavolo se lo porti ci voleva proprio lui qui per dire di avermi incontrato a Monte Carlo e veduto in una gara di pistola che hai vinta e ciò ti ha messo in buona vista con le signore ma è in troppa vista coi tuoi tre satelliti non ci pensi a questo ora prevedo che bisognerà cambiare di punto in bianco il nostro giuoco in che modo lasciami pensare e prima di tutto lasciami andare a dormire sai che domattina dobbiamo alzarci alle cinque che diamine hai inteso di dire Filippo con la necessità di cambiare il giuoco ci ho pensato a lungo nella notte prima di prender sonno ed anche ieri mattina appena svegliato forse voleva farsi sotto con astuzia quatto quatto senza parere alla maniera delle tigri ma questo come poteva sperarlo un uomo come lui anche a non conoscerlo di prima si annunzia subito per quello che è con quel suo piglio marziale con quelle sue spalle da Ercole e in che consisterà il suo cambiamento di giuoco di punto in bianco dunque smascherando le batterie facendo pompa di sé non è vanaglorioso e non saprà millantare sono curioso di sapere a che partito sappiglia la mattina alle cinque prima che ci portino il caffè l'amico Filippo è già in piedi quando entro nella sua camera per dargli il buondì vedo che si è già fatta la barba alle sei siamo in piazza dove sono arrivate le due giardiniere che dovevano portarci ad Usiana a due a tre a quattro per volta arrivano tutti i nostri compagni di scarrozzata la contessa Quarneri viene ultima essendo la più lontana di alloggiamento ma non si è fatta aspettare più di cinque minuti rendiamole questa giustizia ed ha con sé le tre guardie del corpo che sembrano aver passata la notte davanti al cancello del roccolo per non perderla d'occhio con le signore Wilson è venuto anche Bucci che ardisce a venirmi a scodinzolare davanti e a ridermi se Dio vuole sul muso vile schiavo dopo che io t'ho sottratto alle bastonate del tuo primo padrone comprandoti per venti lire da lui così mi tratti così mi ricompensi della mia dabbenaggine lo guardo a squarcia sacco e faccio ridere la signorina Kathleen che però si ricompone subito e mi fa grinta dura quando io alzo gli occhi verso di lei è bella a quel dio la birichina con quel suo vestito alla marinara bianco a risvolte turchine semplice ed elegante elegantissima è la contessa che sfoggia per questa occasione un abito azzurro sormontato d'una cotta bianca a trafori e porta con bella audacia sul capo tutto un verziere anzi tutto un frutteto la bellissima signora ammirata dagli uomini acclamata dalle amiche sequestra per sé la signorina Kathleen e il mio amico Filippo prendendo posto con essi nella prima giardiniera i tre satelliti naturalmente sono pronti a ficcarsi nello scompartimento davanti donde voltandosi e mettendo i gomiti sulla spalliera potranno tenerla d'occhio quant'è lunga la strada abbandonato da Filippo dalla signorina Wilson e perfino da quello scellerato di Bucci che è saltato in carrozza per accovacciarsi sotto il sedile di lei vado a smaltire la mia stizza nella seconda giardiniera dove è la Berti madre con le figliuole i ragazzi sapientissimi non volendo mangiar polvere sono andati nella prima occupando la panca dietro il vetturino per godersi la strada con noi è la signora Wilson madre con noi la segretaria comunale che ha lasciato honoris causa il posto nell'altra vettura alla sua superiora diretta con noi il commendator Matteini e Terenzio Spazzoli felicissimo uomo e pare a vederlo che quel posto nel secondo carrozzone l'abbia scelto lui il divo Terenzio non si scompone mai non si turba non si sconcerta di nulla se casca diciamo pure con lui che voleva scendere i due tramvai si muovono e traversano fragorosamente mezzo il paese oggetto d'invidia ai corsennati tutta gente mattiniera che deve accudire alle sue faccende quotidiane come son felici i signori diranno essi in cuor loro vedendoci passare e voi niente o corsennati a buon conto voi non avete da discorrere di economia politica e di scienza di governo col commendator Matteini il degno conservatore a riposo l'ha oggi con me Dio sa quando mi lascia certo ha provato i giorni scorsi con Terenzio Spazzoli e lo ha trovato indegno di accogliere i tesori della sua molta esperienza il tragitto non si racconta per aver qualche cosa che mettesse conto d'essere qui registrata nel mio memoriale bisognerebbe essere stati là nell'altro carrozzone a sentire le belle cose che avrà raccontate il mio dolce amico Filippo il beniamino il cucco delle signore triste cose in una società essere antichi i nuovi venuti hanno tutte le preferenze tutte le graziette tutte le moine delle signore è giusto infine e poi se fan festa al mio ferri non debbo esserne felice io che l'ho presentato ad Usiana dove siamo arrivati alle otto e mezzo abbiamo veduto un paese come tutti gli altri e degli abitanti su per giù come quei di Corsenna il paese non di meno è più vasto tre Corsenne a dir poco una gran piazza con dei portici su tre dei suoi lati il che deve essere stato immaginato per far dire alla gente e perché non ne hanno voluto mettere nel quarto? forse a compenso di questa mancanza di simmetria ci sono sulla gran piazza di Dusiana due gelsi smisurati giganti bistorti pieni di nocchi di gobbe di cicatrici coetanei credo dell'introduzione dell'arte della seta in Europa mentre si fanno queste ed altre considerazioni archeologiche la contessa Adriana si è avvicinata a me per dirmi con quella tal vocina insidiosa vi abbiamo un po' trascurato Morelli ma non è colpa mia che dite signora ma era giusto che il nuovo venuto fosse il più festeggiato quanto a me sono riconoscientissimo di tutte le cortesie che si fanno al mio amico Filippo le merita sapete ed anche merita la vostra amicizia così generosa egli ha detto lungo il viaggio un gran bene di voi ah sì Filippo Ferri ha il difetto di volermi bene come è un difetto con questo modo di ragionare leverete il coraggio a tutti coloro che fossero per imitarlo sorrido al complimento e tanto più volentieri poiché vedo la cera brusca di Enrico Dalciotto che si era avvicinato allora allora precedendo di due passi i colleghi satelliti quanto a te caro ti tengo ah sì e strascica pure i tuoi monosillabi alla seconda di cambio ti voglio e vedrai che bel giuoco si dovrebbe per intanto vedere questa famosa abbazia di Dusiana della quale in Corsenna si sono raccontate tante meraviglie di marmi di capitelli di colonnini di lapidi di iscrizioni antiche e via discorrendo ma prevale l'idea di far colazione poiché i frati agostiniani dell'abbazia sono tutti morti da un pezzo e saremmo trattati là dentro come all'osteria della luna che chi n'ha ne mangia e chi non n'ha digiuna diamo un'occhiata in giro e vediamo un'insegna il titolo albergo della posta prometterebbe la prima locanda del paese ma le piccole finestre e la povera apparenza dello stabile non ci lasciano sperar bene scovo più in là un albergo Roma e chiamo da quella parte le signore la casa è più bassa e più nuova di fabbrica dovrebbe essere più pulito l'interno mi arrisico dentro e vedo due sale abbastanza capaci mobili pochi e lucenti è il fatto nostro il padrone e la padrona giovani ancora hanno aria di gente per bene non avvezze peraltro a ricevere tanta gente in un tratto il nome della eterna città vuole che diamo la preferenza al suo albergo padrona ma non vorrà mica essere eterno il cuoco siamo quindici c'è chi porta appetito e chi fame c'è modo d'intenderci questo breve discorso strappa ai due coniugi un risolino di buon augurio se si contentano attacca il padrone pensando che non siamo in una città sottentra a canone la padrona in breve siamo d'accordo e ci apparecchiano la gran tavola della seconda stanza le cui finestre non guardano sulla strada né bevono il suo polverio ma ci aprono la veduta ampia dei monti di una valle pittoresca e di un fiume il quale a differenza del suo collega di Corsenna è presente disteso nel suo letto ed occupandone una parte notevole in capo a dieci minuti che noi abbiamo spesi a guardarci d'attorno tutte le sedie dell'albergo di Roma sono collocate intorno alla tavola o per dire più esattamente alle due tavole accostate vengono i bicchieri le bocce dell'acqua le saliere le pepaiuole e molte bottiglie di vino che alle signore paiono troppe davvero e vengono i principi tanto cari a Filippo Ferri che ammira la bellezza dei sedani strappati freschi freschi nell'orto le olive i peperoni i cetriolini e i capperi sotto l'aceto ma più un pan di burro che arriva per far buona compagnia a quattro scatole di lamiera saviamente munite della loro chiavetta che girando trarra via la lista metallica stagnata torno torno permettendo di scoperchiare quattro ipogei di sardelle sott'olio si attacca allegramente tutto ciò che è in tavola ogni aggiunta è salutata da un nuovo grido di gioia le signore si divertono qui come facevano nella faggeta del sandonato e più ancora perché si trovano meglio sedute e meno sparpagliate non c'è la possibilità di un long tennis ma ci vorrà pazienza non bisognerà chiedere troppo alla bontà divina i principi tirano in lungo e non lasciano pensare all'indugio della minestra che finalmente arriva ed è trovata eccellente segue un gran piatto una catasta un monte di costolette cutlets signor Bucci queste dovrebbero piacere a voi più che la pelle degli otto o nove cani di Dusiana dai quali vi siete fatto conoscere e rispettare non so se vi saranno piaciuti egualmente certi funghi rossi sulla gratella che alle signore parvero una squisitissima cosa certo ne avete avuto un assaggio perché di tutte le pietanze che vennero in tavola una bella mano vi passava sempre mezza la parte sua un servito di caciuole delicatissime con aggiunta di frutte chiuse il nostro pasto mattutino se non fosse stata una colazione si sarebbe potuta chiamare senz'altro una cena luculliana mi incaricai io del conto quella brava coppia di sposi furono più che discreti non ci fecero pagare che due lire a testa abbondai per compenso nella mancia ma pare che non sia costume di darne ad Usiana o che fosse troppo forte la mia perché cinque minuti dopo venne il padrone a pregarmi di accettare per la staffa quattro bottiglie di vin buono buono soggiungeva egli perché dolce e gentile che di quello ne potevano ber le signore e le signore che avevano bevuto acquapazza fecero onore alla cortesia dell'albergatore garbato sarebbe tempo oramai di andare a visitare l'abbazia per questo eravamo venuti ad Usiana e non per dimenticarci a tavola si prende lingua e si va ma guai a lei se non è stupenda non siamo disposti a tolderar cose mediocri da lontano l'edificio si presenta bene con una fronte severa un po' brulla per verità poco ravvivata da certe feritoie che non riescono a parer finestre ma infine quello è lo stile longobardico bisogna striderci vedremo poi dentro ah sì dentro si è più fuori che mai il tetto è crollato gli archi in pezzi i fianchi sfondati tutto un mucchio di pietre e di calcinacci o le colonnine a fascio i capitelli lavorati gli archetti i peducci le mensole i costoloni i rosoni di cui si fa sempre un gran parlare per tutto il circondario ah quelli a detta di certi contadini che hanno la loro abitazione lì accanto quelli sono stati levati da un pezzo chissà da 50 anni o da 100 e trasportati e messi in opera nella chiesa parrocchiale di Dusiana non tutti peraltro una buona parte che erano avanzati sul posto li ha avuti per niente o quasi niente un famoso avvocato che ne ha decorata la sua discordia civium concordia lapidum voglio dire la sua residenza autunnale e non c'era altro lapidi iscrizioni antiche un pozzo col suo bel puteale baccellato di marmo bianco che si attribuisce all'epoca romana e di cui si dicono maraviglie quello chissà forse con le lapidi e con tanti altri rottami dall'avvocato essi peraltro i contadini non potrebbero giurarlo non sanno niente di certo son qui da due anni ed han trovato tutto così dunque buona notte alle lapidi e buona notte al puteale ma il chiostro almeno oh quello c'è vedano signore i pilastri e gli archi del porticato trasparire dall'intonaco renoso per tutta la fronte della casa colonica e sia ma è un lato solo e gli altri tre porticati ah grida Filippo son forse quelli che abbiamo veduti sulla piazza di Dusiana li avranno trasportati là per ripararsi dalla pioggia nell'autunno e dalla neve nell'inverno ci vuol pazienza del resto le rovine son tutte così per goderle bene bisogna osservarle di notte e senza luna se vogliono vedere i sotterranei dice il capo della famiglia le signore rabbrividiscono di piacevo il terrore son pazze di sotterranei tanto la fantasia lavora si entra in una stanzetta buia si scende per una scaletta anche più buia alla prima voltata c'è un fil di luce che viene da un finistrino di fianco e lascia vedere là in fondo tra due corte e tozze colorine d'arenaria un gran torchio con la sua madre vita inoperosa sulla gabbia vuota e tutto intorno al bottame della fattoria che manda un forte odor di vinacce dell'altranno giusto cielo si scappa senza aver posto il piede sull'ultimo gradino e si porta il nostro disinganno all'aperto e nessuna leggenda nessun racconto di paure da rimettere in corpo qualche d'uno di quei dolci brividi che la vista di una tinaia aveva fatti cessare sì qualche cosa stuzzicando aiutando grattando il corpo alla cicala si ottiene il vecchio ha inteso a dire d'un tempo che c'erano gli spiriti ma poi l'ala del fabbricato donde si sentivano i lamenti era stata atterrata e gli spiriti trovandosi all'aperto col terreno dissodato e posto a vigna erano scomparsi aveva anche sentito dire ad un viaggiatore che era capitato di sera al convento e gli avevano dato alloggio per la notte non essendo a quei tempi sicure le strade cosa naturalissima in paese di confine il viaggiatore non potendo chiudere occhio era uscito dalla foresteria passeggiando per i corridoi al lume di luna trovato aperto un uscio che metteva sud un terrazzo era andato da quella parte a prendere il fresco ma di là aveva potuto assistere ad una scena che lo fece sudar freddo e scappare più contento di cascare in mano ai ladri che di rimanere al sicuro tra i frati figurarsi nel fondo dell'orto con gran solennità di processione e di preghiere latine avevano seppellito vivo un povero fraticello legato di funi e piangente come una vite tagliata e perché lo seppellivano vivo perché aveva fatto la spia rivelando al governo del duca che i monaci dell'abbazia frodavano la gabella dove poi ne era venuto un processo e i frati erano stati cacciati di là povera poesia del frate sepolto vivo la storiella incominciata così bene da accapponare la pelle a tutte le nostre signore finiva male troppo male in una question di gabella ma non è così grida io la gabella ducale non c'entra per niente oppure è molto più tarda il fraticello aveva fatto ben altro da meritare quell'orribile sentenza se le signore permettono la racconterò io questa patetica storia che ricordo benissimo da bravo raccontate la gridò la contessa Adriana giubilando e battendo le palme padre Anacleto era giovane cominciai troppo giovane aveva troppo ingegno troppe fantasie per la testa e troppo buon sangue nelle vene entrato nella vita monastica con pura e fervida fede non ne aveva trovata altrettanta nei suoi compagni di clausura si biascicavano intorno a lui molte preghiere a tutte le ore del giorno ma senza pensarci senza fermarsi ad intendere il significato profondo sonnecchiandoci su a mattutino a vespro a compieta e non vegliando bene che in refettorio padre Anacleto si era rifugiato nello studio nascondendo il suo intimo pensiero dissimulando la sua nausea dotto di patristica forte di sacra eloquenza aveva anche veduto che tutta la dottrina era già concentrata nei quattro evangeli negli atti e nelle epistole di San Paolo né più altro aveva voluto sapere né più d'altro fuoco scaldava le sue prediche la religione di Cristo era per lui la religione del verbo e il verbo era l'amore ciò era nuovo e a tutta prima pareva anche bello la gente accorreva a sentire mai si era veduta così piena di popolo la chiesa dell'abbazia e ciò pareva anche buono ma presto incominciò a non parer tanto vero fratello gli dicevano i più semplici e i più amorevoli del convento fratello temperate il vostro zelo tanto ardore vi condurrà in perdizione ma il padre Anacleto non voleva sentir ragioni di quella fatta infervorato com'era del fuoco divino il popolo incominciava a venerarlo come un santo gli uomini si inchinavano per baciare i lembi della sua tonaca le donne dicevano che era l'arcangelo Gabriele tanto somigliava al benedetto messaggero celeste padre Anacleto non si invaniva già di quel culto ingenuo che ben sapeva non rivolto a sé ma al dio che egli serviva di cui dispensava la dolce parola alle turbe la potenza dell'ingegno si rinvigoriva nella semplicità del suo cuore traendo tutte le logiche conseguenze dalla formula intraveduta nell'anima sua Dio è il verbo e il verbo è l'amore dunque diceva egli siate fratelli in Dio e portate lietamente la sua croce ognuno di voi voglia la sua parte del peso e questo vi parrà suavissimo amandovi tra voi non vivendo che d'amore il regno di Dio scenderà sulla terra parlava bene povero frate esclamò la contessa sì ma sapeva un pochettino di eretico ripigliai per consenso dei dottori il regno di Dio non può scendere in terra che agli ultimi giorni dal resto il regno di Dio non è di questo mondo non essendo questo mondo che è il luogo di prova né si potrebbe mai confondere la Gerusalemme celeste con la Gerusalemme terrestre dunque il padre Anacleto era caduto nell'eresia per eccesso di ardore lo tolleravano ancora ma esortandolo a temperarsi pregandolo di meditar meglio la vera dottrina dei libri raccomandandogli di flagellarsi a sangue per cacciar via quell'orgoglio certamente soffiato dal maligno nel suo intelletto per non lasciargli vedere il serpe appiattato tra i fiori della sua eloquenza ed egli si flagellava ma più si flagellava più sentiva che il verbo è l'amore è anche l'intelligenza il verbo poiché il verbo è Dio ma l'intelligenza semmai non abitava più nel convento di Dusiana e non pensò egli forse ad alta voce qualche cosa di simile quando gli scappò detto dal pergamo ai fedeli che diffidassero dei lupi rapaci in veste di pastori quando soggiunse non bastandogli quel poco che taluni i quali ostentavano umiltà dottrina e santità erano sentine di vizi pozzi di iniquità armamentari di frode si cominciò a sussurrare di un attacco che padre Anacleto avesse voluto muovere al priore lo scandalo era grave bisognava punirlo e punirlo soffocandolo si fece un processo nella clausura del chiostro il reo più infervorato che mai non volle disdir le sue massime fondamentali che troppo somigliavano a quelle onde erano venuti tanti scismi pericolosi alla chiesa militante sarebbe dunque scaturito un nuovo ario un altro eutiche un altro donato un altro socino e dall'abbazia di dusiana a no per sant'agostino disdicesse il reo le sue massime facesse ammenda di tutto e lui peggio che mai non voleva neanche sentir parlare di coperti attacchi al priore a nessuno dei suoi superiori compagni parlava la parola di dio si rallegrassero i sani rimediassero alle loro piaghe gli infermi guardavano essi alla terra ed egli aveva gli occhi fissati nel cielo mi sentivo la gola asciutta non ne potevo più e avrei bevuto volentieri un bicchier d'acqua ma il mio uditorio era troppo attento aspettando le mie non volli guastarmi l'effetto e pigliai la rincorsa ma allora vedendo tanta pervicacia nell'errore e il reo farsi accusatore sotto quella ipocrita forma scattarono le rivolte del consesso giudicante e vennero le rappresaglie feroci lui con gli occhi al cielo lui non aveva ragionato più a lungo del bisogno sulla pubblica via con le maddalene del vicinato non lo avevano veduto al pozzo intrattenersi con le donne di Samaria sì era la verità ma per parlare di Dio ad anime assetate di rugiade celesti ma per ricondurre le povere anime al culto della virtù come aveva fatto santamente il figlio dell'uomo e la fanciulla invasata di tanta passione per lui da seguitarlo per via da far giornate intiere di cammino a piedi per andarlo a sentire quando predicava nei paesi vicini era impazzita la poveretta e avevano dovuto esorcizzarla non aveva egli gettato un fascino su lei un fascino povero padre Anacleto ci divenne furioso e parve ossesso egli medesimo in quel punto fatale certamente il demonio era penetrato in lui per la via dell'orgoglio ed oramai spadroneggiava in quella povera testa che si era creduta così forte e poiché perfidiavane non voler riconoscere la impossibilità di vedere in terra la Gerusalemme celeste poiché si ostinava a sostenere che la religione non fosse altro che un misterio d'amore tra Dio e la sua creatura e peggio delle creature tra loro il padre Anacleto fu condannato alla massima pena all'unica che togliesse per sempre lo scandalo soffocandolo nell'impace era necessario non si arrogava egli perfino la personalità divina non lo avevano sentito dire una volta nel fervore delle sue improvvisazioni ecco io sono la verità e la via qui poi avevo finito e mi fermai per sentirne l'effetto le ascoltatrici erano commosse ma più di loro il vecchio contadino lei la sa meglio di me la storia del fraticello disse egli nella sua grande semplicità sotto cui forse sappiettava un po' d'ironia peccato che io non saprò raccontarla così agli altri signori che verranno risero le mie ascoltatrici risero i miei ascoltatori fu una risata generale che mi guastò tutto l'effetto della patetica storia io non guardai le signore che avevano il diritto di ridere non guardai quelli tra gli uomini a cui lo concedevo di buon grado mi volsi in quella vece a squadrare i miei tre satelliti e primo il signore Enrico dal ciotto quello era serio e composto si capiva che non aveva riso perché non aveva potuto ridere tanto era rimasto seccato dalla mia parlantina ma poiché egli aveva le labbra chiuse dovetti pure contentarmi rideva in sua vece il cerinelli o come rideva di gusto approfittai della ilarità generale e avendo l'aria di sottrarmi alla gloria del trionfo andai diritto sul cerinelli per dirgli a mezza voce ma con piglio risoluto di che cosa ride lei del contadino che è così buffo la sua storia mi è piaciuta moltissimo signor Morelli non si poteva con più garbo lo lasciai solo a finir la sua frase ero cascato male proprio sul più debole dei tre ma non è stata colpa mia se quello era il più vicino ad Enrico Dalciotto e se per il secondo mi è venuto sott'occhio per lui frattanto ho perduta l'occasione di guardar la faccia del Martorana la contessa Guarneri volle rimetterci tutti in carreggiata facendomi le sue congratulazioni sapete ora soggiunse dopo avermi lodato che cosa vogliamo da voi Morelli comandate signora un ode ripigliò un ode sul povero fraticello sì dico un componimento poetico a vostra scelta mi pare che il soggetto si presti e signorine Berti si associano ed anche le mamme con la sindachessa e la segretaria comunale unica la signorina Kathleen sta zitta galatea è classica non c'è che dire e non ama queste romanticherie ci siamo messi in moto per ritornare al paese io trovo il modo da avvicinarmi a lei che non mi vede chinata com'è a coglier ramoscelli di menta lungo la proda di un campo dunque le dico scriverò i versi sul frate si volta mi guarda abbassa gli occhi e risponde faranno piacere ad Adriana le scriva pure non scriverò niente allora ribatto io punto sul vivo come vi piace è il titolo di una commedia di Shakespeare ha già disimparato l'inglese mi dice queste cose con un tono che mi leva la voglia di proseguire la conversazione ho un diavolo per occhio e sto per assestare una pedata a buci che viene a strisciarmi contro una gamba debbo calmarmi tuttavia perché le Berti sono vicine e mi chiamano si rientra indi a poco nell'abitato di Dusiana e si delibera sull'ora del ritorno ma qui il commendator Matteini ha un'idea luminosa e la sottopone ai lumi della luminosa contessa si è stati così bene per la colazione all'albergo di Roma che in verità si potrebbe rimanere a pranzo e in Corsenna non si ritornerebbe che per l'ora dell'arlecchino piace l'idea e si comunica all'albergatore che la trova degna di noi e mentre egli si metterà in quattro per servirci desideroso di farci anche assaggiare le trote del fiume noi andiamo a visitare la chiesa parrocchiale l'oratorio e tutte le antichità del luogo non perdonando nemmeno ad una di quelle croci di Baldassarre che si vedono piantate lungo la via maestra in tanti paesi campestri con tutti gli emblemi della passione e che prendono il nome dal povero vagabondo fattosi un cinquanta o sessanta anni fa impresario di simili devozioni per le terre d'Italia avanzandoci ancora del tempo si gira ad usiana per tutti i versi i tre porticati della piazza ci trattengono un'ora buona mentre le signore entrano qua e là nelle botteghe spogliando le vetrine di cento cose inutili rimaste invendute dall'ultima fiera finalmente è l'ora del pranzo e si va a fargli onore onorati anche noi alle frutta da un concerto musicale venuto a rallegrarci delle sue scelte e armonie davanti all'ingresso dell'albergo le signore sono piacevolmente commosse da questa delicata attenzione vogliono far entrare i musicanti per offrir loro il bicchiere della riconoscenza e danno l'incarico a me di fare il complimento me la cavo alla meno peggio conchiudendo in questa forma sapevamo signori che Dusiana era una nobilissima terra abitata da un popolo civile intelligente al sommo forte per industrie e fiorente per arti gentili ma in verità ignoravamo che il suo concerto musicale fosse di tal forza come noi l'abbiamo potuto sentire poc'anzi porteremo o signori un eco fedele delle vostre glorie a Corsenna così potessimo sperare che voleste voi portarci il concorso della vostra valentia nella occasione di una accademia di beneficenza che stiamo preparando colà anche la mia idea piace è accettata dal maestro capobanda e acclamata da tutti da tutti mi spiego anche qui mi è mancata l'approvazione di Galatea o seppure l'approvazione c'era non mi è stata manifestata nelle forme convenienti ma che cosa ne sa lei dell'accademia mi chiese ella poco dopo con la sua aria scontrosa so tutto io signorina il mio angelo mi dice tutto risposi la contessa l'ha informato prima di tutto la contessa non è il mio angelo in secondo luogo non so niente da lei e ho resa la botta dell'inglese ed ella ne è rimasta un po' sconcertata ma non più si parte finalmente la contessa mi vuole nella sua giardiniera forse in premio della storia del frate e dell'invito al concerto musicale di dusiana galatea che era già salita con lei non ha più modo di andarsene quanto a me non accetterei ma ci ho qui i miei tre noiosi voglio averli sotto mano e patullarmeli anch'io se mi riesce filippo per non destar gelosie va nell'altra giardiniera con le berti la contessa adriana in verità ci ha perduto molto nel cambio son nervoso irrequieto fastidioso pronto all'attacco più pronto alla risposta non lascio passar niente a nessuno mi sopportano tutti perfino il dalciotto che due volte minacciato ricuse il ferro e da indietro la contessa con ammirabile pazienza condita di grazia mette pace dappertutto ah che giornata che giornata ad alti e bassi come tutte le giornate della misera vita ma per tutti gli dèi infernali io non sono mai stato così poco contento di me come quest'oggi ricapitoliamo ho detto a filippo quando finalmente ci siamo trovati soli al giardinetto ricapitoliamo ma egli risposto quanto a me ti confesserò che ho passato una buona giornata lasciandomi vezzeggiare e osservando la mia gente mi son trovato bene come un pesce nell'acqua ed io come un pesce nell'olio friggendo non è vero ti ho ben visto qualche volta e non hai avuto occasioni di rompere con nessuno le ho cercate ma ho fatto fiasco ho detto a Enrico Dalciotto che si chiamano decadenti in arte solamente quelli che non sanno starritti ed egli non è andato in collera gli ho detto che le cravate larghe le portano i petti stretti e malformati e lui mi ha risposto che era in tutto e per tutto della mia opinione ah quello è il più duro dei tre e gli altri ho domandato al Cirinelli perché ridesse e mi ha risposto per la semplicità del contadino ma lei come ha parlato bene lei di bene in meglio e il terzo non gli ho detto niente mi sono disanimato tasta ancora quell'altro è forse l'incaricato il sorteggiato della combriccola quantunque noi forse facciamo loro un onore che non meritano immaginando che abbiano delle idee di battaglia o per questo non ne dubitare le avrebbero ma io incomincio a temere che la contessa Adriana li abbia catechizzati minacciandoli di ritirar loro la sua grazia se mai si arrischiassero a leticare con me lo saprò disse Filippo tu? io sì sono invitato per domattina al roccolo ah bene e ci andrai sulle dieci mi immagino sì seppure vorrai darmene licenza io figurati sai bene quel che ti ho detto e a parlarti sinceramente andando tu mi liberi da un falso obbligo che cos'è un falso obbligo? il dubbio sciocco di credersi necessario il timore vanitoso che la tua mancanza sia notata e faccia dispiacere alla gente per questo dubbio e per questo timore quante volte si va dove non si vorrebbe andare quante cose si fanno che non si vorrebbero fare da bravo dunque vai tu fine del capitolo tredicesimo capitolo quattordicesimo di galatea questa registrazione libri vox è di pubblico dominio registrato da riccardo fasol galatea di anton giulio barrili capitolo quattordicesimo il prologo e l'epilogo diciotto agosto milleottocento questa mattina il mio dolce filippo è uscito di casa alle nove avviato al roccolo si capisce donde è ritornato sul mezzodì mentre io finivo di buttar giù il racconto della gran giornata di ieri tre ore di conferenza mi congratulo gli dissi no sai mezz'ora per andare con tutto il comodo mio e mezz'ora per ritornare sono dunque state a malapena due ore la contessa avrebbe voluto trattenermi a colazione ma io mi sono scusato essendo in balia del mio ospite ed amico per una prima visita ho voluto essere breve mi rifarò un'altra volta sempre che soggiunse maliziosamente filippo non ti dispiaccia la cosa ma no ma no quante volte lo ha a dire che non mi dispiace che anzi mi fa un piacermatto del resto rispose filippo la tua dama è sciocca quasi tanto sciocca quanto è bella mi ha parlato darmi a tutto pasto non sapeva non voleva parlarmi che darmi io tentavo di fare qualche scorreria nel campo letterario che non è veramente il mio forte ma lei non dubitare mi levò sempre l'incomodo ritornando alle armi avrà voluto tastarti che lo spazzoli semmai le ha fatto ben capire che sono un'ammazza sette e uno stroppio a quattordici avrà creduto piuttosto di farmi piacere mostrando di trovar gusto nelle mie occupazioni favorite come ha fatto con me parlandomi sempre diversi sicuramente quella donna caro mio è come gli specchi non sa che riflettere le immagini a cui si trova di rimpetto perciò mi ha detto di non aver simpatia che per gli uomini animosi per gli uomini valorosi pieni d'onore e di cavalleria mi capisci tutte queste belle cose erano là rappresentate incarnate nel tuo umilissimo servo ah che burlette e bisogna aver l'aria di prenderle per buona moneta mi ha domandato poi se mi sono mai battuto per una donna ed io penso di averla un po' mortificata dicendole troppo presto di no chi sa forse l'avrò consolata soggiungendo che non mi si era ancora presentata l'occasione la donna che amerò è certamente nata guai a lei se aspettasse ancora a nascere perché vorrebbe ritrovarmi già troppo stagionato ma il fatto sta ed è che io non ho avuto occasione di far niente in onor suo qui come ti può immaginare un'occhiata fosforescente o molto fosforescente che cosa vorrà dire lo domanderò questa sera alle lucciole che di queste cose se ne dovrebbero intendere che bel tipo la tua contessa hai ragione a non esserti invaghito di lei come hai torto lasciatelo dire a non invaghirti dell'inglesina perché? perché quella è una fanciulla d'oro con la sua parte di lega vorrei rispondere ma tengo prudentemente la restrizione per me caro mio gli rispondo in quella vece io temo d'essere un po' stravagante e disadatto agli amori ricordi quello che disse la bella veneziana a Gian Giacomo Rousseau zanetola sa starle done e studia le matematiche ed io medito il buon consiglio senza che nessuna me l'abbia dato sai a che penso io a scrivere il mio buon poema che le sciocche gelosie dei tre satelliti mi hanno in mal punto interrotto facendo venir me a frastornarti dell'altro non è vero? soggiunse Filippo che dici posso ben lavorare di mattina e far molto specie se tu hai sempre l'uso di covare il letto quando si può non si deve pretermettere questo piacevole e saluberrimo uffizio alzarsi abruzzico per lavorare quando non ce n'è bisogno che idea peggio ancora quando nessuno ce lo comanda quando nessuno aspetta i frutti del nostro lavoro i posteri i posteri mi dirai ma io ti dirò che cosa faranno i posteri del tuo poema parlo dei posteri di buon gusto si intende e ricchi abbastanza per farti onore ti faranno rilegare in pelle con bei fregi d'oro ed in tonso mi capisci in tonso un libro in tonso ha più pregio d'un libro con le carte smarginate anche i pizzicagnoli sai li preferiscono intatti a mio caro Rinaldo dai retta vivi e gusta tutto il prezzo inestimabile della vita le tue vigilie le tue clausure non profittando a nessuno tolgono molta parte di gioia anche a te la gloria risponderai ma che cos'è la gloria ne ho domandato ad un uomo di grande ingegno e mi ha detto sorridendo la gloria è il diritto acquistato un po' caramente di sentirsi legger la vita tutti i giorni che fa Dio cucinare a tutte le salse negare la fantasia l'arte l'intelligenza il criterio il senso comune oggi a beneficio d'uno domani a beneficio di un altro e così via fino a tanto che non venga un gran postero armato d'una falce lunga lunga e ziffe faccia di tutti un monte di fieno per dar nervi e polpe ad un'altra generazione d'animali sì tutto come vorrai risposi un po' offeso ma non sapendoli per lì che cosa ribattergli ed hai poi saputo niente di ciò che importava li ha catechizzati lei i suoi tre cari satelliti non me lo ha confessato ma l'ho potuto intendere ugualmente parlando di te dicendo che sei molto gentile non ha tacciuto il tuo difetto nobilissimo difetto di pigliar fuoco per nulla come lei del resto come lei passando passando ai tre satelliti ne ha detto anche bene poveracci tanto gentili attenti divoti e pronti ad ogni cenno ad ogni desiderio ma ancora un po' gelosi come tutti i vecchi servitori e poco benevoli ad ogni nuovo venuto ma non sgarbati finalmente che questo ella non sarebbe donna da tollerarlo solo un tantino un tantino come dire aspretti suggerì parendomi che non dovesse spiacere infatti un sapore aspretto non esclude bontà di frutto né di bevanda e c'è l'amaro delle cento erbe che fa bene allo stomaco ci siamo accordati così voltando la cosa in burletta e passando ma io ma vedo di esser capitato a tempo perché la contessa non riescirà mica a trattenerli sempre i suoi cani specie se tu sarai sempre aggressivo come ieri me ne compiaccio e farò peggio ancora non dico di no ma bisognerà agguerrirsi prepararsi di tutte armi all'impresa hai sempre sicuro il tuo colpo a venticinque passi lo credo mettiti in esercizio rinaldo ed anche darmi bianche per non far torto nessuna oggi stesso ho fatto piantare in fondo al giardino un asse di quercia sulla quale Filippo ha disegnato a grossi contorni di carbone un uomo di giusta statura veduto in tre quarti nel torace del nostro uomo abbiamo segnato tre cerchi concentrici ed uno tanto per variare il bersaglio nel mezzo della testa Filippo ha messo fuori le pistole con una diecina di cariche ed io l'ho tutto consolato facendogli quattro centri nella testa e cinque nel costato dell'avversario di legno un colpo solo dei dieci aveva sgarrato di due linee rompendo sempre il mostaccio poco raffaellesco che mi aveva disegnato Filippo la pistola andava a quel dio si venne alla spada ma qui Filippo è troppo più forte di me non riesco a dargli che due bottonate contro dieci che ne tocco da lui va bene va bene ad ogni modo mi dice egli soddisfatto abbastanza dei fatti miei hai bisogno di scioglierti il pugno perciò caro mio meno lavoro di penna e lascia dormire il poema tra questi passatempi arriva l'ora del desinare e dopo desinare tanto per affrettare la digestione quattro assalti di sciabola con rispettive ammaccature qui sono più fortunato lo tocco cinque volte contro sei che ne consegna a me ed ho anche la fortuna d'essere stato il primo a toccare cosa che non m'era avvenuta alla spada ne son felicissimo e con la furia che metto sempre in tutte le cose mie decido di non fare più altro mattina e sera che scherma ed esercizio di pistola filippo non desidera altro è nel suo elemento molle di sudore mi rasciugo come carlo magno dopo le sue cacce d'acquisgrana depongo l'umida maglia ne indosso un'altra e tutto il rimanente per andare con filippo al sorbetto serale un po' tardi però troppo più tardi del solito e la cosa è notata dalle signore con accento di cortese rimprovero il mio ospite fa versi risponde filippo ed io gli faccio la corte leggendoli ma non tutto il santo giorno osserva il commendator Matteini quest'oggi passando davanti al giardinetto ho sentito spari su spari tanto che a tutta prima ho pensato ad una infrazione dei regolamenti non essendo ancora aperta la caccia io avrei il patentino semmai rispose filippo ma nel fatto non si cacciava ero io che non avendo un poema da scrivere facevo i miei quattro colpi quotidiani al bersaglio un bel esercizio disse la signorina wilson mi piacerebbe tanto anche lei signorina se crede potrà contentare il suo desiderio molto facilmente le porterò uno dei miei flaubert grazie se la mamma lo permette per farti poi del male bambina oh non c'è pericolo signora e la sua figliuola può esercitarsi benissimo la carica del flaubert è così minuscola che non c'è nessun timore di veder scoppiare la canna del resto soggiunse filippo non si potrebbe far meglio ci abbiamo l'accademia per l'asilo da allestire che cosa direbbero questi signori d'una gara di pistola si potrebbe anche improvvisare una fiera di beneficenza sì sì una fiera che bellezza gridarono le signorine berti e tutte le signore ai banchi che ne dice contessa credo bene che si ricaverebbe più denaro che non dai biglietti d'ingresso al concerto rispose la contessa adriana per me ci sto volentieri l'idea così naturalmente nata da un'indiscrezione del commendator matteini ottenne tutti i voti parendo quella di tutti concerto vocale e instrumentale fiera di beneficenza gara di pistola perché non anche un'accademia di scherma la giunta veniva da sé ma parve che la cavasse dalle profondità inesplorate della sua mente il divo terenzio spazzoli che dopo averla proposta si offerse per mandare a prendere gli arnesi occorrenti se permette ci penso io disse Filippo tanto non ho niente da fare sciavole guantoni maschere ci sarà tutto così negli intermezzi del concerto si potrà fare qualche assalto che cosa ne dice signor Dalciotto le garba sì molto rispose quell'altro lasciando cadere le parole dall'alto come un uomo annoiato quantunque preferirei la spada è arma più elegante ha ragione ma non bisogna rinunziare alla varietà né all'idea di contentare tutti i gusti ci saranno anche i fioretti anzi se mi gradisce mi offro fin d'ora a lei per il primo assalto Enrico Dalciotto fece un gesto cerimonioso d'assenso benissimo esclamò la contessa Adriana tutti dunque al lavoro e voi Morelli un povero poeta signora che cosa potrebbe faregli il prologo del concerto non vi pare un prologo in versi è cosa da poeti per l'appunto vi sentite ubi dirò ma chi vorrà recitarlo le signorine Berti mi paiono già destinate ad ordinare la fiera la signorina Wilson che non ha ancora aperto bocca potrebbe incaricarsene lei bene sì Kitty gridano le Berti lo recita Kitty no risponde la signorina Wilson non mi sento da tanto perché non puoi recitarlo tu Adriana se non vuoi tu se altre non vogliono dovrò bene adattarmi a recitarlo io conchiuse la contessa purché il signor Morelli non mi faccia dei versi troppo difficili come usano ora ho poca ritenitiva e in quello che non capisco mi ci confondo troppo ancora vorrei che i versi fossero rimati a due a due per aiutar meglio la memoria sarà fatto come volete e come avete il diritto di volere poiché vi piace di recitare una mia composizione che sarà al solito una birbonata l'allusione va al mio Aristarco che non batte palpebra ma è verde dalla rabbia oh povero dalciotto e perché non gliel'han detto a lui di scrivere il prologo ne avremmo sentite delle belline egli dal resto si è quasi scelta da sé la sua parte tra gli uomini d'arme e non bisognerebbe incomodarlo per altri uffizi i suoi due compagni di satellizio hanno accettato di aiutare le signorine Berti nella invenzione dei premi umoristici per la inevitabile lotteria che accompagna le fiere di beneficenza ed anzi ne è la chiave di volta dove scarseggiano le venditrici lusinghiere onnipotenti e le borse disposte a lasciarsi taglieggiare il commendatore Matteini si incarica di scrivere i numeri nei polizzini da estrarre quanto alle carabattole da mettere in vendita ne promettono tutti la parte loro e certamente vuole essere una ricca messe di novità di archilei di gingilli di cianciafruscole di balocchi di piccole utilità ed anche di inutilità per le quali si spoglieranno tutte le botteghe dei paesi vicini incominciando da Dusiana il concerto per la parte strumentale avrà il sostegno della banda che ho scritturata io con tanta prontezza levata a cielo dalle signore ma ci saranno anche i tre mandolini delle Berti non sapevo ancora di questa dote musicale delle signorine ma già qual è ormai la casa signorile dove non trionfi il mandolino accanto al pianoforte e con accompagnamento di due mandolini la maggiore delle Berti deposto per un istante il suo canterà due canzoncine spagnuole magari quattro se ad ognuna delle prime ci sarà la richiesta del bis abbiamo dunque già imbastito e messo in carta ogni cosa ci potranno essere delle varianti delle aggiunte delle sostituzioni ma nel complesso ci troviamo ormeggiati manca il luogo adatto per il triplice trattenimento e a me sovviene la filanda chiusa da parecchi anni che si potrebbe ottenere assai facilmente in grazia del santissimo fine andiamo per intanto a visitarla nella morente luce del crepuscolo vediamo quanto basta per collocare con l'immaginazione trecento persone entro la gran sala squallida che si potrà rinfrescare d'un amandi bianco e ornare alla meglio con frasche di castagno e coi quadri dell'asilo la fiera si potrà mettere per maggior comodità dei corsennati sotto gli archi del porticato il tiro di pistola in fondo al cortile tutto bene adunque anzi all right come ho detto stasera chiudendo i lavori della seduta preliminare la signorina Wilson non potrà dire che sto disimparando l'inglese hai sentito mi bisbiglia Filippo mentre siamo in cammino per ritornarci nel giardinetto la spada è arma più elegante caro te la darò io l'eleganza ma come ci è cascato bene come ci sono cascati tutti e bisogna darne merito al commendator Matteini con quella sua scoperta degli spari che a te mi immagino sarà apparsa tutta prima un'indiscrezione pericolosa avremo dunque tiro di pistola assalti di sciabola assalti di spada e senza lasciar credere che la proposta venisse da noi vedrò dunque la spada di questo dalciotto ma anche tu bello mio da domattina devi lavorar bene a rifarti la mano ci hai otto giorni per esercitarti e tanto faremo che conteranno per sedici magari per trentadue venticinque agosto milleottocento ed anche per sessantaquattro tanto si è battagliato dalla mattina alla sera mio povero e caro Don Juan non ti ho più aggiunto un verso non ti ho più consacrato un pensiero ma già vedi bene che non ho avuto neanche il tempo di scrivere una riga nel mio memoriale pure dei versi ne ho fatti ma quelli come dispensarmi dal farli avrei voluto vederte cavaliere garbato quantunque briccone se donna Elvira o donna Sol ti avesse ipotecato per iscriverle il prologo d'un'accademia di beneficenza sarebbero stati versi diligentemente torniti non è vero versi sonanti galoppanti a coppie versi d'arte maior con la speranza di averne il premio di dare il millesimo e quarto nome alla lista spagnuola del tuo servitore Leporello io ho scritto per niente vedi non avrei presa la penna se ci fosse stata l'illusione del premio ma già io sono un cavaliere indegno di te forse anche indegno di cantare le tue gesta a quei carissimi posteri che danno tanto sui nervi a Filippo questo prologo è stato il lavoro di una mattinata e temo che sarà una birbonata senz'altro ma non potevo neanche tenermi troppo alto lavorare di fine che avrei dato nel difficile e il difficile alla contessa Adriana non piace così è stata contenta contenta lei dovrebbero dichiararsi contenti anche gli altri e poi subito ai ferri tutti i giorni dopo aver battagliato quattro ore del mattino prima di battagliare altre quattro ore del pomeriggio alternando la sciabola con la spada e tutte e due con la pistola me ne vado pedinando fino al roccolo è necessario poiché devo imbeccare il prologo alla mia recitante novellina curiosa declamatrice e come mi fa disperare quando parla è naturale quando recita mi piglia un tuono e una cantilena da disgradarne un canonico in coro ci ha pure la voce nasale che Dio ci perdoni tutti se almeno si contentasse di cantare è il difetto naturale dei martelliani il metro a cui ho dovuto attenermi essendo il martelliano il verso dei prologhi perché poi forse perché il martelliano dal goldoni e dal chiare in giù pare che si accompagni meglio con la cipria ed è carità incipriata quella che fanno le nostre signore nei loro concerti accademie fiere e lotterie di beneficenza è carità fiorita non se ne dubita nemmeno che rallegrando il cuore santifica la vita e i bambini cari oh ci ho messi anche quelli mi ci sono dilungato sulle bionde testine speranze di corsenna gran terra le cui lodi si lasciano nella penna notando solamente per non parervi senza la virtù così rara della riconoscenza che non abbian ricordo d'un angolo di mondo così verde e tranquillo così caro e giocondo ah sì giocondo davvero e caro poi caro come i miei martelliani quest'oggi salito al roccolo per la penultima prova gran novità ci ho trovata la signorina wilson ha aperte le labbra e socchiusi gli occhi ad un risolino malizioso poi mi è diventata di sasso pure vedendo lei avevo detto subito alla padrona di casa ah bene sono felice che sia qui la signorina kathleen ella non ignora che preferisco il nome di kathleen a quello di kitty ma neanche questo è bastato rabbonirla perché mi domandava frattanto la contessa adriana perché recitando il prologo avrete oggi per la prima volta l'idea di trovarvi davanti al gentile auditorio finora non avete avuto da recitare davanti al maestro chiamiamolo pure così la contessa adriana non badò più che tanto alla mia sottile trovata badandoci un poco avrebbe potuto rispondermi vi è venuta ora l'idea non siete voi signor morelli degnissimo voi per l'appunto che non avete voluto nessuno alle prove neanche i miei poveri satelliti che per il vostro capriccio hanno dovuto cangiar l'orario della prima visita e ce n'è voluto sapete a persuaderli tanto erano pieni di stizza così avrebbe potuto rispondermi la signora del prologo ma ecco che cosa avrei potuto replicarle io e con un gusto matto quei vostri satelliti io non li posso patire e non già perché vi fanno la corte badate ma perché mi dannoia non verrai da voi signora mia gentilissima se non fosse la speranza di farne uscire qualche d'uno dai gangheri non voglio che nessuno si immagini di potermi metter paura capite per ciò che riguarda voi e la vostra bellezza quanto più ci penso tanto più mi avvedo di amar galatea sicuro galatea non sapete chi è galatea una gran birichina che m'ha scagliato un pomo e poi è fuggita et fuggita ad salices e mi fugge insieme con lei anche quel malandrino di buci l'ingrato che la si tira sempre sull'orma dove vanno ora non so non riesco a indovinarlo certo non vanno all'acqua scosa dove son ritornato tante volte senza aver mai la fortuna di combinarli dopo quella gita fatale con voi e dopo il mio stratagemma molto innocente e punto necessario ah signora se sapeste come mi avete dato noia con quell'incontro casuale al mulino dove io passavo col mio teocrito in tasca e pensando a voi come al gran cane dei tartari quella passeggiata fu l'origine di tutte le mie disgrazie faccio l'uomo mi irrigidisco sotto la maschera sto sulla mia ma non sono contento di me com'è vero Dio non sono contento di me passari io per un vostro adoratore ma fossi matto con tutta la vostra bellezza consacro il vostro capo agli dei infernali il punto d'onore mi trattenne accanto a voi il maledetto punto d'onore ed ora anche il prologo che bisogna imbeccarvi con tanta fatica avendo le orecchie intronate dalle vostre cantilene corali dalle vostre inflessioni nasali maledettissimo prologo che la signorina Galatea non ha voluto recitare mi avrebbe lasciato giungere fin qua la signora contessa? credo di no se mi avesse lasciato parlare così le avrei detto ancora perché vedete signora voi siete stata la pietra di paragone proprio di questi giorni legato in apparenza al vostro carro ho capito me stesso e l'altro dì quando Filippo ritornato dal roccolo mi ha raccontato che gli avevate fatte tante moine di quelle che sapete far voi neanche una fibra si è scossa in tutto il mio essere non un capello si è mosso l'amico mi ha soggiunto che voi gli diceste assai bene di me ma con certe restrizioni intorno al mio carattere e l'unica pena che io ne ho sentita è stata quella che di restrizioni non ne aveste fatte di più sappiatelo bene avevo bisogno di voi per intendere come sia maravigliosa la semplice bellezza di Galatea voi ci avete la fosforescenza bellezza di lucciola a cui è necessario il contorno dell'ombra non dico che non siate bella anche al sole parlo così per necessità di compiere il paragone intendo di dire che alla vostra bellezza è necessario l'accompagnamento delle abbigliature delle acconciature degli artifici della moda tutto vi sta bene egualmente lo so ma nel fatto non siete che un magnifico figurino anzi diciamo uno splendido modello di vimini fatto a pennello nei suoi contorni per uso delle modiste quando si è capito ciò non occorre più altro e si capisce in capo tre giorni dopo il qual termine la vostra bellezza non dice più nulla ad uno che abbia conosciuto Galatea cioè la donna vera e la ninfa il frutto primaticcio che ha sapore in se stesso e non dallo zucchero in cui bisogna giulebarne tanti altri il fiore che ha una fragranza sua senza bisogno di opoponax e di pelle di spagna che orrore direste ma io arrivato a questo punto vorrei proseguire notate che vedo e riconosco i difetti di Galatea ne ha o se ne ha quella sua passione per tutti i giuochi per tutti i divertimenti bisogno irrefrenabile di moto lo capisco ma io se fossi padrone di quel cuore non vorrei tanto moto non vorrei tutto quel vivere fuori del guscio come fa l'argonauta vorrei meno racchette meno remi meno tuffi in acqua meno balli è un po' più di langure femmineo ma è così giovane più giovane del vero infatti potrà avere vent'anni d'età e frattanto il suo pensiero ne ha quindici con tutte le mariuolerie le impertinenze e i dispettucci di una bambina ascellerata non vorrei confessarlo e l'adoro guai a me contessa se queste cose io le dicessi a voi ma le scrivo nel mio memoriale un libro che apro io solo che dovrò leggere io solo e qui tanto per pigliarmene una satolla aggiungo volentieri long live the queen of my heart ora for galathia galathia for ever fine del capitolo quattordicesimo capitolo quindicesimo di galatea questa registrazione libri vox di pubblico dominio registrato da riccardo fasol galatea di anton giulio barrili capitolo quindicesimo per quei cari bambini 27 agosto 1800 la fatica è stata molta quest'oggi per condurre a buon fine l'impresa come in questi ultimi giorni per prepararla diceva bene iersera il commendatore Matteini mettendo gli ultimi numeri arrotolati nella gran ruota della fortuna che il fare della beneficenza non è come sorbire un uovo fresco il degno uomo confessava candidamente di non aver lavorato mai tanto nella bellezza dei 35 anni della sua vita ipotecaria anch'io con la cura del concerto musicale con quell'altra del prologo e poi con cento piccole cose dell'alta direzione sono stato occupato la parte mia ed oggi finalmente alla stanchezza intellettuale si è aggiunta la stanchezza fisica che m'ha fatto rimanere due ore a tavola quantunque senza voglia di mangiare o di bere stasera ho ricusato di muovermi da casa ed ho lasciato andar solo il mio ospite che uomo d'acciaio quello pare a vederlo che sia stato a veder gli altri mentre ha lavorato anche lui come un negro consoliamoci perché le cose sono andate a quel dio la sala era parata benissimo e il divo Terenzio ha meritati davvero gli elogi di tutta la colonia villeggiante i ritratti del re e della regina tolti per l'occasione dalla sala dell'asilo sono stati appesi nel fondo del palco improvvisato sotto un baldacchino di drappelloni rossi due tappeti della contessa Quarneri tra corone di quercia e festoncini di fiori ed i mazzi di fiori disposti a losanghe si abbellivano le pareti della sala che erano tutte inverdite con frasche di castagno Dio quanti chiodi ci sono voluti per fissare tutta quella roba che aveva poi da durare una mezza giornata non fu così facile del resto dissimulare la bruttezza del pavimento ma su quello erano tante file di sedie che quando la gente ebbe preso posto l'ammattonato scomparve per due terzi della sua superficie un terzo nel mezzo della sala era coperto dal tavolato messo là per le prove di scherma si fece porta alle 10 del mattino avevamo preparato 500 biglietti d'ingresso a 50 centesimi l'uno e si intende che salvo i venduti a chi ne faceva richiesta ce ne spartivamo il grosso tra noi una cinquantina erano già necessari per noi villeggianti e per la gente di casa un centinaio furono presi dai naturali di Corsenna il resto fu distribuito da noi all'ultima ora e gratis per fare una piena spettacolosa i corsennati che stavano per istrada a guardare verso l'uscio della filanda gradirono assai quest'atto di generosità forse lo avrebbero gradito mezz'ora prima anche quelli che erano dentro e che avevano dovuto pagare il biglietto la più parte per onor della firma i corsennati sono gente savia tanto che si potrebbero dire più esattamente assennati e pensano che se i signori vogliono fare del bene farebbero anche meglio a farlo intiero non di meno i paganti e non paganti si sono mostrati soddisfatti ad un modo e non ci hanno lesinati gli applausi la banda di Dusiana ha perso il fuoco assordandoci con la più rumorosa delle sue marce guerriere fu applaudita a furore e si gridò viva Dusiana il che non è mai male tra popoli con termini che hanno di tanto in tanto i loro piccoli screzi e dissapori già si voleva il bis ma il capobanda fece un gesto che voleva dire abbiate fede e ci sentirete anche più del bisogno frattanto otteneva silenzio la contessa Quarneri apparendo sul palco era diventata bianca bianca non potendo impallidire del tutto la rianimarono gli applausi della colonia e quelli anche più rumorosi che seguirono del buon popolo corsennate incominciò essa allora il suo prologo tremandole un pochino la voce ai primi versi io tremavo più di lei temevo che intaccasse e in quella vece tirò via forse un po' troppo veloce ma tanto più sicura del fatto suo quanto più correva verso la fine trascurò si capisce molte sfumature perde molti effetti ma non dimenticò il suo tuono predicatorio la sua cantilena le sue inflessioni nasali niente paura dopo tutto si era in corsenna e corsenna applaudì tutta come un uomo solo credo che sia volata anche qualche spagliera di seggiola i miei corsennati questa volta si tramutarono in forsennati che talento esclamò la sindachessa stimando necessario di dar lei l'intonazione ai giudizi dei suoi amministrati o di suo marito che poi è tutt'uno per il possesso di scena par proprio un'attrice pare la madonna diceva più in là una ragazza modestamente vestita ce ne saran voluti dei biglietti d'accento per coprirla di merletti a quel modo che fior di farina gridava anche più in là nella calca il mugnaio del paese di quella roba lì non se ne trova mica a sacchi che cosa ne dite voi Giacomino state zitto la mangerei rispondeva Giacomino il panattiere insomma tutto è bene quel che finisce bene tra il talento di attrice scoperto dalla sindachessa l'effetto di una ricca abbigliatura che faceva morire d'invidia le ragazze del paese e quello di una bellezza innegabile che destava istinti d'antropofago perfino nel più interessato apostolo della nutrizione vegetale il prologo andò a vele gonfie seguì ancora una suonata della banda con assolo di tromba a pistoni che dato il quale si ebbe una mandolinata delle tre berti tanto carine meritamente applaudite con la domanda del bis domanda che fu tosto esaudita ma variando il pezzo secondo l'uso dei concertisti che si rispettano da capo finito il terzetto delle mandoliniste volle rumoreggiare la banda con un centone di pezzi della norma dove non mancò la casta diva né il suo contrapposto del guerra guerra quello era il momento buono per metter mano all'armi discese Filippo Ferri sul tavolato e lo seguì Enrico Dalciotto Terenzio Spazzoli uomo tagliato a tutti i grandi uffici con molta dignità presi a tenere la smarra l'assalto è per consenso universale assai bello non già perché i corsennati siano intendenti in materia ma perché assistono per la prima volta ad uno spettacolo di quella fatta il povero Dalciotto ha più audacia che perizia di schermitore ha preso una bottonata due, tre senza collocarne una delle sue quattro, cinque e sei con uguale risultato ma qui Filippo Ferri si è mosso a compassione ha un po' rallentato il suo giuoco e si è fatto toccare ad un braccio più di striscio in verità che di punta ma si è affrettato ad accusar ricevuta pare ad Enrico Dalciotto di potersi rifare ne busca una settima e si dà allora per vinto sono proprio fuori d'esercizio con chiude rivolgendosi alle signore ma sono felice ad ogni modo di aver fatto brillare il giuoco del signor Ferri un giuoco veramente magistrale bravo satellite così mi piaci senza rancore con un granellino di spirito che non avrei immaginato mai e che son lieto di riconoscere si domanda il bis ma Enrico Dalciotto è stanco e non lo concede si provi lei mi dice la signorina Wilson che è seduta ai primi posti e che non dubita di rivolgermi il discorso quando c'è gente volentieri le rispondo per farmi battere e mi avanzo sul tavolato per calzare il guanto e metter la maschera animo mi bisbiglia Filippo mentre mi aiuta fraternamente nell'opera qui si parrà la tua nobilità te lo spero bene è chiaro come il sole che ne buscherò parecchie anzi molte ma non farò la figura di Enrico Dalciotto e ne restituirò più d'una incominciamo Guardinghi studiandoci l'un l'altro facendo di passata un po' di fioriture accademiche Filippo Ferri ama i principi a tavola li ama ancora sul tavolato si impegna un gioco serrato di finte di parate di attacchi di contrattacchi di intrecci di sparizioni che diverte un mondo come al gioco del pallone una lunga sequela di colpi senza lasciar ruzzolare il pallone per terra quella prima messa in guardia è senza bottonate la folla degli spettatori va tutta invisibilio come fanno a non toccarsi mai gridano di qua e di là come fanno e si applaude furiosamente al prodigio ma eccoci da capo impegnati Filippo è un gran cavaliere mi lascia l'onore della prima bottonata e ne accusa ricevuta con la solita cortesia ma non vuol neanche parer troppo generoso e finge di essere in collera con sé medesimo ripiglia attacca vigoroso mi obbliga a fare un salto indietro mi invita fieramente col piede e appena son ritornato in misura mi sferra in pieno petto la sua botta diritta è allora un furore d'applausi evidentemente io sono simpatico ai corsennati ma la passione del maggior numero è in questo momento per lui non me ne dolgo mi basta di aver sostenuto quel primo assalto così lungo tenendogli testa senza essere colpito scherzando giuocherellando col ferro quanto lui ma è più che bastante l'onore della prima bottonata che egli mi ha tanto cortesemente lasciato e vorrei dopo la prima sua lasciarmene dare una seconda e una terza che mi parrebbe sempre di aver fatto una buona figura ma egli non è del mio parere mi batte la campagna non approfitta del suo vantaggio seguita a descrivere a distanza di otto centimetri dal mio costato i suoi elegantissimi otto in piedi o coricati come gli pare senza toccarmi mai va bene che molte io ne paro e potrà anche sembrare agli estanti che io le pari tutte ma dentro di me sento che egli potrebbe entrare più di una volta perché non lo fa mi scaldo al giuoco rompo uno di quegli elegantissimi otto ed entro io con una seconda bottonata egli accenna del capo e sembra volermi dire sotto la maschera finalmente è mezz'ora che l'aspetto poi me ne da una a sua volta un'altra se ne lascia dare e così via un po' per uno giungiamo al punto che io ne ho date sei quante lui né più né meno facciamola bella facciamola e la da lui dopo un maraviglioso sfoggio di finte e di attacchi la da lui imperiosa gloriosa solenne ed è piena giustizia che mi rende felice mentre egli tra uno scroscio di applausi è dichiarato il campione della spada signori dice modestamente il mio avversario agli astanti di prima fila dopo avermi dato a maschere elevate un abbraccio fraterno il nostro poeta è di prima forza non lo sapevano bisognerebbe ancora vederlo alla sciabola sì sì un assalto di sciabola si grida non già con me risponde Filippo Ferri io sono ora un po' stanco si fa invito coi gesti ma nessuno dei sedenti risponde Terenzio Spazzoli è un fior di cortesia si offre lui cede la smarra a Filippo mette la maschera e il guantone impugna la sciabola e in guardia son largo con lui come Filippo è stato largo con me e mi lascio far volentieri il solito manichino di controtaglio e di primo appetito poi serrandolo al mio giuoco gli do una puntata guizzando subito fuori e rimettendomi in guardia seguono gli assalti e non mi lascio toccar più un altro suo tentativo di manichino è rotto da un guadagno di lama seguito a volo da un colpo alla faccia ho il mio conto dice Terenzio levandosi la maschera ed asciugando il sudore e questa poi me la son meritata col mio ritorno al controtaglio piuttosto mi par duro essermi lasciato colpire di punta e a me ne duole moltissimo rispondo è un vizio di metodo anche con la sciabola faccio senza volerlo il giuoco della spada rischiando poi se non mi viene bene il colpo di farmi affettare una spalla non temo che ciò le succeda se a tanto sicuro l'atto di portare il taglio in su e così veloce l'attacco quanto al vizio di metodo glielo invidio ho sempre detto io che il giuoco di sciabola va fatto più serrato sì più serrato come quel della spada in certi casi e in tutti gli altri non troppo distante la dottrina e l'asservanza compensano nel divo Terenzio il difetto di pratica ed egli rimane agli occhi di tutti un gran cavaliere la mia gloria non di meno è al colmo la contessa Adriana nel farmi le sue vivissime congratulazioni mi offre perfino dei fiori oh Dio e Galatea che vede che cosa penserà del fatto che cosa dei ringraziamenti che son pur costretto a fare cerco di rimediare rivolgendomi alle altre signore alleberti da principio non avrò i loro fiori signorine le tre fanciulle son ben liete di appagare il mio desiderio mi danno tre bei garofani dei loro mazzolini anche le mamme mi fioriscono alla loro volta e così posso chiedere il suo fiore alla signorina Wilson ne ha già troppi mi risponde ed io del resto non ne ho devo averli smarriti ho lasciati cadere birichina lasciati cadere a bella posta dietro la sedia ma la pena mi hai veduto in giro col manifesto proposito di finire da te la banda di Dusiana rumoreggia da capo con un centone di motivi dell'attila sarà mediocre la banda di Dusiana ma non è certamente peggiore di tante e tante altre poi viva la faccia dei popoli campestri che amano la musica e preferiscono questo passatempo a quello della morra e della politica d'osteria finalmente la banda di Dusiana suona una musica che mi piace per tante ragioni non ultima quella del gran bene che ha fatto ai suoi tempi ancor caldo delle mie sciabolate canticchio in cadenza coi suonatori il cara patria già madre e reina e l'empia lama or l'indovina non dispiacendo neanche al trombone a cui è affidata la frase melodica in discorso ma una voce più graziosa soprattutto più intonata della mia rallegra l'uditorio è la voce della signorina Virginia Berti che arpeggiando sulla sua mandola canta due belle canzoncine spagnuole anche a lei molti applausi i corsennati sicuramente dal continuo picchiare hanno già le bollicine alle mani e ancora non abbiamo finito ecco il bello che viene con una fila di bambini tutti vestiti ad un modo che si schierano sul tavolato e cantano una strofetta di ringraziamento il bello ho detto ma a me non piace essendomi sempre parso un rompere il turibolo sul naso e cosiddetti benefattori e un profanare la onesta dignità dei cosiddetti beneficati il far cantare una filza di complimenti smaccati da quelle care bocche innocenti non piace a me ripeto piace non di meno agli altri e perfino ai parenti di quelle tenere vite passi dunque il ringraziamento cantato c'è poi una bella tombolina che si presenta sul palco e recita un paio d'ottave non si capisce niente di ciò che è la balbetta ma la tombolina balbetta con tanta grazia che ne sono tutti inteneriti e la levano di lassù a braccia tese le fanno carezze e la divorano coi baci il concerto è finito si dispongono le mense per i bambini ai quali è dedicata la festa la banda di Dusiana intuona la marcia reale e questo mi piace ma che dico mi piace è una vera trovata non sono quei bambini i re dell'avvenire godete bambini il vostro primo giorno di regno e non vi manchi corte bandita a tutti gli altri che seguiranno noi vi lasciamo alla vostra dolce occupazione per prendere una boccata d'aria ed anche uno spuntino che la cortesia di Terenzio Spazzoli ha fatto servire a noi in un'altra sala della filanda finito lo spuntino degli artisti e il desinare dei fanciulli si va nel cortile ad aprire il tiro al bersaglio tiro di pistola si intende lo inauguro io con un centro tanto fatto ma voi siete un mago mi grida la contessa Adriana chi vi potrebbe resistere oh povero me per un po' di fortuna rispondo umilmente certo mi son sempre esercitato per avere un colpo abbastanza sicuro contro chi mi vuol male spara a sua volta Filippo e non fa che c'entri puntando a malapena spara anche il divo Terenzio discretamente bene cogliendo sempre il bersaglio in vicinanza del centro Enrico Dalciotto invitato a sparare si scusa col braccio stanco del resto è un po' fuori d'esercizio meno geloso dell'arte sua si prova il Cerinelli e qualcuna ne indovina quanto al Martorana è una sbercia senz'altro ed ha il buon gusto di convenirne tastato anche quello e risponde picche insomma sconfitti tutti e tre i miei fieri satelliti faranno molto a potersi ritirare in disordine Enrico Dalciotto si rifà un pochettino alla ruota di fortuna guadagnando al primo numero un servizio da tavola per venticinque persone è la solita canzonatura di tutte le lotterie un mazzo di venticinque stecchini questo dei premi umoristici è il cavall di battaglia del divo Terenzio che fa stupendamente da segretario alle signore venditrici la ruota gira rigira senza fermarsi mai ma non fruttando che premi di pochissimo conto delle cose migliori si fanno lotterie particolari a mezza lira ad una lira al numero a quella e a queste poco alla volta tutta Corsenna si scalda e mentre qualche bel capo qualche utile arnese è portato via i ragazzi del paese fanno bottino di trombette di zuffoli di tutte le piccole carabattole che i grandi hanno guadagnate ma regalano loro non sapendo che farsene a me tra le risate universali tocca un bavaglino e dopo una diecina di polizini bianchi un altro arnese da bimbi una cuffina son destinato me lo dicono tutti ridendo alle mie spalle ma io non mi spavento per così poco e inalbero arditamente i miei piccoli trofei Enrico Dalciotto riesce finalmente a vendicarsi della mala fortuna guadagnando una sveglia niente di meno beato lui gli servirà per destarsi di buon mattino il giorno che dovrà far le valigie che il Dio l'accompagni la fiera di beneficenza ci porta via tre ore buone oramai non ne possiamo più siamo in moto dalle nove del mattino sentiamo il bisogno di sedere e non per pochi minuti inoltre lo spuntino del mezzodì non ha fatto altro che aguzzare l'appetito gli artisti lasciano il teatro delle loro glorie alla vigilanza del segretario comunale e vanno a desinare all'osteria piuttosto male ma non senza buon condimento d'allegrezza poi tant'è vogliono dare un'ultima occhiata alla fiera contendersi gli ultimi doni sentire le ultime suonate della banda di Dusiana tutto è venduto portato via alla fortuna del polizino restano i banchi vuoti e la cassa piena si son fatte 690 lire paio in poche e si arrotonda la cifra quotandoci in parecchi per aggiungerne 10 si intende che sono 700 lire nette da consegnare alla direzione dell'asilo le spese le abbiamo fatte noi villeggianti così per la banda di Dusiana come per l'arredamento dello stabile per l'ordinamento della fiera dei doni per la lotteria i due terzi sono stati regalati dalla contessa Quarneri si è detto a sua lode non diventerà mai una grande attrice resterà sempre una cortese signora tutti han lavorato quest'oggi ma un po' meno la signorina wilson che non ha voluto assumersi nessuna parte nell'accademia si è per contro occupata assai della fiera in compagnia del commendator matteini e di terenzio spazzoli buci ha partecipato largamente a tutto il trattenimento sempre in moto per la sala del concerto in quella dello spuntino alla fiera all'osteria poi da capo alla fiera sul finir della festa è diventato quasi un personaggio importante non ha voluto riconoscere il suo antico padrone che voleva fargli una carezza vedendolo così lustro di pelo per compenso non ha nemmeno guardato il suo padrone odierno e legittimo per virtù di regolare contratto due o tre volte passandomi egli a tiro mi è tornata la voglia di assestargli una pedata ingratissimo cane la festa è finita almeno per quanto riguarda gli artisti ultimi fanno ancora qualche cosa ai filarmonici di Dusiana rumoreggiando per quanto è lungo il paese e accettando ancora un bicchiere ad ogni frasca ad ogni bottega fino a tanto che non giungono davanti alla giardiniera che deve trasportarli a casa loro madidi di sudore e di vino ma più d'amore fraterno per i loro buoni vicini di Corsenna a cui dopo la loro partenza non rimangono che le fisarmoniche locali per continuare la gazzarra e ballare sulla piazza a memoria d'uomini non si è mai visto tanto tripudio in Corsenna beneficenza sono questi i tuoi miracoli e quando poi ti si è fatto onore senza secondi fini come nel caso presente per solo amore del nostro simile con un accordo perfetto tra i promotori che non fu mai tanto tra i suonatori di Dusiana bisogna proprio andare superbi di noi medesimi e conchiudere che il mondo non è brutto quanto si dipinge sono le undici e suonano il cancello è l'amico Filippo il buon fratello che arriva che torna da godersi il resto della serata nella graziosa compagnia della contessa Adriana smettiamo voglio andarlo a ringraziare di tutto quello che ha fatto per me ps ma bene benissimo Filippo ha lavorato anche lui per la gloria ecco le sue parole rammenterei quel che ti ho detto due giorni dopo il mio arrivo bisogna mutar registro scoperto l'uomo d'armi e forse indovinato il violino di spalla era necessario non aspettare i nostri satelliti ma andar loro incontro con qualche dimostrazione di forze questo si è fatto più presto e meglio che non ci fosse dato sperare anche tu in una settimana d'esercizio hai fatto prodigi e la giornata d'oggi è stata un trionfo per te sì ma come mi hai validamente aiutato risposi e come mi hai cacciato avanti contro il merito mio no sai io ben poco ammettiamo pure che non mi avresti dato la prima quanto al resto hai fatto il tuo potere come io facevo il mio sei diventato fortissimo e te ne faccio i miei complimenti già quando si è avuta una buona scuola non si dimentica più sono contento di te quanto ne saranno scontenti i satelliti della contessa Adriana scommetto che se ne vanno entro i sette giorni felice mortale a te ti ridico per la ventesima volta che non ne sono innamorato sciolta la mia questione d'amor proprio con quei là penso a lei come al gran cane dei tartari e allora tanto meglio tanto peggio avrai tempo e libertà per ardere i classici incensi ad un'altra ma che a nessuno mio caro sai pure che il mio poema mi assorbe ed alli col tuo poema gridò Filippo con accento di comica stizza io vedi se avessi un poema da finire e sperassi con fondamento di trovare un editore lo butterei dalla finestra il poema solo per un sorriso della signorina Wilson che come balbettai ma tu fradicio di letteratura non capisci più niente di niente continuò Filippo infervorato nel suo ragionamento ebbene tanto meglio sei uno di meno ingiostra amo quella ragazza e se mi riesce la sposo ah sì certamente ma ecco soggiunge Filippo ridendo senza volerlo si casca a ripetere il tuo dialoghetto col signore Enrico Dalciotto eccoti dunque mio caro Rinaldo eccoti dunque il segreto dell'anima mia per una volta tanto sono innamorato morto e poiché tu vuoi avere tanta gratitudine per me che non ho fatto niente o ben poco in tuo favore e perché finalmente una mano lava l'altra mi farai la grazia di aiutarmi un po' tu con qualche buon discorsetto preliminare alla mamma fine del capitolo quindicesimo capitolo sedicesimo di Galatea questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol Galatea di Anton Giulio Barrili capitolo sedicesimo mattina e sera 28 agosto 1800 mattina sono rimasto male molto male tanto male che non ho saputo rispondere quello che andava risposto si vedrà gli ho detto ed egli se n'è contentato si vedrà si vedrà viva Dio non si vedrà niente me vivo ma che cosa c'è di vero che cosa c'è di serio nell'idea del signor Ferri come è nata come ha potuto formarsi in una testa cavalieresca sì ma così poco romantica come la sua per amar così forte la signorina Wilson bisogna che speri di esserne riamato per nutrire una speranza simile è necessario che abbia avuto qualche occasione qualche appiglio favorevole ma quale in che modo l'ha trovato oh bella come si trovano gli appigli come si trovano le occasioni non avrebbe trovato niente se fosse rimasto a casa sua meglio ancora non si sarebbe neanche avveduto della esistenza di una signorina Wilson sotto la cappa del cielo sciocco io sciocco io a farlo capitare in Corsenna doveva essere un pericolo quell'uomo un pericolo dappertutto e per tutti con quella sua grand'aria di cavaliere antico e donne amano i forti quello è un corazziere all'aspetto con occhi d'aquila e una bocca di fanciulla e sono i temibili questi non si sfugge all'immagine della forza quando è accoppiata alla bellezza alla bontà alla grazia e natura ah sciocco sciocco tre volte sciocco non potevo condurla da me quella stupida impresa senza contare che la mia matta fantasia aveva lavorato sopra una falsa supposizione erano tre ragazzacci e niente più con una certa voglia di parere impertinenti ma senza il coraggio di giungere agli estremi ed ora che si fa ho passato una notte d'inferno dormendo male e sognando che il corazziere la conduceva all'altare tutta bianca nella sua nube di merletti e di veli con la corona di fior d'arancio sul capo io ero testimonio naturalmente nella mia condizione d'amico e di sciocco bizzarro episodio di quella cerimonia prima di rispondere il fatale monosillabo si è voltata a mezzo dalla mia parte mi ha gittato un'occhiata birichina attraverso il lembo del suo velo più tenue più diafano che mai ed anche con le sue belle labbra vermiglie mi ha fatto boccuccia che ardire e non pensava che potevano vederla il prete a buon conto ha notato il suo atto e levando gli occhi si è volto a guardar me pensando intravedendo in un baleno dio sa quante cose ma lei si era già voltata dalla parte buona e proferiva il suo sì un sì tanto acuto che ne tremò tutta la chiesa ed io mi son svegliato coi sudori freddi alle tempia mi sento male questa mattina e non parlo di alzarmi filippo è venuto in camera mia ed approva la mia risoluzione di stare in riposo è la grande stanchezza di ieri dice egli avrai anche la testa pesante vedo che hai gli occhi un po' rossi ti consiglierei di metterti in corpo un oncia e mezzo di magnesia effervescente è la mia cura quando non mi sento bene vedrai che ti passa ogni cosa non mi passerà niente con la tua magnesia ritira piuttosto rimangiati quel che mi hai detto iersera assassino e vedrai che salti faccio sul letto ma è stata un'infamia innamorarsi della signorina Wilson di Kathleen di Galatea per tutti i sette mila di tutte le disgrazie che mi potevano capitare questa è la più grossa è andato proprio a cercarla nel mazzo e quanta cavalleria per domandarmi per voler sapere ad ogni costo se fosse invaghito della contessa era perfino diventato noioso col suo non volersi persuadere ora capisco il suo giuoco mi ci voleva inchiodare al roccolo magari facendomi ingelosire un pochino di sé per aver poi il merito di ritirarsi davanti a me di lasciarmi il passo franco sì è così non altrimenti egli non aveva avuto da lei nessuna di quelle lusinghe che mi voleva far credere infatti a chi ha dato ieri il premio di un fiore la signora contessa oh quel fiore quel fiore ci voleva proprio quel fiore del malanno per meritarmi un altro sgarbo di Galatea 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 penso che voi abbiate fisso il chiodo di farmi impazzire per una passeggiata innocente per un incontro non potuto prevedere non potuto evitare e del quale non avete nemmeno certezza trattarmi così male via è un po' forte rizzarmi muso sfuggir tutte le occasioni di ritrovarvi presso di me di barattar due parole con me non vi pare una crudeltà senza esempio da che tigre arcana siete voi nata sia detto col massimo ossequio per la vostra signora madre dopo tante belle cose che abbiamo fatte insieme sui monti dopo tante graziose birichinate per pigliarvi spasso di me dovevate mutarvi di punto in bianco a quel modo si andava così bene d'accordo nelle ragazzate mi sentivo ritornar così giovane accanto a voi la vita con voi sarebbe stata così bella tanto bella che per un momento ne ho avuto il capogiro e mi sono sforzato di scacciarne l'idea ah sì gran sapiente che sono stato ero uscito un tratto fuori dalla soglia del mio paradiso e man chiuso l'uscio dietro le spalle che c'è una lettera e larga tanto col bollo comunale di Corsenna è il sindaco che scrive per ringraziarmi non han voluto perder tempo settecento lire di sussidio all'asilo meritavano questa sollecitudine ma perché a me perché sono io il personaggio più importante della colonia l'amico più vecchio di Corsenna il primo capitato fra questi monti e finalmente venendo a dire il merito sono io che ho fatto tutto benissimo sta a vedere che uno di questi giorni mi conferiscono la cittadinanza sono io veramente io che ho fatto tutto e non ho male che non mi sia meritato al diavolo non ne posso più sento che schiatto se sto ancora cinque minuti qua dentro 28 agosto 1800 sera volevo levarmi una spina dal cuore dove sarà andato il ferri che mi è uscito di casa attillato spalmato ripicchiato come uno sposo dalla contessa non credo dalle Berti meno che mai dalle Wilson dunque potrebbe darsi a buon conto andiamo a vedere evitando le strade peraltro girando dai campi strisciando tra i boschi ho il territorio di Corsenna sulla punta delle dita e giungo in vista della casina dove stanno le Wilson ed ho un'occhiata intorno prima di uscire dalla macchia ho fatto bene a non fidarmi troppo ecco Filippo eccolo là che sale dalla strada maestra avviato per l'appunto alla casina di color rosa per la quale io diventerò verde purtroppo eccolo là oh my prophetic soul presaga anima mia com'è vero che la gelosia dà sempre nel segno ed ora che gli è entrato andrò io bella figura ci vorrai fare mi atterrò all'altra peggiore più brutta ma almeno solitaria e non vista di starmene in sentinella per quante ore le Wilson fanno la prima colazione il breakfast alle otto e oramai sono le nove suonate la seconda il lunch al tocco e ci ne avremo ancora per quattro ore poveri noi se il signor Ferri si incanta laggiù fino al lunch vorrei vedere anche questa che non sarebbe poi di buon genere sediamo ma perché fare non posso leggere non vedo neanche le parole ah gelosia brutto male che cosa le dirà ora il signor Filippo degnissimo parleranno della gran giornata di ieri della sua valentia delle sue botte diritte segnatamente dell'ultima che m'avrebbe passato fuor fuori come un ranocchio se il fioretto non avesse avuto il bottone e lui tutto umile in tanta gloria non è così che va fatto un colpo di fortuna debolezze parliamo d'altro lei signorina era bellissima ieri con quella sua marinara semplicissima e brillava più di tutte ah briccone gliene direi tante che qualche d'una le toccherà il cuore ma tu non potrai dirle la meglio non la potrai chiamar galatea non lo sai tu il nome arcano della signorina Kathleen che novità è mai questa sono passati appena venti minuti e Filippo ricomparisce nel viale se ne va certo e non di gamba malata visita breve perché sono curioso di saperlo essere al fianco di galatea ed alzarsi per prender congedo ecco due termini contraddittori strani insociabili non ci reggo più Filippo è già in fondo al viale gira il canto sparisce avanti dunque usciamo dalla macchia andiamo noi a vedere come ci accoglie galatea è permesso avanti oh signor morelli che buon vento è la signora Wilson madre che mi accoglie con tanta cortesia levando gli occhi e la mano dal suo telaio del ricamo stringo quella mano che ella mi offre e prendo la sedia che mi addita vicino a lei una sedia ancor calda delle fiamme di Filippo Ferri egli stesso viene subito in ballo se fosse arrivato cinque minuti prima soggiunge la signora avrebbe trovato qui il suo amico oh davvero che peccato è stato così gentile ripiglia la signora da venire da noi per ringraziarci di ieri non c'è veramente di che noi non abbiamo fatto nulla o al più quello che han fatto le altre signore che non prendevano parte all'accademia ma che bella festa non è vero signor morelli e come è bene riuscito in ogni parte il programma una giornata indimenticabile e indimenticabile prima d'ogni altra cosa ai suoi versi troppo buona signora mia troppo buona erano versi tirati un po' giù per l'urgenza e certamente avevano bisogno di lima ah perché la signorina Chitti non ha voluto recitarli lei sa com'è poco sicura di sé quella cara figliuola per giocare per camminare per ridere non la passa nessuno ma recitare dei versi salire sul palcoscenico fosse pure in corsenna non è il fatto suo del resto di che cosa si lagna i suoi versi sono stati recitati benissimo le pare? sì con una grazia adorabile ho capito la consegna è di trovare tutto bene e frattanto Galatea non si vede spuntare ma con un po' di cantilena non è parso anche a lei ripiglio non volendo adattarmi non me ne sono avveduta e mia figlia nemmeno che anzi ne è rimasta incantata al pari di me ma gli autori sono incontentabili se lo lascia dire ed hanno ragione vagheggiando essi un ideale che forse non è possibile raggiungere in terra ma a lei signor Morelli si lascia anche far complimenti per la sua valentia di schermitore il signor Terenzio Spazzoli che di queste cose se ne intende benissimo l'ha proclamata uno spadaccino di prima forza ahimè non di primissima ebbene che vuol dire c'è sempre qualcuno che in una cosa sola ci può superare ma è già bello esser forti in molte non le pare quanto alla scherma pare che il suo amico Ferri sia il non plus ultra ma che persona a modo che perfetto cavaliere e niente superbo niente millantatore ecco gli uomini come li intendo io che in verità ne avevo trovato non meritandolo uno stupendo esemplare ma non parliamo di ciò soggiunse la signora Wilson mandando un sospiro alla buona memoria del padre di Kitty è solo di casa sua il signor Ferri che idea si fa della vita che disegni vagheggia per il suo avvenire gli uomini come lui interessano sempre sono creature nobili si vorrebbe saperle ugualmente felici toh sarebbe questo il momento buono per dirle ah sì che idea buffa ci ha avuto il signor Filippo Ferri io io fossi matto chissà dove veda egli la propria felicità rispondo alla signora Wilson alla sua età che non è più giovanissima e non è per contromatura abbastanza idee ne vengono molte e si dileguano ancora amore di libertà intendo benissimo conchiuse la signora e forse hanno ragione è così difficile indovinarla oh sì molto difficile vorrei rispondere ma parli al singolare e per lui quanto a me l'avrei indovinata benissimo e frattanto galatea non si vede la signorina Kitty studia sempre domando oh no siamo in campagna e la mia figliuola in campagna fa sempre il meno che può sempre in giro come una libellula a far provvista d'aria e di sole buona usanza esclamo inglese o d'americana che sia è una buona usanza davvero le nostre italiane eccole qui disse ridendo la signora Wilson che è nata per l'appunto italiana e di Firenze le italiane al telaio nell'angolo più riposto del salottino si fanno ancora quattro minuti di chiacchiere e finisco di persuadermi che la signorina non è in casa si può egli credere che ci sia e non voglia farsi vedere da me in questo caso avrebbe dovuto dire troppe cose a sua madre del resto se ci fosse sarebbe comparsa prima all'amico Filippo e Filippo non avrebbe fatto quella sua visita da medico egli se ne è cavato con la scusa dei ringraziamenti da presentare alle signore come se fosse lui che ha fatto tutto ed ora è andato sicuramente dalle Berti o dalla Quarneri per passarle in rassegna sperando di trovare in un luogo o nell'altro la signorina Wilson prendo commiato ancor io ma non per imitare Filippo sono sicuro che Galatea non è dalla contessa né dalle Berti né da alcun'altra delle signore di Corsenna la compagnia è per l'ora del long tennis semmai ma potrebbe essere andata con le ragazze Berti a passeggio come altre volte ha già fatto sia ma in questo caso bisogna andarla a cercare all'aperto laggiù all'acquascosa per esempio sì andiamo da quella parte ma non prendendo la strada bassa del mulino che poi se non la trovassi laggiù dovrei fare una pettata per risalire a Santa Giustina come mi è venuta in mente Santa Giustina non so forse è allo stesso modo che mi è venuto in mente di andare dalle Wilson anziché dalle Berti o dalla Quarneri mi avvio tagliando il monte a mezza costiera e via via risalendo fino ad afferrarne la vetta dove mi faccio a guardare d'ogni banda e a porger l'orecchio nessun rumore il luogo è deserto deserte le valli all'intorno fo il giro del santuario non aspirando a guadagnare nessuna indulgenza e non vedo anima nata è stato dunque un vano presentimento il mio scendo un po' avvilito giù dalla ripa alta in mezzo al bosco dei castagni e di là fatti un cento di passi sento un cane che abbaia ma è buci quello oh caro buci vien qua bucino dell'anima mia il cane non sente la forza della mia giaculatoria forse per non essere al vento mentre io sento benissimo ai suoi latrati lontani egli abbaia al rumore di qualche sasso in cui ho inciampato io facendolo ruzzolare dall'alto abbaia come un cane che sa l'obbligo suo e conosce il prezzo del tesoro affidato alla sua vigilanza scendo ancora un centinaio di passi e lo vedo finalmente ritto e fermo sulle quattro zampe col muso in alto e la gola spalancata mi vede ancora egli mi riconosce tralascia da bagliare e prende il galoppo per venire alla volta del suo legittimo e negletto padrone ma io non voglio che si scomodi tanto per me corro verso di lui come posso ci avviciniamo e per poco non caschiamo l'uno nelle braccia o nelle zampe dell'altro Bucci scodinzola alza le froge per mostrarmi i suoi denti più candidi della sua coscienza di cane e subito quasi sapesse di aver qualche cosa da farsi perdonare si avvia per insegnarmi la strada ti comprendo o Bucci a buon intenditor poche parole e pochissimi gesti riconosco il sentiero dei casali quello stesso sentiero che ho fatto già una volta ma risalendo in compagnia della contessa Adriana maledetta passeggiata donde son nati tutti i miei guai laggiù dove il sentiero si allarga e pianeggia in forma d'aia da batterci il grano seduta davanti all'uscio ed una casupola è lei Galatea che leva gli occhi curiosi a guardare ah non era dunque vano il mio presentimento dovevo trovarla un po' più in alto un po' più in basso ma sempre in quei luoghi all'ombra di Santa Giustina ma che cosa faceva là seduta davanti a quella casupola cuciva rammendava una camicia di tela grossolana per far rispargnare la fatica ad una povera vecchia che stava seduta accanto a lei e la guardava con gli occhi stupiditi lei esclamò ravvisandomi io signorina risposi venivo a cercarla per commissione della mamma commissione per me sì la mamma ha bisogno di lei non si turbila prego deve essere per un consiglio dovendo scrivere una lettera da impostare quest'oggi c'era tempo allora e forse sarà per un'altra ragione che ne so io vengo disse la rassegnandosi addio buona annunziata ritornerò presto ha proferite le ultime parole a voce bassa quasi bisbigliandole all'orecchio della contadina ma io le ho udite ugualmente ah dunque è di qua a mezza costa che venite a rimpiattarvi mentre i poveri cristiani vi vanno cercando per monti e per valli è bene saperlo signorina è molto impacciata negli atti venendo con me frettolosa a cercare l'uscita del sentieruolo sulla strada di santa giustina ella non sa che dire e io meno di lei perciò si va silenziosi seguendo i passi di buci zitti e buci si potrebbe ripetere col proverbio e ora come dirle che ho usato d'una stratagemma per levarla di là che la mamma non c'entra per niente ma solo un mio capriccio una mia follia temeraria se la signorina kitty non ride se ella non ritorna a galatea la scherzosa galatea capace di fare una burla e di soffrirla io sono perduto a mezza strada sento rumoreggiare la cascata del mulino tra poco saremo in luogo meno solitario dove potremo imbatterci in qualche persona di conoscenza ed io non avrò più modo di spiegarle l'arcano lo stupido arcano mi faccio un coraggio da leone mi fermo in mezzo alla strada costringendola a voltarsi per lo stupore dell'atto improvviso e le dico signorina Kathleen perdoni il mio ardimento io l'ho ingannata poc'anzi che cosa dice che l'ho ingannata che non le ho detta la verità la mamma non aveva appunto bisogno di lei ah volevo ben dire e in queste parole la signorina Wilson si voltò risoluta per ritornare ai casali di santa giustina bel frutto della mia alzata d'ingegno bel premio alla sincerità della mia confessione ah no gridai attraversandole il passo non sarebbe degna di lei questa fuga che cosa penserebbe la vecchia contadina di me che faccio di queste burle e di lei che può tollerarle ammette dunque che siano intollerabili ribatté ella severa sì e ne porterò quella pena che a lei piacerà di infliggermi ma ho bisogno di parlarle ho bisogno che la mia scoltia non mi tratti più dal nemico come ha preso a fare da tanti giorni senza che negli atti miei ci sia stato mai niente da meritarmelo mi risponda schietto com'io le parlerò signorina con durezza quanto le piacerà dovessi pure morirne ma con altrettanta sincerità che cosa pensa lei di Filippo Ferri la signorina Wilson molto probabilmente s'aspettava tutt'altra domanda appariva seccata dalla mia insistenza ma quasi rassegnata a starmi a sentire com'ebbi proferito quel nome e la domanda a cui si accompagnava quel nome andò in collera senz'altro senza dubbio l'ero parso brutale signor Morelli gridò ella con voce alterata capì allora di aver domandato troppo ma era tardi per mutar domanda ed anche per attenuarla scusi ripigliai inginocchiandomi quasi io perdo la testa non lo vede ho bisogno che ella non trovi un'offesa in ciò che le ho detto in ciò che sono ancora per dirle vorrei cader qui le giuro sull'onor mio cader qui fulminato in questo momento e sarebbe fortuna per me tanto soffro rispondo alla mia domanda come se gliela facesse un fratello maggiore ama ella forse il signor Ferri la signorina Wilson fece un gesto di noia suprema quasi volesse dire si va di male in peggio con costui ma il gesto non mutava la condizione delle cose ella stette un po' dura sopra di sé muovendo convulsamente le labbra voleva dire di sì voleva dire di no certo riuscì a non dire né una cosa né l'altra poiché mi guizzò via con questa buttata come lei la contessa Adriana le son serva e faceva da capo per andarsene ond'io fui costretto a trattenerla ma non è vero gridai singhiozzando non è vero ciò che ella dice le giuro e faccia un piacere a me per compenso dell'essere stata a sentirla rispose ella mozzandomi le parole in bocca non giuri e non dica bugie che cosa ne importa a me dopo tutto si è scherzato un poco è male non tutti gli scherzi sono belli e il suo non merita certo d'essere portato ad esempio ma ci vorrà pazienza non è vero e un'altra volta farà meglio intanto io ho cegliato con lei come lei aveva cegliato con me botta e risposta come ieri facevano loro sul tavolato e tutti pari buongiorno ancora una parola di grazia se c'è gli atole e dice non vada in collera allora e non mi congedi così bruscamente non la congedo mi congedo distinzioni troppo sottili le pagano degne di noi mi sento signorina voglio convincerla voglio persuaderla sono sicuro di riuscirvi solo che si degni di ascoltarmi vuole che scendiamo da questa parte verso il fiume è tutta strada per ritornare a casa ed altre volte l'ha fatta nella medesima compagnia che oggi le spiace tanto si passa dalla prateria e dal viale dei pioppi io la precedo a volo fino al giardinetto prendo un libro un tacquino e glielo porto da leggere da un pezzo ci scrivo tutto quel che mi accade giorno per giorno tutto quello che dico è il mio memoriale sono effigiato là dentro e non le parrà bello ne sono sicuro ma le parrà tanto più vero ne ho la certezza leggerà tutto vedrà tutto e mi renderà la sua stima credevo di averla persuasa almeno scossa e di farla scendere verso il viale dei pioppi ma ella non si distolse affatto dalla sua via e rise da un riso sardonico che non avevo mai veduto sulle sue labbra ella mi propone una cosa signor Morelli una cosa di cui non vede la sconvenienza suprema e forse in questa ignoranza è la sua scusa ma io non ne avrei nessuna se m'arrendessi al suo desiderio posso esserle parsa un po' sventata e leggera ma ciò non giustifica punto il suo ardimento o la puerilità della sua trovata che le par così bella e così vittoriosa via signor Morelli sia cavaliere non domandi ad una ragazza ciò che ella non può fare né dire ero rimasto atterrato la signorina Wilson colse il buon momento per andarsene via non più trattenuta da me non più leggera e snella come una ninfa birichina ma diritta e solenne come una regina sdagnata sono venuto io solo soletto per il viale dei pioppi sono venuto a rinchiudermi nella mia stanza ed ho scritto questa dolorosissima storia molto male perché la testa mi arde ed ho perso il lume degli occhi che cos'hai mi ha detto Filippo quando è rientrato per l'ora di desinare sempre stanco stanchissimo ho voluto escire a prendere aria e non mi ha fatto bene riposati che diamine conchiude il signor Ferri col suo piglio autorevole la sera si capisce non esco di casa lo lascio andar solo dove gli pare ma non vado io a riposarmi tutt'altro ho un diavolo per occhio e non so quale dei due mi faccia nascere un'idea ma certo è luminosa e l'afferro con giubilo se non è piuttosto da dire che ella si impadronisce di me scrivo scrivo una letteraccia per lui quando l'ho scritta la rileggo e mi pare che vada la chiudo nella sua busta e vado a deporla nella camera del signor Ferri sul marmo del comodino accanto al suo candeliere il dado è tratto e non si torna più indietro sarei libero di dormire a mia posta ma non mi riesce ho gli occhi spalancati che paiono due lanterne suonano le undici e il mio ospite ritorna a casa lo sento salire la scala interna entrare nella sua camera e chiudersi dentro ora leggerà legge sicuramente a letto verrà a bussare al mio uscio no niente di tutto ciò sento in quella vece lo scroscio della poltrona su cui si adagia per rispogliarsi sento il tonfo dei suoi borzacchini che saltano sul pavimento e buonanotte ci siamo visti cinque minuti dopo lavora rumorosamente e saporitamente di mantice beato lui solamente i felici sanno russare così fine del capitolo sedicesimo capitolo diciassettesimo di Galatea questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol Galatea di Anton Giulio Barrili capitolo diciassettesimo a tu per tu quindici settembre milleottocento scrivo giorno per giorno tutto quello che mi accade nel mio memoriale ah sì davvero me ne sono vantato a tempo con la signorina Wilson ecco qua diciassette giorni che il memoriale non riceve nessuna delle mie confidenze pure la materia c'era e come ne sono ancora tutto intronato me ne dolgono tutte le giunture la penna mi sta male tra le dita ma voglio comunque sia a ripigliare è necessario farò come potrò quando la mano ricuserà l'uffizio mi fermerò per ricominciare più tardi ecco intanto la letteraccia non ne avevo tenuto copie scrivendo confusamente tutto quello che mi veniva alla mente e dalla mente alla penna ma è qui l'originale che Filippo Ferri non ha voluto conservare e che mi ha restituito in malo modo mostrando per giunta di non essere un appassionato raccoglitore d'autografi amico nemico qual più mi vorrai non ti maravigliare di questo cominciamento né di quello che verrà dopo è del savio non maravigliarsi di nulla batti ma ascolta disse Temistocle ad Euribiade se crediamo a Plutarco leggi e poi fa quel che ti pare dirò io a te mi hai messo l'inferno nell'anima non ne posso più ho bisogno di sfogarmi e mi sfogo tu sei venuto per mia disgrazia in Corsenna sotto veste d'amico eri un traditore e non saprei che altro dirti di peggio così si viene a turbar la pace della gente a profanar l'amicizia intendi già che io voglio parlare delle tue idee stravaganti intollerabili a proposito della signorina Wilson non ti ho detto iersera quello che ti meritavi tanto mi avevi fatto trasecolare con la tua alzata d'ingegno io parlare in tuo favore alla mamma di lei chiederle la mano di sua figlia per te io che la voglio per me ed ho per volerla il diritto di precedenza levati di testa il pensiero che io possa dare un passo per utile tuo levati di testa quell'altro che ella possa mai essere tua la signorina Wilson l'amo io ed ha un pezzo chiederai perché non te l'ho detto prima per due ragioni ti rispondo la prima è che non ho l'uso di confidare i miei segreti a nessuno la seconda è che io mi fidavo di veder volgere ad altra parte il tuo cuore infiammato e i tuoi omaggi cavallereschi è stato un errore di giudizio il mio un altro errore il tuo ma gli errori si vogliono correggere e non è bello che li lasciamo durare senti ora io non so che effetto ti farà questa lettera pazza ti farà ridere di compassione amara ti farà torcer la bocca amara o pazza che sia non posso ritenermi di scriverla andiamo diritti al fine non mi conviene questa tua aria di padronanza in corsenna ti avevo pregato di venirci per darmi una mano come mio futuro padrino possibile l'occasione si è dileguata ed io dovevo prevedere che non fosse neanche per nascere avendo ad affare con una triade di sciocchi è stato un altro errore ma tu vuoi farmelo pagar troppo caro non mi conviene ti ripeto non mi conviene ora io non ho che una cosa da fare ringraziarti delle tue cure fraterne e pregarti di andartene sei sunctus munere ti è duro il latino hai adempito l'ufficio e non c'è più bisogno dell'opera tua il discorso non ti parrà da ospite e non è certamente per contro è da uomo che non gradisce di sentirsi vogare sul remo quella fanciulla è mia capisci mia l'ho sposata io con un atto della mia volontà davanti all'altare del mio cuore dove io son parroco e scaccino in un municipio dove son io il sindaco il segretario e l'usciere non la sposerà altri fino a tanto che io viva fino a tanto che io possa far riconoscere l'autenticità dei miei atti per il tuo meglio va e non se ne parli più ho fatto un sogno che tu iersera avessi parlato per Celia brutta Celia in verità e che mi ha fatto perdere quel po' di cervello che ancora mi rimaneva ma se è così vieni a dirmelo e mi parrà di rinascere se non puoi darmi questa notizia consolante se metti il tuo amor proprio in luogo dell'antica amicizia sai quello che ti resta a fare io sarò a tua disposizione e bada non per giuocare il possesso di una bella mano su d'un colpo di spada o di pistola questo io l'ho fatto una volta solo in vita mia ma non per la donna che poveraccia poteva forse valere di più come di meno ma per la mia dignità che doveva e voleva avere il di sopra qui non mi giuoco nulla perché è la mia passione in causa fino all'ultimo soffio di vita difenderò quello che mi appartiene pensaci se ami quella donna come l'amo io son sicuro di quello che avverrà se non l'ami come l'amo io non far questione d'amor proprio vattene rinaldo inutile raccontar qui la mia notte né volendo potrei facevo e disfacevo continuamente peripezie e catastrofi intrecci e scioglimenti di una sola tragedia mi addormentai seguitando ad almanaccare nel sogno mi destai la mattina scontento di me ma niente pentito di aver scritta la mia letteraccia su quel punto ero fermo e più inviperito che mai erano le otto ed io stavo misurando per la centesima volta i nove palmi di spazio libero della mia camera dal letto quando mi venne davanti Filippo grave nell'aspetto ma tranquillo il mio corazziere certamente più padrone di sé che io non fossi di me aveva in mano la mia lettera me la fece vedere e mi chiese sei tu che hai scritto ciò io risposi non conosci più il mio carattere lo conosco ancora replicò ma non ci ho veduto il tuo senno questa lettera mi pare d'un matto se credi di offendermi no dico quello che penso secondo il mio costume e dirò ancora che per la forma non sarà da mettere tra gli esempi di bello scrivere certo non credo che sia da annoverarsi tra le mie cose migliori ma è così e non si muta vuol dunque essere una lettera insolente se tu vuoi sposare la signorina Wilson sì vuol essere insolentissima Filippo Ferri si buttò a sedere sulla mia poltrona e ci rimase un tratto in silenzio ruotando gli occhi tormentandosi i baffi oh per Dio esclamò finalmente non la vuoi capire che questo è uno sciocco litigio e mi secca e tu replicai non la vuoi capire che c'è una donna di mezzo e che su questo capitolo non si scherza e non si transige toccami qui e sarò una bestia feroce l'antico uomo non muore complimenti all'atavismo ma io per tua norma non do il passo agli istinti e per ragion di donne non mi sono battuto mai bene se ti sentisse quella e vorrei che mi sentisse darebbe ragione a me e torto a te alle donne rispetto ed ossequio in ogni occasione non è ossequio né rispetto tirarle in questi balli sanguinosi dove non c'è altro guadagno per loro che di scivolare ti rammenti che io abbia mai dato indietro ad un passo e davanti a chi che sia sei stato tre volte padrino mio in questioni d'onore sai che in simili giostre ho toccato la dozzina non ti dispiaccia troppo di passare al brutto numero dissio di rimando e non mi fare il saccente volendo dimostrarmi il non si può e il non si deve di certe cose dove ognuno vede e si governa a suo modo dal resto senti con poca letteratura anzi con nessuna ti ripeto da amico lasciala stare non posso ah vedi e se potessi ripigliò Filippo ti direi ancora non voglio tanto m'offende il modo di domandarmi un sacrificio ti offende esclamai ti offende stai qui a disputare ma io da nemico ti dirò voglio il tuo sangue e non patisco rivali il che significa disse egli che non hai sicurezza dell'amore di lei non l'ho e tu me ne darai soddisfazione Filippo si alzò da sedere rideva gli lampeggiavano gli occhi ed io mi avvidi d'aver commesso un errore ah gridò egli e proprio dopo questa tua confessione dovrei far le valigie sarei un bel cavaliere se mi appigliassi al partito della viltà e per i tuoi belli occhi ancora va là Rinaldo va là tu hai ancora da studiare un pochino il cuore umano prima di rimetterti al tuo Don Giovanni per intanto ti consiglierei di far colazione e di meditare un po meglio su questa faccenda che non va trattata con leggerezza pensaci me ne riparlerai dopo mezzogiorno una proroga di poche ore e che cosa ne speri che tu verrai dopo mezzogiorno a dirmi Filippo amico mio avevo fatta ieri una cattiva digestione ho dimenticata l'amicizia l'ospitalità ogni cosa ero diventato matto che ci vuoi fare alla passione non sempre si può comandare ma ora ho pensato meglio ho avuto un lucido intervallo ed ho capito che non è in noi di voltar sempre le cose a nostro beneplacito quando da noi non dipendono quando ci sono delle sacre volontà da rispettare lasciamo dunque che la signorina abbia la sua volontà e ne usi liberamente sceglierà lei e chi sarà il disgraziato chinerà da galantuomo la testa non ti dirò queste cose stanne certo sarà un error di giudizio e un difetto di cavalleria ma io voglio ad ogni modo queste poche ore di tregua per non aver rimorsi da parte mia voglio ma sai che è una bella pretesa in casa mia l'osservazione è crudele rispose filippo io sarei già alloggiato alla prima ed unica osteria di corsenna se non fosse stato il timore di uno scandalo prima del tempo anche questa ti perdono mettendola sul conto della tua follia a mezzogiorno dunque ci si rivede così dicendo fece una girata sui tacchi e se ne andò lasciandomi solo con la mia letteraccia che aveva gittata sul letto la levai di là e la deposi sulla scrivania per restituirgliela più tardi ma neanche più tardi l'ha voluta riprendere quando ci siamo riveduti dopo mezzogiorno e dopo esserci ritrovati dello stesso umore di prima se è per l'insolenza non dubitare l'ho avuta e me la tengo dissegli ma il documento non mi è necessario in mano mia potrebbe smarrirsi e nuocere alla tua riputazione letteraria lo scherzo è rancido ormai allora abbi del nuovo e non sia più uno scherzo ma un rimprovero non posso né voglio tener io e forse smarrire una lettera come quella dove si nomina una persona la quale non ci ha dato il diritto di servirci del suo cognome con tanta libertà era una bottata diritta la ricevevo in pieno petto e avendola meritata però chinai la testa senza rispondere che arma vuoi scegliere gli dissi non ho preferenze ma sei l'offeso io sì tu non ti ho scritta la lettera che ti è dispiaciuta è bene che importa tu hai voluto offendermi ed io non mi sento offeso al punto di volerne vendetta io rido per tua norma rido verde giallo pavonazzo turchino ma rido se vuoi ad ogni costo una lezione son uomo da dartela hai capito ma non scelgo io l'arma non la scelgo non la scelgo chietati la scelgo io la nera ti va sia pure la nera ma in questo caso bisognerà andare lontano sui monti o tra i monti ed essendo ben sicuri di non aver gente sulla linea del tiro non è necessario di andare lontano risposi qui nel giardino è più presto fatto non è possibile perché se ci si tira il bersaglio mi pare sicuro disse Filippo ci si tira il bersaglio perché c'è spazio sufficiente dalla casa al muro di cinta il tuo giardinetto è una tabacchiera mio caro ma qui nel caso nostro non sarebbe più un bersaglio sarebbero due bersagli uno dalla casa al muro l'altro dal muro alla casa col rischio per colui che fosse dalla parte del muro di uccidere argia la tua cuoca oppila del tuo servitore due persone che non ti han fatto niente che io sappia ebbene alla spada conchiusi io adattandomi ad un ragionamento che non faceva una grinza alla spada rispose Filippo andai subito a cercare le spade che avevamo lasciate con le altre armi nel salottino e postele in croce ne offersi le due impugnature al mio avversario egli ne prese una ed io l'altra muovendo tosto verso il giardino ma egli non pensava a seguirmi teneva la spada in mano come una croce ne guardava l'impugnatura e metteva un sospiro che gridai stupefatto ti dispiace eh sì pensando che le ho portate io è dura sai rinunzia a lei no proruppe egli dandomi un'occhiata che pareva volesse passarmi fuor fuori perché no finalmente che speranze hai e tu capisco ripigliai che potremmo leticare così fino al giorno del giudizio all'infinito dunque commentò Filippo a te non verrà mai il giudizio gli risposi con una spallata e gli feci cenno di passare in giardino per che fare mi domandò per cominciare io butterò la mia giacca tu butterai la tua e saremo subito in arnese di combattimento capisco ma i padrini che padrini d'egitto uno almeno e si può averlo in mezz'ora ti va lo spazzoli son sicuro che non vorrà ricusarci il favore almeno per la stranezza del caso non voglio nessuno risposi ma tu sei più matto che io non credessi si gridò Filippo spazientito va a fartela mettere da altri la camicia di forza un assassinio perché è un duello senza testimoni è un assassinio mi capisci se io fossi sicuro che tu assassinassi me non protesterei ma perché tra due rischi c'è quello che io ammazzi te non intendo di andare in corte d'assise e alla reclusione per te e per le tue follie ho un testimonio ho niente duello ma io di quei di laggiù non ne voglio ed io ti potrei dire che ci sono soltanto quei di laggiù capaci di renderci il servizio in Corsena ma non voglio parerti desideroso di salvarmi con un sotterfugio dai lampi della tua terribile spada mi hai mortalmente seccato e non vedo l'ora di farla finita c'è Pilade in casa? venga lui ad assisterci gli diremo in pochi salti e brutti il nostro bisogno e sotto i suoi occhi ci infilzeremo come due ranocchi ti va? mi va uè Pilade Pilade non indugiò a comparirci davanti sei stato soldato non è vero? gli dissi tre anni nei bersaglieri rispose mettendosi involontariamente sull'attenti bene e non hai paura? no signor padrone neanche di tre che scappino Filippo ride ma non rido io invelenito come sono benissimo ripiglio e veramente poco in tuono con la risposta di Pilade tu ora ci vedi qui signor Ferri e me desiderosi di sbudellarci sì e non c'è che ridire ci siamo offesi nessuno di noi vuol cedere d'un punto decidano dunque le armi tu resterai qui testimone per poter dire al bisogno che tutto è passato d'amore e d'accordo tra noi Pilade balena un istante ed ammicca il mio discorso non finisce di piacergli d'accordo sia non dico di no ma d'amore signor padrone eh intendi per discrezione voglio dire che siamo rimasti così tra noi due che il duello si fa in piena regola un momento di riposo sarà necessario la mano trema le povere dita intormentite portano la penna fuori di riga e poi si avvicina l'ora di andarla giù anzi no lassù bisogna proprio dire lassù dove gli angeli stanno di casa fine del capitolo diciassettesimo capitolo diciottesimo di galatea questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol galatea di Anton Giulio Barrili capitolo diciottesimo teste rotte sedici settembre milleottocento ripiglio il racconto lasciato ieri in tronco per cagione di queste povere dita pilade era rimasto sbalordito o fingeva sì credo proprio che fingesse quello è un ragazzo che non si sbigottisce di nulla e fa qualche volta il minchione per non pagar gabella ma è un furbo trincato egli dunque stette un poco sopra di sé a bocca aperta come un vero baggeo poi disse che discorsi sono questi discorsi da matti risposi io e noi siamo due matti rincalzò Filippo che ci vuoi fare scusino riprese pilade ammiccando ma allora lo ha a dire parla hai libertà di parola allora perché non vanno al manicomio perché risposi io sconcertato perché i matti non ci vanno mai con le loro gambe e tu assisti frattanto al nostro duello duello esclamò pilade facendo bocca da ridere da quello scimunito che voleva parere con quelle spade e con che con un par di stecchini e a tavola per esempio dopo aver ben lavorato di forchetta perché no ma io volevo dire volevo proporre o infine sentano poiché che mi hanno data libertà di parola io sarò un asino ma ho sempre sentito dire che un asino vivo va il più di un dottore morto ed ha anche se lor signore si infilzano di due io dunque continua ma l'altro non approfitta della licenza si è mosso dal posto andando via come un lampo e sparendo dall'uscio vicino come un lampo è ritornato all'aperto con una bracciatella di bastoni di nocciolo ruvidi rugosi alti un metro e sessanta tutti i miei bastoni babilonesi che a detta di pilade fanno rider la gente e rida la gente quando avrà ben riso schiatterà mi assaggino un po' questi dice il servitore ammiccando da capo sodi robusti maneggevoli cedono quanto basta rimbalzano bene dove toccano lasciano il segno con questi alla mano si sfoghino se ne diano quante vogliono fino a tanto che potranno star ritti io assisterò e vedrò di contare giusto è un'idea grida Filippo inuzzolito le piace? a me sì è semplice è pratica ma chiedine piuttosto al tuo padrone io non comando piace anche a me rispondo allora incominciando a levarmi di dosso la giacca Filippo si affretta ad imitarmi levata la sottoveste deposti gli orologi sopra un sedile ci troviamo tutte e due in maniche di camicia l'uno di fronte all'altro qui poi bisogna veder Pilade con la sua aria di papa Sisto dopo che ebbe gittata la gruccia bisogna vederlo raggiante misurare i bastoni trovarne due di pari lunghezza che non ci sia la differenza d'un millimetro offrirceli con un gesto largo prenderne un terzo per sé levarlo in alto e piantarsi davanti a noi come maestro di combattimento così come in caserma dice egli ma scusino la libertà grande con tutta la loro arte di scherma penso che non faranno prodigi il bastone è l'arma per eccellenza lo diceva il nostro professore al battaglione ma è pure un'arma molto difficile maestro Raffae non te ne incaricare gli rispondo io vedrai che in caserma non si è mai fatto meglio di qui e vorrai spero esserci largo della tua alta approvazione volendo dimostrargli che la scherma del bastone non è poi l'arca santa per noi ci mettiamo in posizione gli facciamo sotto il naso un mulinello in piena regola poi caschiamo in guardia io di terza e Filippo di quarta invitandoci l'un l'altro coi soliti inganni all'attacco di primo appetito ma nessuno dei due si lascia cogliere alla lustra vogliamo persuader Pilade che non siamo al bastone quei novellini che egli si immaginava e procediamo per via di finte tastandoci attaccando guardinghi e parando scaldandoci a grado a grado nel giuoco accennando alla testa alla faccia sui fianchi facendo insomma tutto quello che è necessario tra schermitori provetti intanto a quel nuovo bisogno di associare le due mani in un solo lavoro si scioglono i polsi brillano i muscoli guizzano si stendono e si contraggono i tendini fulminando imperiosi ogni moto che gli occhi vigilanti avvertano necessario alle membra in orgasmo eccoci al punto buono si colpisce strisciando qua e là si para un po' meno e si risponde di più si picchia e si ripicchia ora alternatamente ed ora all'unisono come due battitori indefessi quando menano il correggiato sull'aia e volano i colpi rombano in alto calano impetuosi randelli né l'occhio discerne più il manfanile dalla vetta non vedendo più neanche la gombina quello che non si vede qualche volta si sente e come in quella cieca tempesta di bastonate me ne è calata una sulle nocche delle dita che mi fa vedere se non altro le stelle inferocisco mi caccio sotto al mio avversario ho la fortuna di guadagnar mezzo tempo e di assestargliene una di sotto in su che gli fa sgusciar di mano il bastone ma non c'è da cantar vittoria il mio avversario si china rapidamente abbranche il bastone sguizza via prima che io passi dal montante al fendente torna all'assalto più infellonito che mai egli a me ed io a lui si picchia così sodo e così lungo che i poveri bastoni non ne possono più gemono si sfibrano si sfasciano a guisa di canne peste ne hanno abbastanza chiede il maestro di combattimento no brontolo io no ruggia filippo e vorremmo proseguire ma pilade ha posto in mezzo il suo bastone di comando si fermino dunque un minuto secondo dice egli a mo' di conclusione e prendano due bastoni nuovi questi li hanno finiti si buttano i due avanzi miserevoli si afferrano le due vette nuove che pilade ci porge con nobilissimo gesto e giù da capo la granuola pare che i bastoni nuovi ci abbiano rinnovate le forze sicuramente hanno migliore la presa e i colpi ci vengono più aggiustati vedo io doppio come un toro infuriato o filippo è gravemente ferito certo è toccato alla guancia tra l'occhio e l'orecchio destro e il sangue gli spiccia da uno strappo che mi pare assai lungo vorrei fermarmi e faccio intanto un gesto d'angoscia niente niente grida egli che ha capito a volo è una graffiatura questi bastoni sono troppo sottili cedono troppo e la parata non serve sempre a sviare la botta la grandinata ripiglia e spesseggia ne busco la parte mia ma niente paura sono quasi tutte sulle braccia e i muscoli enfiati le rifiutano mi fischiano gli orecchi dal sangue che mi corre veloce alle tempia sento confusamente una voce di donna che strilla e pilade che grida più alto di lei tornate alle vostre cazzaruole qui non è luogo per voi capisco è argia che ha sentito il frastuono ed è a corsa sbigottita sull'uscio ma si è subito ritirata obbedendo alla voce di pilade che è per un momento il vero padrone di casa e là in un angolo della cucina pregherà il signore la vergine benedetta per una coppia di matti furiosi pilade si è chietato e bada a noi con la sua solita flemma io non odò più altro che il respiro affannoso dei miei polmoni e di quelli del mio avversario in cadenza con la rovina dei colpi e a poco a poco mi mutano colore le cose incomincio a veder rosso sempre più rosso nell'aria e in mezzo a quel balenio di randellate che paiono tante linee intrecciate nell'aria gli occhi spalancati di filippo ferri che mi sembrano quelli di un grosso ragno appiattato tra le fila concentriche della sua tela insidiosa sento e non sento il suo bastone toccar me sento e non sento il mio toccar lui che è importo oramai contare i colpi ai lividi si riscontreranno i conti e si aggiusteranno le partite non è più un combattimento è un battibuglio come alle nozze di Pulcinella ah sì io che amo tanto le legnate dei burattini ho qui il fatto mio e ancora io addosso a lui e lui a me come due cani rabbiosi che non i smettono per morsi che tocchino per brandelli di carne che perdano quando siamo troppo sotto misura balziamo indietro o io o lui per saltarci addosso da capo nessuno vuol cedere nessuno si guarda più tanto o quanto si fa a cozzare per cozzare a colpire per la volutà di colpire vanno dove le vanno e chi le tocca son sue è l'inferno scatenato è il finimondo è l'ira di Dio poi poi buio pesto e silenzio di tomba non ho più visto non ho sentito più nulla quando riebbi coscienza di me ero nella mia camera lungo disteso nel mio letto mi guardai d'attorno istupidito non sapendo darmi ragione di niente ad agino ad agino quasi volessi vedere se ero io e non un altro in quella postura provai a muover la testa e mi venne fatto le braccia e mi sentii dolere dalle spalle alle mani le gambe e non mi parve che rispondessero affatto Pilade era là seduto in un angolo ed io non lo avevo veduto si alzò al primo gesto che io feci e venne raccomandarmi di starcheto ma che cos'è gli dissi maravigliandomi un poco di sentir la mia voce perché sono in letto oce da un pezzo signor padrone non si rammenta di sei giorni fa sei giorni ah sì sono dunque passati sei giorni dove avevo la testa nel ghiaccio signor padrone nel ghiaccio pesto e grazie a dio ce ne siamo fatti fuori bene murmurai bene e e signor ferri anche lui anche lui vadano là se ne son date di buone mamma mia pareva la gragnuola che avesse dato in un campo di zucche ti ringrazio scusi dicevo così per dire è il primo paragone che mi è venuto in mente ma basta non si stanchi a parlare per la prima volta che le è tornato il giudizio credi volevo dire il raziocinio il sentimento il che so io lascio correre l'annaspio del signor pilade mio padron riverito che è dopo tutto un buon ragazzo e che in questi giorni ha dato prove di aver più giudizio di me mi chiedo come egli raccomanda ed anche mi addormento dopo aver bevuto un sorso della pozione che mi offre senza sapermi dire che cosa ci sia due o tre ore dopo arriva il dottore che riconosco benissimo e che è lieto di sentirmi parlare animo via le cose vanno benissimo se lo dice lei ma ci ho dolori dappertutto si contenti si contenti quelli passeranno in due o tre giorni era la testa la testa quella che mi teneva in pensiero ma ora sia lo del cielo sono tranquillo se lo lasci dire signor morelli lei ha un cranio a tutta botta e il signor ferri come sta discretamente dal canto suo mi par di ricordare che ne avesse toccato una in testa anche lui dica pure due con lacerazione cutanea e non contiamo le ammaccature ma non c'è niente di grave il suo amico si duole assai più di un colpo al ginocchio dice anzi che non è stato di buona guerra ed io dottore che cosa dovrei dire io che non posso muoverle gambe tanto le oppeste oh gliel'ho detto non dubiti ed ha dovuto convenire di aver torto sono colpi alla testa ha osservato lui molto giudiziosamente colpi alla testa ma che non hanno trovato il bersaglio e sono calati giù a battere dove hanno potuto ma che pazzie signori miei belli che pazzie ha ragione dottore ma almeno ci siamo sfogati s'era fatta una scommessa c'eravamo dette delle male parole capirà capisco sì capisco che hanno la gioventù nel sangue ed anche aiutando il caldo della stagione sono montati in furore ma non lo facciano più è insalubre ci sono voluti dieci giorni a rimettermi in gambe quanto bastava per scendere dal letto Filippo è venuto al settimo giorno in camera mia evidentemente io ho avuta la peggio se egli ha potuto alzarsi tre giorni prima di me ma io con una lacerazione al cuoio capelluto non ho segni in faccia egli porta uno sfregio alla guancia destra fra l'orecchio e lo zigomo con una sfumatura di livido d'avessere stata una brutta legnata e ne porterà per un po' di tempo l'insegna gli ho offerta la mano ed egli la stretta ma subito pentendosi d'aver fatto troppo forte e infatti mi ha veduto torcer le labbra per trattenere un grido di dolore queste povere dita ancora oggi mi dolgono e fanno molto a tenere la penna il mio scritto è raspatura di gallina non si è parlato di niente come se niente fosse avvenuto tra noi perché tornare sul passato non è storia da dover tramandare ai posteri ed è già troppo che l'abbiano a ricordare i presenti soltanto al decimo giorno quando ho cominciato a muovermi per casa gli ho chiesto ebbene che cosa si dice in corsenna capirai mi ha risposto sono rimasti tutti un po' male specie per il fatto di non saperne abbastanza tutti domandano prendono lingua dove possono io ho inventato qualche cosa che bastasse ad appagare la curiosità dei più discreti quanto agli indiscreti vadano a farsi impiccare pilade da quell'uomo di giudizio che è aveva incominciato a creare la leggenda di un nostro alterco nato da una questione di scherma ed io felicissimo della trovata ho abbondato in quel senso per tua norma tu sei partigiano della scuola lombarda ed io della napoletana ci sono queste due scuole infatti per la sciavola come per il mandolino e tutte e due la pretendono ad insegnarci il miglior modo di romper la testa al prossimo così che caro mio se tu anteponi la napoletana alla lombarda abbia oramai la compiacenza di tenerti in corpo la tua opinione perché sarebbe tardi e mi faresti bugiardo senza alcun sugo t'avverto ancora che non si è parlato di bastoni che tutte e due ci saremmo diventati ridicoli e questo poi senza rimedio ci siamo invece picchiati ed ammaccati con le sciabole da sala nella furia dell'alterco ed anche un po' perismargiassata non mettendo la maschera con questo ho giustificata la mia graffiatura quella che si vede naturalmente l'altra che interessa il cuoio capelluto come dice il dottore è fortunatamente nascosta e il mio cuoio capelluto non ha nessun interesse a metterla in piazza sei dunque uscito gli ho chiesto se ho fatto le mie visite e per me e per te non mi crederai mica un egoista sorrido e ringrazio ma non ardisco chiedergli altro frattanto si affaccia pilede sull'uscio e gli faccenno che vuoi dice filippo ah si ho capito vengo subito segreti? domando io no si tratta di una commissione vado e ritorno così dicendo filippo esce e si richiude l'uscio dietro potrei andare ancor io ma non sono curioso e rimango per altro il giardinetto non è una caserma è una palazzina di due piani una persona di più dell'ordinario si fa sentire non può passare in avvertita ed io odo una voce d'uomo voce nuova ed insolita che si alterna con quella di filippo chi sarà mai mi affaccio alla finestra e la voce mi viene più distinta all'orecchio si degni di venir fuori discorreremo più comodamente ha detto filippo ed esce infatti e un signore lo segue borbottando chi sarà mai torno a dire chi sarà mai e che necessità di condurlo fuori chiamo il servitore e lo interrogo voglio sapere chi sia quel signore che è venuto a cercare il mio ospite ed è uscito da casa mia brontolando non faccia caso risponde pilade è il suo affare e credo che non possa parlare altrimenti par sempre di sentire un rumor di tuono in lontananza quando sembra che voglia far burrasca e la burrasca non si decide quello è il signor conte quarneri ma per carità sor padrone non mi tradisca se no il suo amico mi accrezza la schiena col bastone specie ora che gli ho insegnato a maneggiare quest'arma il conte quarneri il marito della contessa che cosa vuole egli da noi che ne so io dev'essere un altro che ha i nervi è venuto altre volte sì a cercare di lei e gli è risposto il signor filippo che lei era ammalato perciò volesse parlare con lui che faceva lo stesso tanto erano amici non gli è parso che fosse la medesima cosa e se n'è andato borbottando oggi è tornato ha borbottato dell'altro e il signor filippo lo ha condotto fuori facendo gli occhiacci se quell'altro ha delle idee se le levi di testa perché non mi par uomo di stargli a petto no davvero il conte quarneri che cosa viene a borbottare da noi che cosa voleva da me e soprattutto perché è capitato in corsenna richiamo il servitore che era già tornato alle sue faccende dimmi pilade son venute signore al giardinetto da che ci siamo picchiati sì sor padrone la prima è stata la chioccia con tutta la sua covata voglio dire la signora Berti con le tre pollastrine e due galletti poi le signore inglesi come dicono quantunque la mamma sia fiorentina e la figliuola di non so dove ma certamente italiana ah c'era anche la figliuola e com'era com'erano dolenti eh si può figurare dolentissime non ardisco domandare di più intorno a questo argomento chissà forse sarà stata dolentissima per filippo poi ogni giorno continua pilade hanno mandato a cercare notizie il ragazzo della villa che viene in paese per la spesa naturalmente io e l'argia le abbiamo date sempre buonissime e la contessa è venuta sì due volte la prima volta da sola e pareva la statua dell'addolorata la seconda volta con quattro signori a proposito quei lì hanno lasciati i loro biglietti di visita vuole che vada a prenderli non occorre spazzoli dal ciotto cerinelli martorana li ho tutti in testa fa conto che io li abbia anche in tasca su queste notizie di pilade incomincio ad almanaccare ma senza riuscire a nulla che mi contenti perché il marito della contessa è in corsenna perché in casa mia che mi faccia l'onore di essere geloso di me ma in che modo gli è venuto il baco ah se fosse come io incomincio a sospettare no no è impossibile una viltà come questa non si impresta neanche al peggior dei nemici frattanto passa un'ora ne passano due e filippo non ritorna che diamine sarà avvenuto l'impazienza mi prende e scendo per uscire pilade vorrebbe almeno accompagnarmi ma è inutile ecco filippo che ritorna finalmente franco ardito e salvo il suo frinzello sulla guancia fresco come una rosa bravo mi grida fai la passeggiata di prova sì come vedi e volevo venirti incontro nel viale anzi poiché ci sei e pilade dovrà andare ad apparecchiare la tavola puoi vigilarmi un po' tu ed ora dimmi ripigliai dopo che il servitore si fu allontanato che cosa vuole il conte Quarneri come sai pilade ti ha detto no niente pilade ho veduto io il conte dalla finestra quando usciva con te brontolando come l'hai conosciuto se viene per la prima volta in Corsenna oh lo conosco benissimo figurati che la contessa Adriana me lo ha fatto ammirare in effigie è una bugia ma m'è venuta bene e Filippo si persuade poiché lo sai dice egli stringendosi nelle spalle eccoti il resto dell'avventura il signor conte è capitato in Corsenna chiamato da una lettera cieca la solita lettera cieca che vuol ridare la vista degli occhi a chi l'avesse perduta è venuto a cercarti perché poi te e non me lo saprà chi ha scritto la lettera è venuto a cercarti tre giorni fa e gli han detto che eri a letto ammalato è ripassato ieri e l'ho ricevuto io dicendogli la medesima cosa soggiungendogli peraltro che poteva parlare con me che ero un altro te stesso ho da parlare con lui mi ha risposto e allora aspetterà per un pezzo gli ho ribattuto l'amico mio è appena convalescente e non può dare udienza a nessuno se n'è andato credevo che si fosse persuaso ma no rieccolo quest'oggi e quest'oggi si contenta di parlare con me per guadagnar tempo come si è degnato di dirmi e mi ha mostrata la lettera in cui gli si dava l'avvertimento salutare di guardar bene casa sua di mettere al dovere certi cacciatori troppo invaghiti del roccolo eccetera eccetera senta gli ho detto i cacciatori sono parecchi sono del bel numero anch'io il signor Morelli contro cui le hanno scritto ci andava per insegnare certi versi da recitare in un concerto di beneficenza non c'era niente di male e se non ci ho trovato niente di male io che cosa vorrebbe trovarci lei da ridire lei che non c'era è lui che ti ha risposto ah se tu lo avessi veduto che muso come mi ha gridato fermandosi sui due piedi e chi è lei per darmi di queste lezioni sono gli ho risposto un gentiluomo che rende giustizia ai meriti della contessa e le confesserò candidamente di essere rimasto preso all'incanto delle sue grazie lei scherza ed io non son uomo da scherzi nemmen io sa e non mi rompa la testa per una lettera cieca che ha ricevuta se avesse senno prenderebbe per un orecchio l'un dopo l'altro tutti coloro che le vengono per casa e li metterebbe inesorabilmente fuori dell'uscio inoltre poiché le ha dato noia l'acqua tiepida non dovrebbe aspettare la calda e dovunque le piacesse di andare a curare la salute dovrebbe condurre la sua signora con sé in coscienza quando si ha nel giardino una vite moscadella come la sua non si lasciano andare e venire comodamente le vespe ella mi renderà conto della sua impertinenza no signore nessun conto sappia che per ragion di donne non mi batto alle donne rispetto ed ossequio non mai colpi di spado o di pistola per esse col rischio certo di offendere la loro riputazione se queste cose non le capisce un marito le capisco io che morrò scapolo vuole ticare ad ogni costo con me mi passi accanto mi pesti un piede sperando che io ci abbia un callo se lo facessi ora ora o poi vedrebbe anzi no sentirebbe che pedata e da farla tornare in fretta a san pellegrino son uomo da dargliela sa ed anche da stiacciarla con un pugno non mi tenti non mi stuzzichi perché son latino e la abusa della forza fisica ma si caro signore ringrazio il cielo di avermela data per levarmi di torno i noiosi del resto non l'ho usata ancora con lei che chiama al soccorso prima del tempo ma badi qualunque cosa ella tenti di fare contro me o contro amici miei la stronco com'è vero dio la stronco con queste due mani le ha viste ora mi si levi da piedi filippo filippo tu sei un eroe ma ci hai purtroppo il difetto di tutti gli eroi quale di non veder che te stesso e non hai pensato che c'ero io in ballo e che non sono un vecchio né un fanciullo né altrimenti una povera creatura che debba esser protetta da nessun cavaliere errante ti ringrazio della generosa intenzione ma non posso approfittare della tua cortesia e poiché il conte quarneri cercava me avendola con me andrò io a mettermi a sua disposizione caro non ti ho detto tutto riprese filippo io posso avere esagerato è il mio costume in un cert'ordine di cose ma comunque sia il mio bravo conte è diventato un agnellino s'è intenerito ha preso a ragionare più pacatamente si è persuaso della tua e perfino della mia innocenza ha capito donde venisse il colpo della lettera cieca non ti chiederà più nulla non chiederà nulla a nessuno metterà perfino i satelliti alla porta ma con una leggera variante al primitivo disegno che avevo osato sottoporgli cioè chiudendo il roccolo e portando la signora con sé sicuramente conchiuse filippo voleva partire col treno delle 4 e 20 sono ora le 5 sicché tira le somme ah tu sei un gran prepotente esclamai ma che volevi che per una scioccheria simile lasciassi andar te sul terreno e ci saresti andato tu certamente se non si fosse potuto farne di meno lasciando supporre dio sa quali ragioni ripigliai e che ne avrebbe detto galatea che galatea perdonami ho ancora il cervello intronato da una delle tue bastonate ed io niente assassino ma tu volevi dire volevo dire alla signorina Wilson filippo ferri trasse un profondo sospiro dall'ampio torace eh caro mio mi rispose l'ho detto di anzi a quel conte che io morrò scapolo credo bene che la gentile fanciulla pensi a me come alla prima bambola a cui avrà rotta la testa e se tu avessi tenuto con me un altro modo scambio di scrivermi quella tua letteraccia scambio di ostinarti come hai fatto a volermi morto se non minchinavo ai tuoi olimpici voleri non ci saremmo rotte da veri bamboccioni le nostre ho abbracciato filippo ferri era il meno che potessi fare e pianto come una vite tagliata fine del capitolo diciottesimo capitolo diciannovesimo di Galatea questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol Galatea di Anton Giulio Barrili capitolo diciannovesimo Cavalier Bagnato 17 settembre 1800 una grossa bega evitata che fortuna per quanto gridassi di voler provvedere da me alle faccende mie ma avrebbe seccato mortalmente un duello con questo conte Quarneri degnissimo gentiluomo che non ho mai più visto né conosciuto dal giorno che l'ho dato a Balia Filippo si è mostrato veramente savio in questa occasione ed io lo aggiungerò volentieri ottavo ai famosissimi sette dell'antica Grecia ed anche come mi ha rimesso il fiato in corpo con una sua modesta confessione mi son sentito rinascere ancora oggi mi par d'essere quel tale che uscito fuori convalescente dagli ardori e dai deliri d'una febbre da cavalli ricomincia a sentir l'allegrezza del vivere poiché dalla finestra riaperta penetra una buona corrente d'aria fresca nell'afa nel viscidume della sua stanza d'infermo oggi sono andato fuori la prima volta dopo tanti giorni per far qualche visita lento a piccoli passi col mio bastoncino di città rinunziando alle mie mazze babilonesi di ridicola e dolorosa memoria facendomi più debole di quello che veramente io non sia e fermandomi volentieri ad ogni svolta della strada campestre la prima stazione del mio viaggio di gratitudine un po' per riguardo alle conoscenze più antiche un po' per avvezzarmi all'ufficio e procedere per gradi dal minore al maggiore è stata dalle Berti la voluminosa Giunone e le sue tre graziose figliuole mi hanno fatto una festa da non dirsi ma che idea è stata la loro di far della scherma senza le maschere mi ha detto la buona signora aggiungendo le palme non sono per caso un po' matti l'abbiamo già detto al signor Ferri che è stato tanto sincero da convenirne così abbiamo avuto il dispiacere di perdergli tutte e due per una quindicina di giorni ma anche lor signori con questa assenza prolungata hanno perduto molto corsenna come lei saprà è rimasta deserta deserta e ci son loro questa signor Morelli è una galanteria ma il fatto sta che abbiamo perduto la contessa ha promesso di ritornare ma con la stagione inoltrata ci sarà poco da sperarlo ebbene una signora di meno risposi ma da quanto ho sentito dire ne sono arrivate di nuove la Marchesa Valtorta per esempio ah sì ne è giunta la notizia anche al giardinetto la Marchesa Valtorta è una gran signora che il caldo eccessivo della campagna pisana ha fatta fuggire in corsenna ha condotto molta gente con sé ma non mi pare che n'abbia abbastanza poiché ci ha quasi rubato il nostro commendator Matteini ed è un guaio perché i cavalieri della nostra piccola società sono rimasti pochi assai pochi che cosa mi racconta e il dalciotto partito ah ed allora anche il Martorana sicuro e poteva aggiungere il signor Cerinelli conchiuse la signora Berti ridendo maliziosamente si capisce erano tre inseparabili amici gran perdita ne convengo ripigliai ma infine la Marchesa Valtorta non vorrà essere così egoista e alla vecchia società di corsenna farà parte della nuova che ha portata con sé non c'è caso signor Morelli per fonderci dovremmo adattarci ad un altro genere di vita non si ama prendere aria e passeggiare in casa Valtorta si sta chiusi e si gioca sicuro la Marchesa è ancora una bella donna che forse vede ancora i quaranta e può lasciar credere che siano trentacinque o trentasei e già si butta per disperata in braccio al peggiore dei diavoli che è quello del giuoco carte signor Morelli carte a tutto spiano e a che giuoco poi lo indovini a Trassetti a Briscola a Naso e Primiera oh peggio assai a Zecchinetto e corrono un po' troppo i quattrini bisogna averci fortuna come il nostro commendatore per trovarci gusto dopo tutto una signora gentilissima e se vorrà esserle presentato no Dio guardi interruppi ora vorrei rifarmi dell'ozio l'aria è più fresca e ne profitterò per lavorare un pochino uscito dalle Berti passai dalla signora sindachessa per una visita da medico più lunga volevo farla dalle signore Wilson dove andai a finire mi batteva il cuore arrivando davanti alla palazzina e più mi batteva entrando nel salottino dove la signora Wilson madre era seduta secondo l'uso al suo telaio da ricamo non sola peraltro come l'ultima volta che era andato a visitarla Galatea era con lei reduce allora dalla solita passeggiata inutile il dire che combinai in casa anche Bucci glielo ho un po' sviato il suo Bucci mi disse la signorina Kathleen dopo i convenevoli d'obbligo che riuscirono del resto un po' magri e naturalmente impacciati ah signorina io glielo rinunzio se vuole anche per iscritto e su carta bollata risposi il signor Bucci non vuole riconoscermi più neanche per prossimo non ce l'offra la prego gridò la signora Wilson madre con un gesto di comico terrore mia figlia sarebbe capace di accettarlo oh mamma mi credi dunque così egoista il signor Morelli si riprenderà il suo Bucci quando noi ce ne andremo da Corsenna e sarà sempre stata una gran gentilezza da parte sua avercelo lasciato per questo po' di tempo non è vero Bucci che ritornerete dal vostro padrone Bucci non la intende così ma ride per cortese abitudine frattanto gliene importa di me come dell'ultimo collarino che ha smesso e come no ne ha uno nuovissimo di fettuccia rosa col nome ricamato d'oro dalle mani della sua bella padroncina protempore per tenere un po' viva la conversazione con la signorina Kathleen bisogna parlarle di Bucci ed io non mi lascio sfuggire l'appiglio Bucci avrà un pregio per me quando se ne saranno andate rispondo quello di essere stato con loro per tutta la stagione se mi permetteranno di venirle a riverire a Firenze lo condurrò a farsi vedere ma ad un'ora bruciata si intende perché? perché in verità non è una bestia presentabile in campagna passi ma in città non ne faccia così poca stima mi ribatte Galatea altrimenti non le vorrà più bene affatto è tutto ciò che ho ottenuto dalla buona grazia di Galatea ma che cosa doveva poi fare saltarmi davanti come il re Davide nel cospetto dell'arca fu cortese e garbata non poteva essere di più rivedendomi per la prima volta dopo una certa conversazione che il mio cattivo umore aveva resa fin troppo penosa per lei quest'oggi poi né essa né la sua mamma gentile fecero allusioni alla mia testa rotta neanche mi vennero sul tema della contessa Quarneri e della sua fuga da Corsenna sì tutto bene ma io ero andato con la speranza di rimanere un paio d'ore e dopo mezz'ora per la freddezza cerimoniosa del ricevimento vidi la necessità di prender congedo per fortuna quando mi alzai la mamma gentile mi disse ci rivedremo signor Morelli qui se non le spiace perché in piazza oramai si va poco la società è quasi sciolta ho bene inteso risposi dopo essermi inchinato profondamente alla cortesia dell'invito c'è un astro nuovo sull'orizzonte di Corsenna e dicono che ci abbia già rubato il nostro commendatore Malteini oh quello entrò a dire la signorina Kathleen ridendo per la prima volta del suo bel riso protervo di Galatea quello poi ci sentiremmo di riafferrarlo alla prima occasione ma ce ne manca il desiderio e del resto chi non ci vuole non ci merita Kitty esclamò la signora Wilson con accento di dolce rimprovero la lasci dire signora gridai è una gran massima e può consolare tutti coloro che non è destinata a colpire mi congedai presto ho detto perché già ero in piedi ma me ne andai molto più lieto usando stringere con l'antica effusione fraterna la cara mano che Galatea non poté ricusarmi in quel punto a casa mi aspettava Filippo con una notizia come dirò sì certamente spiacevole ha deciso di partire e di partire domattina si intende che l'ho pregato ed anche sinceramente di rimanere almeno due o tre giorni ancora ma egli è risoluto e non si lascia smuovere senti mi ha detto ogni bel giuoco dura poco e il mio è durato fin troppo tu non hai più bisogno di me e puoi lasciarmi andare per i fatti miei piuttosto hai bisogno di far la tua strada non ti perdere in ragazzate che ne hai fatte già molte e possono bastare vai all'arma bianca e conquista una mano che è degna di te ah sì per me non vorrei di meglio ma è così fredda mio dio così ferma nel suo puntiglio ma che avrebbe da far le pazzie per dimostrarti quel che pensa di te è una ragazza non lo dimenticare quanto al puntiglio è ancora è sempre una ragazza che non ti può chiedere la spiegazione a cui ha diritto e non può neanche aver l'aria di desiderarla animo dunque all'opera qui si parrà la tua nobilitate il tuo don giovanni così pratico dei cuori femminili come mi immagino che debba essere vorrà avere qualche idea in proposito fatela suggerire da lui filippo è un amico eccellente se ne va togliendomi d'impiccio e mi lascia un buon consiglio che io seguirò certamente 18 settembre 1800 corsenna è deserta dicono ma che deserta è libera io sono stato oggi un po' triste accompagnando filippo alla stazione poveraccio egli meritava questo tacito omaggio del cuore alle sue nobilissime doti e dai suoi utilissimi servigi ma io ritornando al giardinetto mi sentivo più padrone di me che non fossi stato mai avevo due ore libere prima di desinare e le ho subito messe a profitto correndo al fiume al pancone al viale dei pioppi alla gran prateria alle carpinelle e al mio sacro rivolo dell'acqua ascosa non per ritrovarci Galatea che non era quello il momento seppur avesse l'usanza di andarci ancora ma per pensare a lei liberamente sia pure Don Giovanni il consigliere ma sia un Don Giovanni che abbia affogata la sua malizia in un mar di latte così dicevo a me stesso arrivando al mio dolce rifugio quanto è bello fresco ridente quest'angolo di mondo ignorato e quanto sarebbe più bello più fresco più ridente se fosse qui Galatea lieta fiduciosa serena come una volta prima di quella tal passeggiata che le sarà apparsa una profanazione ma in cui non ebbi colpa veruna ecco dei fiorellini nuovi autunnali che dovrebbero piacerle ma ci viene ella più da queste parti vorrei domandarne a quei cardellini che saltellano svolazzano e si rincorrono sull'orlo di quella ripa ma essi non intendono il mio linguaggio ed io non intendo il loro quest'erba tenera che forse ella ha calpestata è muta e conserva gelosamente il segreto ah non tanto gelosamente ecco qua tra un ciuffo di sermolino e un cesto di terracrepolo biancheggia qualche cosa un tesoro niente di meno un tesoro a tutta prima l'ho creduto un temperino ma no è più minuscolo ancora d'un temperino vediamo è un ninnolo un amore di stecchettina d'avorio di quelle che adoperano le signore per tagliar le carte dei libri in viaggio con la piccola presa a taglio vivo da un lato per usarne come segno quando hanno smesso di leggere ed è sua la stecchettina minuscola è sua vedo il nome di chitti inciso sulla costola in bei caratterini italici di colore azzurro carico ah galatea siete tradita ed io vi potrei convincere ad essere venuta all'acqua scosa stamane o alla più lunga ieri mattina ma non lo farò non mi preme di convincervi non mi piace di restituirvi il fatto vostro questa cara stecchettina è mia roba trovata è più che comprata contento della mia piccola fortuna non amo guastarla andando la sera a cercare la nostra antica colonia villeggiante o quel tanto che ne è rimasto in corsenna e che la marchesa valtorta non ne ha tirato al suo zecchinetto temo che le signore willson o le berti credano necessario di parlarmi di filippo ferri cosa che sarebbe pure naturalissima nel giorno stesso che gli è partito voglio bene a filippo ma non amo sentirmelo ricordare davanti a galatea domattina domattina la vedrò quella cara puntigliosa se si risolverà di uscire a passeggio settembre stamani infatti mi sono rimesso in caccia un po prima dell'ora in cui ella suole andar fuori al rivolo dell'acqua scosa non c'era ed io l'esto ai casali di santa giustina ecco l'annunziata la buona vecchierella che attende alle sue occupazioni domestiche mi fermo a chiacchierare con lei assisto al pasto delle sue galline accarezzo il collo della sua mucca le parlo di cento cose e trovo anche il modo di farle un regaluccio in compenso del bicchier di latte che ella mi offre ancor caldo e spumoso trepidante girando largo conduco il discorso sulla signorina wilson che buona e bella figliuola niente superba tutta amorosa con la povera gente non è vero e viene sempre a trovarvi sì sempre ma non tutti i giorni perché c'è qualche cosa da fare in casa specie nell'ultimo mese del suo soggiorno in corsinna come vola il tempo e parieri che la signorina è venuta in campagna ma ella ha promesso di ritornare un altranno si è trovata così bene la sua mamma tra queste montagne ed anche lei quantunque non ci sia venuta per salute come la sua mamma cara è stata ieri a santa giustina non è vero sì ieri una mezz'ora appena ma oggi chissà non ho più niente da dire e saluto la buona vecchia promettendo di ritornar qualche volta a bere il latte della sua mucca l'ho pur detto don giovanni affogherà la sua malizia in un mar di latte e preso il sentiero del bosco scendo verso il mulino andando a fermarmi più in là sulla strada che mette al paese è il luogo dove ho incontrata per mia disdetta la signora Adriana non mi piace e vado ad appostarmi cinquanta passi più oltre seduto sul lembo estremo del bosco sopra un tappeto di eriche nane e mezzo nascosto tra il fogliame di alcune ceppai di castagno che han rimesso i polloni specola eccellente donde io posso dominare l'incontro di tutti i sentieri dai quali ella potrebbe passare andando o ritornando ma non mi serve perché stamane ella non si lascia vedere la vedo questa sera a passeggio con la mamma e con le Berti è cortese ma fredda è più che fredda occupata a discorrere con l'una o con l'altra delle sue giovani amiche poi c'è Terenzio Spazzoli a cui si fanno complimenti della sua poca passione per lo zecchinetto egli ci si gonfia un pochino ed io mi annoio altrettanto ah c'è uno strappo nelle mie relazioni con Galatea uno strappo che bisogna rammendare ad ogni costo ma tu ci passerai bambina laggiù dalla parte del mulino ci passerai una mattina o l'altra e dovrai pagare il pedaggio 20 settembre 1800 Roma è nostra mi ha detto stamani il signor sindaco incontrandomi sul ponte avviato verso la strada del mulino viva Roma in eterno ho risposto con pari ardore al patrio ricordo del primo magistrato di Corsenna era di buon augurio la data Roma è nostra e Galatea è mia posso soggiunger qui senza aspettar complimenti ed è viva giorno fortunato davvero quantunque non senza pericolo ma il pericolo fa prezioso la vittoria e più caro il trionfo oh buci oh cane impagabile io troverò bene uno scultore che voglia farti il ritratto e gittarmelo in bronzo affinché io possa mettere il tuo simulacro a decorazione della piazza grande ed unica della nobil Corsenna erano le nove e sette minuti quando la signorina Wilson mi apparì tra gli alberi della strada campestre come mi batteva il cuore come mi batteva intravedendo nel verde la sua marinara bianca dalle risvolte turchine ella veniva innanzi a passi lenti leggendo buci la precedeva da buon battistrada al lieve rumore che io feci alzandomi dal mio nascondiglio sul ciglione del bosco il buon cane si fermò di botto sulle quattro zampe abbaiando allora mi lasciai vedere e saltai sulla strada oh lei esclamò la signorina credevo che buci avesse visto un serpe povero serpe intirizzito semmai e dove se ne va signorina quassù dalla mia buona annunziata ah bene ci sono andato ancor io ieri mattina a bere un bicchiere di latte dalla sua mucca e volevo ritornarci anche oggi ma poi ma poi che cosa ho deciso di aspettarla qui signorina perché volevo desideravo parlarle era dunque in agguato male ma noi non abbiamo paura e possiamo dire al malandrino ci accompagni pure e beva il suo latte volentieri lo farò signorina ma sarei tanto felice se ella mi concedesse un quarticello d'ora qui proprio qui la signorina catelyn rimase un po' sconcertata guardandomi in questo punto ripigliai incalzando soffra che io le faccia una rispettosa domanda che cosa le ho fatto io perché ella sia tanto severa con me io disse ella sforzandosi di ridere lei vede sempre signor morelli tutto quel che non è non le ho detto orora di accompagnarmi fino a santa giustina orora sì risposi ma tutti questi giorni passati povero me non mi pareva di meritarmi tanta sua crudeltà crudeltà che sarebbe e la vuol farmi ancora dei discorsi che io non posso sentire no no si che ti potrà sentir tutto glielo giuro e si fermi la supplico fermiamoci dissella crollando il capo come persona rassegnata vede mi siedo per giunta e parliamo ma se permette incomincio io che sono più tranquilla di lei dica su come si trova contento la signorina chitti voleva darmi la baia con quel vano discorso ma io lo girai destramente ai miei fini moltissimo risposi perché finalmente c'è quiete la campagna dovrebbe essere sempre così se l'abbiam perdetto le persone che ci hanno lasciati a goderne non è vero sì se l'abbiam perdetto quantunque della partenza di una mi duole un pochino ah e quale filippo ferri dopo essersi battuto con lui veramente che vuole signorina dopo ciò che mi aveva detto lei lassù alla discesa di santa giustina ah ed è per quel discorso che lei ha messo mano alle armi sì per quello e non ne avevo forse ragione le assicuro ero fuori di me dalla rabbia che uomini esclamò vuol dire che se avesse potuto battersi con me quel giorno sì l'avrei fatto risposi mi piace la sincerità ma è sempre così sincero lei sempre allora mi dica un'altra cosa dissella dopo aver balenato un istante domandi domandi pure ma lei giuri di esser sincero non ne dubiti né ora né mai voglio ad ogni costo meritar la sua stima almeno quella soggiunsi lasciandole intendere il resto si fece un po' rossa ma voleva padroneggiarsi ne venne a capo dal resto si capiva che la aveva accettato battaglia e che avendola accettata voleva anche attaccarla a suo modo ottimamente dissella ordunque alla prova e in una cosa da nulla badi proprio da nulla salvo la difficoltà dell'indovinare di chi parlo perché io non l'aiuterò punto punto dove l'aveva incontrata perché c'era non è così sì c'era risposi anzi c'eravamo e avevamo presa la fuga essa non voleva rendiamole giustizia sono io che ho voluto ad ogni costo e posso dirgliene il perché lasci che la interroghi io replicò la mia giudichessa ella deve rispondere ancora alla mia prima domanda dove l'aveva incontrata là a 50 passi da noi dove ella vede appunto quel regagnolo che attraversa la strada a caso non l'aspettava come aspettava oggi sull'onor mio e per il conto che io faccio della sua stima non l'aspettavo scendevo dal bottaccio mi avviavo da questa parte quando improvvisamente l'ho veduta giuro inoltre che se fossi stato in tempo di cansarmi l'avrei fatto e con che gusto se lo può figurare io veramente non mi posso figurare nulla e poi dove sono andati vuole che rifacciamo la strada signorina a passo a passo le racconterò ogni cosa come l'ho scritta nel mio memoriale che ella non ha voluto leggere lasciamo stare il suo memoriale ne parleremo poi e andiamo rifacendo la strada che tanto è la mia per salire a santa giustina non tutta risposi bisognerebbe salirci dall'altra parte semmai passato l'argine dell'acqua a scosa e così faremo conchiuse ella che aveva rotto il ghiaccio oramai e appariva risolutissima prima di tutto saltiamo questo rigagnolo come avrà fatto quell'altra immagino che non avrà voluto immollarsi la punta degli scarpini non so non ho badato le ho già detto che ero molto seccato dell'incontro e per conseguenza confuso ed ecco proprio qui imbattendosi in me mi chiese dove fosse l'acqua a scosa che cosa avrebbe fatto lei nei miei panni l'avrei accompagnata ci si intende così feci risalendo con lei questo po' di sentiero di fianco alla ruota del mulino e di là poi conducendola sul ponticello che cavalca la caduta dell'acqua ed ecco ci sono anch'io disse ridendo la signorina Wilson ma lei ora mi precede e soffrirà che io passi avanti per rifarle questo importante episodio la signora aveva paura molta paura ed io dovetti prenderla per mano così per l'appunto dissi offremendo al contatto della mano di Galatea e tremava dunque può immaginarselo con la paura che aveva strano dissella ora mi pare che tremi lei signor Morelli capisco forse è per il ricordo le pare a me pare invece che lei voglia ridersi un pochino di me ma basta seguitiamo qui poi siamo all'argine del bottaccio riprese la signorina all'argo adunque non c'è più bisogno di tenersi per mano infatti è vero dissi io lei intende le cose signorina e le rifà come se fosse stata presente ma badi che l'argine non continua sempre così forte e così largo c'è ora quest'altro punticello che cavalca lo sportello della cateratta a questo punto fu un altro guaio la signora non si peritava più di venire avanti da sola né si poteva andar tutti e due sulla medesima fronte allora allora le fu necessario aggrapparsi alla mia spalla che sciocca che sciocca gridò galatea ma a questo modo si vuolegli andare in campagna non c'è posto per camminare in due qui ebbene si va da soli e se occorre si passa avanti al compagno così senza tante paure e mandava gli atti compagni alle parole aveva posata la mano sinistra sulla mia spalla destra assai leggermente che appena l'avevo sentita e di lancio mi era passata di fianco per correr via davanti a me sul colmo dell'argine toccando a malapena il terreno con la punta dei piedi e volli correre anch'io per raggiungerla ma proprio in quel punto che alzavo il piede a mia volta inciampai in qualche cosa che non avevo avvertito e mi ritrovai di punta in bianco per aria ci fossi almeno rimasto sarebbe stato un miracolo ma no non ci stetti niente più del tempo necessario alla caduta dei gravi e precipitai nel bottaccio facendo un tonfo rumoroso nell'acqua che era alta almeno un uomo e mezzo in quel punto che cos'era un'alzata d'ingegno e di buci il nostro buon cane era stato modestamente il terzo finché Galatea era stata seconda ma come ebbe veduto lei farmisi avanti e correre veloce sull'argine il signor buci non istette alle mosse volle essere lui il secondo e si cacciò avanti senza badare a me suo legittimo padrone e degno del massimo rispetto non fosse altro per le venti lire che avevo buttate via a riscattarlo dalla schiavitù di Corsenna si cacciò avanti ho detto il sentiero bastava appena per me ed egli strisciò contro le gambe mie proprio al momento che io levavo il passo per correre dietro alla mia fuggitiva così avvenne che io perdessi l'equilibrio e mi ritrovassi in acqua prima di aver visto il pericolo al tonfo che io feci si volse Galatea e mise un grido di spavento ma il grido non poteva far niente al caso mio piuttosto poteva giovare il consiglio che ella mi gittò in mezzo ai latrati di buci nuoti verso l'argine non si lasci trascinare dal filo della corrente io non sono stato mai un gran nuotatore nel cospetto di Dio ma se anche fossi stato meno sberce di quel che sono credo che non mi sarei cavato con le mani mie dal pericolo di stamane perché non ero più in tempo di seguire il consiglio di Galatea nella confusione del momento e pestando l'acqua alla guisa dei cambarboni mi ero ritrovato per l'appunto nel bel mezzo del bottaccio non riuscendo a far cammino controcorrente né a tirarmi destramente da un lato il caso mio poteva dirsi disperato perché di laggiù dal mulino nessuno mi poteva sentire se avessi gridato al soccorso essendo la gran ruota in movimento e la cascata facendo un rumore d'inferno la signorina Kathleen era corsa indietro a furia e mi incitava con la voce a piegare quanto potessi verso di lei ma ella non istette molto a capire che il filo della corrente era più forte di me nuotatore malpratico e appena ebbe capito non pose tempo in mezzo com'era là vestita di tutto punto si buttò in acqua e mi afferrò per una mano tirandomi forte a sé fuori della corrente descrissi io credo un mezzo cerchio nell'acqua e mi ritrovai vicino allo sportello della cateratta al cui anello di ferro fui pronto ad aggrapparmi con la furia disperata del naufrago si bravo respiri mi disse Galateri diventata ninfa marina per me quantunque in acqua dolce e adesso se può notare ad agino né ad agino né altrimenti risposi ho le mani intormentite da certi colpi dell'altra settimana e mi è tornato il dolore acutissimo anche il duello ci voleva e facciamo altrimenti veda di attaccarsi ad un lembo della mia veste così leggero per non tirarmi sott'acqua che s'affogherebbe in due nuoterò io ma lei si tenga quanto più le viene fatto rasento all'argine e spinga coi piedi non avrà mica intormentite le gambe bravo così va bene avanti sempre e voi taceti di lassù perfido cane gridai raffidato da quella buona andatura e cercando di volgere il nostro caso in burletta siete voi che m'avete fatto incespicare obbligando galatea la più candida delle ninfe a seguirmi nell'acqua lasci star galatea rispose la mia nuotatrice quella poverina rimorso d'essersi messa a correre come una bambina matta perché rimorso se tutti i miei mali hanno da essere come questo io ne invocherò uno al giorno dalla misericordia divina sì bravo si preghi anche un reo ma di sella ridendo e lo preghi a me pure faccia meglio per ora si rizzi in piedi perché qui si tocca e via presto presto verso la stretta del bottaccio ma si tenga ancora all'argine che oramai come vede si può afferrarne già l'orlo qua qua è fuori di pericolo sia lodato il signore siamo usciti di là tutti inzuppati abbattendo un po' i denti all'aperto non si poteva andare col rischio di abbatterci in qualche d'uno che vedesse il nostro stato tanto compassionevole si rideva come due ragazzacci che venissero via da qualche impresa un po' matta e si andava frattanto lungo la siepe delle carpinelle avviati al rivolo dell'acqua scosa dove peraltro così bagnati fino all'osso non avremmo potuto rimanere che peccato le dissi si doveva star qui un'ora almeno e finire la storia incominciata un'ora esclamò doveva durar tanto quella brutta storia no quella poteva essere finita in due minuti tanto era vuota ma ce ne sarebbero rimasti cinquantotto per ragionare di cose più liete ah volevo ben dire ma ciò che non mi può raccontare quest'oggi mi potrà raccontare un altro giorno domani anche domani veda di rammentarsela bene oh non dubiti l'ho scritta tutta nel mio memoriale ed ella potrà confrontare capisco ella ha una gran voglia che io legga il suo memoriale sicuramente c'è tutta la mia giustificazione è niente la sua glorificazione gli autori di memoriali sono tutti così non io signorina vedrà se si degna di leggerlo che spesso mi tratto secondo i meriti miei così ragionando si era giunti a quello che si potrebbe chiamare il passo della contessa di qui signorina disse io bisogno saltare il rivolo per salire da quell'orto ai casali di santa giustina ho ben capito mi rispose galatea di qui era saltato anche il cane buci soggiunse ella voi conoscete la strada animo su buci saltò l'acqua ed ella dietro a buci volevo saltare ancor io ma ella mi trattenne col gesto alto là disse poi vado dalla buona annunziata a rasciugare i miei abiti non potrei mica ritornare in paese così e lei signor morelli deve fare altrettanto a casa sua che per andarci non ha da passare per l'abitato intanto con quel bagno che ha preso si è levato di dosso un certo odore di pelle di spagna che non era niente piacevole e noti che io lo gradivo in altri tempi ma da parecchie settimane non so come mi era venuto annoia non si è cattiva la supplico quando avrà letto si si ma vada a casa poverino che è tutto immollato vada a casa e si cambia la svelta andrò ma ad un patto dei patti a me si a lei e favorisca di ripetere le mie parole che mi lasci che la lasci parlare quest'oggi parlare quest'oggi a nostra madre galatea rimase un istante perplessa ma tosto vedendo il brutto senso che il suo silenzio faceva su di me gridò in tenerita si si a nostra madre non è dunque più lecito di fare una piccola pausa per meditare per gustare un bel modo di dire e mi stese la mano che io afferrai prontamente e lungamente e divotamente baciai oh sirei dio questa è felicità grande e piena e senza misura buci gran cane io vi farò fare certamente un simulacro di bronzo corsi a precipizio verso il viare dei pioppi valicai il fiume di sotto al pancone e cinque minuti dopo ero al giardinetto per mutare abiti un'ora prima che galatea ritornasse a casa c'ero già io e faceva un breve ma solenne discorso alla signora wilson che già abbastanza mi conosceva e mi voleva bene contro i meriti miei da non sapermi dire di no e da non pigliar tempo a rispondermi come esclamò la signorina stupita vedendomi lei qui io per l'appunto risposi e se non temessi di dispiacerle con la mia tracotanza le riferirei quel che ho finito di dire a sua madre e se non volessi lasciare a sua madre l'incarico di persuaderla le soggiungerei che la buona signora per conto suo risponderebbe volentieri di sì ad una mia calda e rispettosa domanda eh mormorò la signora wilson mi pare che il nostro signor rinaldo non mi lasci più niente da fare che ne pensi tu kitty o piuttosto caitlin come bisognerà dire oramai per far piacere a lui mamma gridò galatea e non poté proferire una parola di più ma intanto si gittava nelle braccia della madre scoccandole sulle guance due baci che mi parvero fratelli germani di quelli che io avevo impresso tre ore prima sulla cara sua mano fine del capitolo diciannovesimo capitolo ventesimo di galatea questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol galatea di Anton Giulio Barrili capitolo ventesimo galatea forever 21 settembre 1800 tiriamo le somme io ho 35 anni e galatea ne ha 21 forse sono un po' troppo vecchio per lei ma c'è chi sostiene che l'uomo debba avere 10 o 12 anni più della moglie essendo ragionevole che gli abbia giudizio per due a questo patto io sono ancora troppo giovane e mi consolo pensando che il dente del giudizio non mi è nato ancora una pazzia avrò causato di fare non terminando il mio don Giovanni poco male del resto ero appena al settimo canto e il mio disegno avrebbe portato il poema ai 40 ha ragione Filippo Ferri perché darsi pensiero della posterità la quale non si darà pensiero di noi e farà bene dal canto suo noi dal nostro ci leveremo il gusto di mandarle qualche saggio del nostro valore ma non in carta stampata in carne ed ossa piuttosto in buona salute e di ottimo umore che sappia ridere di lei vedendola fare le medesime sciocchezze ond'era allegrato il secolo nostro non dissimile in ciò dai passati del resto se il mondo durerà ancora nel secolo ventesimo et ultra sarà sempre in forza di una buona consuetudine che noi abbiamo ereditata dai nostri maggiori quella di prender moglie e di far famiglia buona consuetudine che io non raccomanderò mai abbastanza ai miei cari ed amati contemporanei galatea leggerà questa sera il mio memoriale l'ha chiesto ed io glielo porterò condotto diligentemente fin qui lo giudicherà e se vorrà condannarlo alle fiamme non sarò per lagnarmene le cose buone e piacevoli che ci sono registrate le ho tutte scolpite nel cuore non è necessario che rimangano scritte sulla carta e finalmente io voglio inaugurare l'altra buona consuetudine di far tutto ciò che a lei piacerà l'umano consorzio va male da che il codice costringe le mogli ad obbedire ai mariti chissà che non voglia andare un po' meglio se i mariti prenderanno il verso d'obbedire alle mogli 22 settembre 1800 ho letto e scrivo io Galatea prima di tutto mi piace il nome e lo assumo per mio direi una bugia se soggiungessi che mi piace ugualmente tutto ciò che è scritto in questo memoriale del signor Rinaldo Morelli vedo che la pelle di Spagna è stata lì per dare al cervello del mio fidanzato e non saprei consolarmene se non rendessi giustizia alla sua sincerità che sovra ogni altra cosa mi è cara forse anche lo scrittore si è lasciato un po' vincere la mano dal suo ipogrifo e l'amor della frase lo ha condotto oltre i termini del vero teniamo conto anche di questo e conchiudiamo col nostro Shakespeare che all's well that ends well in casa mia e del resto non entrerà pelle di Spagna ne faccio promessa formale ma io non sarò prepotente e qualche freno accetterò ancora io per esempio non giocherò più all'home tennis che idea peraltro non amare un gioco tanto bello ma sui gusti non si discute ciò che non piace a lui non piacerà a me di sicuro in un'altra cosa ci troviamo pienamente d'accordo il simulacro di bronzo a Bucci Bucci lo ha meritato ha veramente corso il rischio di guastar sulla fine quello che aveva cominciato ma quello che aveva cominciato era buono vedi il memoriale di Rinaldo al capitolo quarto e ne sia l'ode a Bucci sapientissimo cane che ride senza far rumore e pensa ottime cose dei suoi amici senza tingersi le dita d'inchiostro il guaio intanto è accaduto a me con che coraggio stenderò io la mano a Rinaldo specie sapendo per esperienza recente che egli basta sarà quel che sarà intanto non gli neghiamo il visto si approva Galatea ma che inchiostro che inchiostro ho paura io dell'inchiostro vi siete persuasa ora è fuggita si capisce dopo avermi accoccato quello che l'iperlì le è venuto alla mano un gomitolo di refe sempre lei sempre lei viva Galatea Galatea for ever ma non senza una giunta intendiamoci Galatea Morelli sa addire sarete meno mitologica mia dolce bambina ma tanto più vera e sommamente piacevole a me Rinaldo fine di Galatea di Anton Giulio Barrili